le otto montagne mio padre aveva il suo modo di andare in montagna poco incline alla meditazione tutto caparbietà e spavalderia saliva senza dosare le forze sempre in gara con qualcuno o qualcosa e dove il sentiero gli pareva lungo tagliava per la linea di massima pendenza con lui era vietato fermarsi vietato lamentarsi per la fame o la fatica o il freddo ma si poteva cantare una bella canzone specie sotto il temporale o nella nebbia fitta e lanciare ululati buttandosi giù per i nevai mia madre che l'aveva conosciuto da ragazzo diceva che lui non aspettava nessuno nemmeno allora tutto preso a inseguire chiunque vedesse più in alto perciò correva aver buona gamba per rendersi desiderabili ai suoi occhi e ridendo lasciava intendere di averlo conquistato così lei più tardi alle corse cominciò a preferire sedersi nei prati o immergere i piedi in un torrente o riconoscere i nomi delle erbe dei fiori anche in vetta le piaceva soprattutto osservare le cime lontane pensare a quelle della sua giovinezza e ricordare quando c'era stata e con chi mentre mio padre a quel punto veniva invaso da una specie di delusione e voleva soltanto tornarsene a casa credo fossero reazioni opposte alla stessa nostalgia i miei erano emigrati in città verso i trent'anni lasciando il veneto contadino in cui mia madre era nata e mio padre era cresciuto da orfano di guerra le loro prime montagne il primo amore erano state le dolomiti le nominavano a volte nei loro discorsi quando ero ancora troppo piccolo per seguire la conversazione ma sentivo certe parole spiccare come suoni più squillanti con più significato il catinaccio il sasso lungo le tofane la marmolada bastava uno di questi nomi pronunciati da mio padre per far brillare gli occhi a mia madre erano i posti dove si erano innamorati dopo un po lo capì anch'io fu un prete a portarceli da ragazzi e fu lo stesso prete a sposarli ai piedi delle tre cime di lavaredo davanti alla chiesetta che c'è lì una mattina d'autunno quel matrimonio di montagna era il mito fondativo della nostra famiglia osteggiato dai genitori di mia madre per motivi che non conoscevo celebrato tra quattro amici con le giacche a vento come abiti inuziali e un letto al rifugio a oronzo per la prima notte da marito e moglie la neve brillava già sulle cenge nella cima grande era un sabato di ottobre del 1972 la fine della stagione alpinistica per quello e molti anni a venire il giorno dopo caricarono in macchina gli scarponi di cuoio i pantaloni alla zuava la gravidanza di lei e il contratto di assunzione di lui e se ne andarono a milano la calma non era una virtù che mio padre tenesse in considerazione ma in città gli sarebbe servita più del fiato a milano il panorama c'era negli anni 70 abitavamo in un palazzo affacciato su un ampio viale di traffico sotto il cui asfalto dicevano scorreva il fiume eolona è vero che nei giorni di pioggia la strada si allagava e io immaginavo il fiume la sotto ruggire al buio gonfiarsi fino a esondare dai tombini ma era l'altro fiume quello fatto di auto furgoni motorini camion autobus ambulanze a essere sempre in piena stavamo in alto al settimo piano le due file di edifici gemelli da cui la strada era arginata amplificavano il frastuono certe notti mio padre non ne poteva più si alzava dal letto spalancava la finestra come se volesse insultare la città intimarle il silenzio o rovesciarle addosso della pece bollente stava lì un minuto a guardare di sotto poi si infilava la giacca e usciva a camminare da quei vetri vedevamo molto cielo bianco uniforme indifferente alle stagioni solcato solo dal volo degli uccelli mia madre sostinava a coltivare fiori su un balconcino annerito dal fumo e ammuffito da piogge secolari in balcone curava le sue piantine intanto mi raccontava dei vigneti d'agosto nella campagna in cui era cresciuta o delle foglie di tabacco appese alle pertiche negli essiccatoi o degli asparagi che per restare teneri e bianchi dovevano essere colti prima che spuntassero perciò serviva un talento speciale a vederli ancora sotto la terra ora quell'occhio le era utile in tutt'altro modo aveva fatto l'infermiera in veneto ma a milano ottenne un posto da assistente sanitaria al quartiere degli olmi nella periferia occidentale della città tra le case popolari era una qualifica appena creata così come il consultorio familiare in cui operava con l'idea di aiutare le donne durante la gravidanza e poi seguire il neonato fino a un anno di vita era il lavoro di mia madre e le piaceva soltanto che dove l'avevano mandata a farlo assomigliava più che altro a una missione di olmi da quelle parti ce n'erano ben pochi tutta la toponomastica del quartiere con le sue vie degli ontani degli abeti dei larici delle betulle suonava beffarda tra i casermoni a 12 piani infestati da mali di ogni tipo tra i compiti di mia madre c'era quello di andare a controllare l'ambiente in cui il bambino cresceva ed erano visite che poi la lasciavano scossa per giorni nei casi più gravi doveva fare denuncia al tribunale dei minori le costava fatica arrivare a tanto oltre che una certa dose di insulti e minacce eppure non dubitava che fosse la decisione giusta non era l'unica a crederci alle assistenti sociali alle educatrici alle maestre la legava a un profondo spirito di corpo come un senso di responsabilità femminile e collettivo verso quei bambini mio padre invece era sempre stato un solitario faceva il chimico in una fabbrica di 10.000 operai perennemente agitata da scioperi e licenziamenti e qualunque cosa succedesse là dentro la sera ne tornava carico di rabbia a cena fissava il telegiornale in silenzio impugnando le posate a mezz'aria come se si aspettasse da un momento all'altro lo scoppio di un'altra guerra mondiale e imprecava tra sé alla notizia di ogni morto ammazzato ogni crisi di governo ogni aumento dei prezzi del petrolio ogni bomba dai mandanti incerti coi pochi colleghi che invitava a casa discuteva quasi solo di politica e finiva sempre per litigare faceva l'anticomunista coi comunisti il radicale coi cattolici il libero pensatore con chiunque pretendesse di inquadrarlo in una chiesa in una sigla di partito ma quelli non erano tempi per sottrarsi alle coscrizioni e dopo un po i colleghi di mio padre smisero di venire a casa lui invece continuò ad andare in fabbrica come se dovesse calarsi in trincea ogni mattina e a non dormire la notte a stringere le cose con troppa forza a usare tappi per le orecchie e pastiglie per il mal di testa a sbottare in violente attacchi d'ira allora entrava in azione mia madre che tra i doveri di coppia si era presa anche quello di ammansirlo a tutire i colpi nella rissa tra mio padre e il mondo in casa parlavano ancora in dialetto veneto alle mie orecchie era un linguaggio segreto tra loro due ecco di una vita precedente e misteriosa un residuo del passato così come le tre foto che mia madre aveva esposto sul tavolino all'ingresso mi fermavo spesso a osservarle la prima ritraeva i suoi genitori a venezia durante l'unico viaggio che avessero mai fatto regalo del nonno alla nonna per le nozze d'argento nella seconda l'intera famiglia era in posa nella stagione della vendemmia i nonni seduti al centro del gruppo tre ragazzi e un ragazzino in piedi intorno a loro i cesti d'uva sull'aio della cascina nella terza quell'unico figlio maschio mio zio sorrideva insieme a mio padre accanto a una croce di vetta con una corda arrotolata sulla spalla in abiti da alpinista era morto giovane e per questo portavo il suo nome benché io fossi pietro e lui piero nel nostro lessico familiare eppure di tutte quelle persone non conoscevo nessuno a trovarle non mi portarono mai nel loro capitavano in visita a milano alcune volte all'anno mia madre prendeva un treno il sabato mattina tornava la domenica sera un po più triste di quando era partita poi si faceva passare la tristezza e la vita continuava c'erano troppe cose da fare persone a cui badare per coltivare malinconie ma quel passato saltava fuori quando meno te l'aspettavi in macchina nel lungo giro che doveva portare me a scuola mia madre al consultorio e mio padre in fabbrica certe mattine lei intonava una vecchia canzone attaccava la prima strofa nel traffico e dopo un po lui la seguiva erano ambientate in montagna durante la grande guerra la tradotta la val sugana il testamento del capitano storie che ormai conoscevo a memoria anch'io in 27 erano partiti per il fronte ed erano tornati a casa solo in cinque laggiù sul piave restava una croce per una madre che prima o poi sarebbe andata a cercarla un'amorosa lontana aspettava sospirava poi si stancava di aspettare e sposava qualcun altro chi moriva le dedicava un bacio e per sé chiedeva un fiore c'erano parole in dialetto in queste canzoni così capivo che i miei genitori se l'erano portate dietro dalla loro vita di prima ma intuivo anche qualcosa di diverso e più e cioè che le canzoni chissà come parlavano di loro due di loro due in persona intendo altrimenti non si spiegava la commozione che le loro voci tradivano così chiaramente poi in certi rari giorni di vento in autunno in primavera in fondo ai viali di milano comparivano le montagne succedeva dopo una curva sopra un cavalcavia all'improvviso e gli occhi dei miei genitori senza bisogno che uno indicasse all'altra correvano subito lì le cime erano bianche il cielo insolitamente azzurro una sensazione di miracolo qua giù da noi c'erano le fabbriche in tumulto le case popolari sovraffollate gli scontri di piazza i bambini maltrattati le ragazze madri lassù la neve mia madre allora chiedeva che montagne erano e mio padre si guardava intorno come orientando la bussola nella geografia urbana questo cos'è via le monza via le zara allora è la grigna diceva dopo averci pensato un po su sì mi sa che è proprio lei io mi ricordavo bene la storia la grigna era una guerriera bellissima e crudele faceva uccidere a colpi di frecce i cavalieri che salivano a dichiararle amore così dio l'aveva punita trasformandola in montagna e adesso era lì nel parabrezza a lasciarsi ammirare da noi tre ognuno con un pensiero diverso e muto poi il semaforo scattava un pedone attraversava di corsa qualcuno da dietro suonava il clacson mio padre lo mandava a quel paese e ingrenava la marcia con furia accelerando via da quel momento di grazia venne la fine degli anni settanta e mentre milano era a ferro e fuoco loro due rimisero gli scarponi ai piedi non puntarono a est da dove erano venuti ma a ovest come proseguendo la fuga verso l'ossola la valsesia la val d'aosta montagne più alte e severe mia madre poi mi avrebbe raccontato che la prima volta fu invasa da un inatteso senso di oppressione rispetto ai profili dolci del veneto e del trentino quelle valli occidentali le sembravano anguste buie chiuse come gole la roccia era umida e nera torrenti e cascate scendevano dappertutto quanta acqua pensò deve piovere moltissimo qui non si rendeva conto che tutta quell'acqua nasceva da una sorgente eccezionale né che lei e mio padre ci stavano andando proprio incontro risalirono la valle finché non furono abbastanza in alto da uscire di nuovo al sole la su il paesaggio si aprì e all'improvviso davanti ai loro occhi avevano il monte rosa un mondo artico un eterno inverno che incombeva sui pascoli estivi mia madre ne fu spaventata mio padre invece diceva che fu come scoprire un altro ordine di grandezza arrivare dalle montagne degli uomini e ritrovarsi in quelle dei giganti e naturalmente se ne innamorò a prima vista non conosco il luogo esatto di quel giorno chissà se era macugnaga alagna gressoni a yas ci spostavamo ogni anno allora inseguendo l'irrequieto nomadismo di mio padre tutto intorno alla montagna che l'aveva conquistato più che le valli ricordo le case se così si possono chiamare affittavamo un bungalow in un campeggio o una stanza in qualche pensione di paese e ci restavamo per due settimane non c'era mai abbastanza spazio per rendere quei posti accoglienti né tempo per affezionarsi a nulla ma queste cose mio padre non interessavano e nemmeno se ne accorgeva appena arrivati si cambiava d'abito prendeva dalla borsa la camicia scacchi i pantaloni di velluto il maglione di lana di nuovo nei suoi vecchi panni diventava un altro uomo passava quella breve vacanza in giro per i sentieri uscendo la mattina presto e tornando la sera o il giorno dopo impolverato bruciato dal sole stanco e felice a cena ci raccontava di camosci e stambecchi di notti in bivacco di cieli stellati della neve che in alto cadeva anche in agosto e quando era davvero contento concludeva avrei proprio voluto avervi lì con me il fatto è che mia madre sul ghiacciaio rifiutava di salire ne aveva una paura irrazionale e irremovibile diceva che per lei la montagna finiva a 3000 metri l'altezza delle sue dolomiti ai 3000 preferiva i 2000 i pascoli i torrenti i boschi e amava molto anche i mille la vita di quei paesi di legno e pietra quando mio padre era via le piaceva uscire a spasso con me bere un caffè in piazza leggermi un libro seduto in un prato chiacchierare un po con chi passava soffriva piuttosto i nostri continui spostamenti avrebbe voluto avere una casa da rendere sua e un paese a cui tornare lo chiedeva spesso a mio padre lui diceva che non c'erano soldi per pagare un altro affitto oltre a quello di milano lei contrattò una cifra da farsi bastare infine lui le permisa di mettersi in cerca la sera una volta sgomberati i resti della cena mio padre dispiegava sul tavolo una carta topografica e si metteva a studiare il sentiero del giorno dopo aveva accanto un libretto grigio del cai e mezzo bicchiere di grappa che ogni tanto sorseggiava mia madre si godeva quella sua parte di libertà sedendosi in poltrona o sul letto immergendosi in qualche romanzo per un'ora o due ci scompariva dentro ed era come se fosse da un'altra parte io allora salivo sulle ginocchia di mio padre per vedere che cosa faceva lo trovavo allegro e loquace tutto l'opposto del padre di città a cui ero abituato era contento di mostrarmi la mappa e insegnarmi come si leggeva questo è un torrente mi indicava questo un laghetto e quest'altro è un gruppo di baite qui dal colore puoi distinguere il bosco la prateria alpina la pietraia il ghiaccio queste linee curve indicano la quota più sono fitte e più la montagna è ripida fin dove non si riesce nemmeno a salire qui dove sono più rade la pendenza è dolce passano i sentieri vedi questi punti segnati da una quota indicano le cime è sulle cime che andiamo scendiamo solo quando arriviamo dove non si può più salire lo capisci no non potevo capire dovevo vederlo quel mondo che gli procurava tanta felicità anni dopo quando cominciamo ad andarci insieme mio padre diceva di ricordare perfettamente come si era manifestata la mia vocazione una mattina lui stava per uscire mentre mia madre dormiva e allacciando gli scarponi si era trovato davanti me vestito e pronto a seguirlo dovevo essermi preparato dentro il letto nell'oscurità l'avevo spaventato come se fossi più grande dei miei sei o sette anni ero già quello che sarei diventato dopo nel suo racconto la premonizione di un figlio adulto un fantasma del futuro non vuoi dormire ancora un po mi aveva chiesto a bassa voce per non svegliare mia madre io voglio venire con te avevo risposto o così sosteneva lui ma forse era solo la frase che gli piaceva ricordare parte prima montagna di infanzia 1 il paese di grana si trovava nella diramazione di una di quelle valli ignorata da chi passava di lì come una possibilità irrilevante chiusa in alto da creste grigio ferro e in basso da una rupe che ne ostacolava l'accesso sulla rupe le rovine di una torre sorvegliavano campi ormai inselvatichiti una strada sterrata si staccava dalla regionale e saliva ripida attornanti fino ai piedi della torre poi superandola si addolciva voltava sul fianco della montagna ed entrava nel vallone a mezza costa proseguendo in falso piano era luglio quando la imboccammo nel 1984 nei prati stavano falciando il fieno il vallone era più ampio di come sembrava da sotto tutto boschi sul lato in ombra e terrazzamenti al sole giù in basso tra le macchie di arbusti scorreva un torrente che ogni tanto intravedevo luccicare e quella fu la prima cosa di grana a piacermi leggevo romanzi d'avventura all'epoca era stato mark twain a trascinarmi all'amore per i fiumi pensai che laggiù si poteva pescare tuffarsi notare abbattere quel calberello e costruire una zattera e rapito da queste fantasie non mi accorsi del paese che era comparso dopo la curva è qui disse mia madre vai piano mio padre rallentò a passo duomo fin da quando eravamo partiti seguiva docile le indicazioni di lei si abbassò a destra e a sinistra nella polvere che l'auto sollevava guardando a lungo le stalle i pollai i fienili di tronchi i ruderi bruciati o crollati i trattori sul ciglio della strada le imballatrici due cani neri con un campanello al collo spuntarono da un cortile a parte un paio di case più recenti tutto il paese sembrava fatto della stessa pietra grigia della montagna e le stava addosso come un affioramento di rocce un'antica frana un po più in alto pascolavano le capre mio padre non disse niente mia madre che aveva scoperto quel posto per conto suo lo fece accostare in uno spiazzo e scese dalla macchina andando in cerca della padrona di casa intanto che noi due scaricavamo i bagagli uno dei cani ci venne incontro abbaiando e mio padre fece qualcosa che non gli avevo mai visto fare allungò una mano per lasciarsela annusare gli disse una parola gentile e lo accarezzò tra le orecchie forse se la cavava meglio con i cani che con gli uomini allora mi chiese mentre sganciava gli elastici dal portapacchi come ti pare bellissimo avrei voluto rispondere un odore di fieno stall legna fumo e chissà cos'altro mi aveva investito appena sceso dalla macchina carico di promesse ma non ero sicuro che fosse la risposta giusta così dissi a me non sembra male e a te mio padre scrollò le spalle alzò lo sguardo sopra le valigie diede un'occhiata alla baracca che avevamo davanti pendeva da una parte e sarebbe senz'altro crollata senza i due pali che la puntellavano dentro c'erano impilate delle balle di fieno e sopra il fieno una camicia di jeans che qualcuno si era tolto e dimenticato io ci sono cresciuto in un posto così disse senza lasciarmi capire se fosse un ricordo buono o cattivo afferrò la maniglia di una valigia e fece per tirarla giù ma poi gli venne in mente qualcos'altro mi guardò con un'idea in testa che doveva divertirlo parecchio secondo te il passato può passare un'altra volta è difficile dissi per non sbilanciarmi mi faceva sempre indovinelle di questo tipo vedeva in me un'intelligenza simile alla sua portata per la logica e la matematica e pensava fosse suo dovere metterla alla prova guarda quel torrente lo vedi disse facciamo finta che l'acqua sia il tempo che scorre se qui dove siamo noi è il presente da quale parte pensi che sia il futuro ci pensai questa sembrava facile diedi la risposta più ovvia il futuro è dove va l'acqua giù per di là sbagliato decretò mio padre per fortuna poi come se si fosse tolto un peso disse oppala la parola che usava quando sollevava anche me e la prima delle due valigie cadde a terra con un tonfo la casa che mia madre aveva preso in affitto stava nella parte alta del paese in una corte raccolta intorno a una beveratoio portava i segni di due diverse origini la prima era quella dei muri dei balconi di larice annerito del tetto in lose coperte di muschio del grosso comignolo foliginoso ed era un origine antica la seconda era soltanto vecchia un'epoca in cui dentro la casa erano stati posati fogli di linoleum sui pavimenti appesi poster floreali alle pareti fissati gli armadietti pensili e il lavello in cucina tutti già ammuffiti estinti solo un oggetto si riscattava da quella mediocrità ed era una stufa nera di ghisa massiccia e severa con la maniglia di ottone e quattro fuochi su cui cucinare doveva essere stata recuperata da un altro luogo e un altro tempo ancora ma penso che mia madre piacesse soprattutto quello che non c'era perché aveva trovato in effetti poco più di una casa vuota chiesi alla proprietaria se potevamo metterla un po a posto e lei si limitò a rispondere fate come volete non la affittava da anni e di certo non si aspettava di affittarla quell'estate aveva modi bruschi ma non era scortese credo fosse in imbarazzo perché stava lavorando nei campi e non si era potuta cambiare consegnò mia madre una grossa chiave di ferro finì di spiegarle qualcosa sull'uso dell'acqua calda protestò brevemente prima di accettare la busta che lei aveva preparato mio padre non c'era già più da un pezzo per lui una casa valeva l'altra e il giorno dopo doveva essere in ufficio era uscito in balcone a fumare le mani sulla ringhiera di legno ruvido gli occhi alle cime sembrava che le stesse studiando per capire da dove sferrare l'attacco rientrò dopo che la padrona di casa se n'era andata via così aveva risparmiato i saluti con un umore cupo che nel frattempo gli era calato addosso disse che andava a comprare qualcosa per pranzo e che voleva rimettersi in macchina prima di sera in quella casa una volta partito lui mia madre tornò una versione di sé che non avevo mai conosciuto la mattina appena alzata dal letto ammuchiava dei legnetti nella stufa appallottolava un foglio di giornale e strofinava un fiammifero sul ruvido della ghisa non la disturbava il fumo che allora si diffondeva in cucina né la coperta che tenevamo addosso intanto che la stanza si scaldava né il latte che più tardi tracimava dal bricco e si bruciava sulla piastra rovente per colazione mi dava pane a brustolito e marmellata mi lavava sotto il rubinetto sciacquandomi la faccia il collo e le orecchie poi mi asciugava con uno strofinaccio e mi spediva fuori che andassi a prendere vento e sole e perdessi finalmente un po della mia delicatezza urbana in quei giorni il torrente diventò il mio terreno d'esplorazione c'erano due confini che mi era vietato superare in alto un ponticello di legno oltre il quale le rive si facevano più ripide e si stringevano in una gola e in basso la boscaglia ai piedi della rupe dove l'acqua proseguiva verso il fondo valle era il tratto che mia madre riusciva a controllare dal balcone di casa ma valeva un intero fiume il torrente veniva giù a balzi all'inizio cadendo in una serie di rapide schiumanti tra grandi masse da cui mi sporgevo a osservare i riflessi argentati del fondo più in là rallentava e si diramava come se da giovane che era diventasse adulto e tagliava isolotti colonizzati dalle betulle dove potevo attraversare saltando fino alla sponda opposta oltre ancora un intrico di legname formava uno sbarramento in quel punto scendeva un canalone ed era stata la slavina d'inverno a tirar giù tronchi e rami che ora marcivano nell'acqua ma io di queste cose all'epoca non sapevo nulla per me era il momento della sua vita in cui il torrente trovava un ostacolo si fermava e si intorbidiva ogni volta finivo per sedermi lì a guardare le alghe che ondeggiavano appena sotto la superficie c'era un ragazzino che pascolava le mucche nei prati lungo la riva secondo mia madre era il nipote della nostra padrona di casa portava sempre con sé un bastone giallo di plastica dal manico ricurvo con cui spronava le mucche su un fianco per spingerle in giù verso l'erba alta erano sette pezzate castane giovani e irrequieti il ragazzino le sgridava quando se ne andavano per conto loro e capitava che all'una o all'altra corresse dietro imprecando mentre al ritorno risaliva il pendio e si voltava a chiamarle con un verso così oppure e e e al pascolo si sedeva per terra e le controllava dall'alto intagliando un legnetto con il coltello a serramanico non puoi stare lì mi disse l'unica volta che mi parlò perché chiesi pesti l'erba e dove posso stare di là indicò l'altra sponda del torrente non vedevo come arrivarci da dove ero ma non volevo chiederlo a lui né negoziare un transito sulla sua erba così entrai in acqua senza levarmi le scarpe cercai di star dritto nella corrente e di non mostrare alcuna esitazione come se guardare i fiumi fosse cosa di tutti i giorni per me attraversai mi sedetti su masso con i calzoni fradici e le scarpe che gocciolavano ma quando mi voltai il ragazzino non badava più a me passammo dei giorni in quel modo lui su una riva e io sull'altra a non degnarci di uno sguardo perché non vai a farsi amicizia mi chiese mia madre una sera davanti alla stufa la casa era impregnata dell'umidità di troppi inverni così accendevamo il fuoco per cena e poi restavamo a scaldarci fino all'ora di andare a dormire ciascuno dei due leggeva il suo libro e ogni tanto tra una pagina e l'altra ravvivava la fiamma e la conversazione la grande stufa nera ci ascoltava ma come faccio risposi non so cosa dire gli dici ciao gli chiedi come si chiama gli chiedi come si chiamano le sue mucche si buonanotte dissi fingendomi assorto nella lettura nei rapporti sociali mia madre era già molto più avanti di me siccome di negozi in paese non ce n'erano mentre io esploravo il mio torrente lei aveva scoperto la stalla dove comprare latte e formaggio l'orto che vendeva qualche tipo di verdura e la segheria in cui procurarsi gli scarti di legname si era accordata anche con il ragazzo del caseificio che passava mattina e sera in furgone per ritirare i bidoni del latte perché le portasse il pane e un po di spesa e non so come dopo una settimana aveva peso delle fioriere in balcone e le aveva riempite di gerani ora la nostra ora la nostra casa si riconosceva da lontano e avevo già sentito i rari abitanti di grana salutare chiamandola per nome comunque non importa dissi un minuto dopo che cos'è che non importa fare amicizia a me piace anche stare da solo ah sì disse mia madre alzò gli occhi dalla pagina e senza sorridere come se fosse una questione molto seria aggiunse sei sicuro così decise di aiutarmi lei non tutti sono della stessa idea ma mia madre credeva fermamente nella necessità di intervenire nella vita degli altri un paio di giorni dopo in quella stessa cucina trovai il ragazzino delle mucche che faceva colazione seduto sulla mia sedia lo annusai per la verità prima di vederlo perché aveva addosso lo stesso odore di stalla fieno latte cagliato terra umida e fumo di legna che per me da allora è sempre stato l'odore della montagna e che ho ritrovato in qualunque montagna del mondo si chiamava bruno guglielmina il cognome era quello di tutti a grana tenne a spiegarci ma il nome bruno ce l'aveva soltanto lui era di pochi mesi più vecchio di me dato che era nato nel 72 ma in novembre divorava i biscotti che mia madre gli offriva come se non ne avesse mai mangiato in vita sua l'ultima scoperta fu che non solo io avevo studiato lui giù al pascolo ma lui aveva studiato me mentre tutte e due fingevamo di ignorarci a te piace il torrente vero mi chiese sì sai nuotare un po pescare mi sa di no vieni ti faccio vedere una cosa disse così e saltò giù dalla sedia io scambiai un'occhiata con mia madre poi gli corsi dietro senza pensarci due volte bruno mi portò in un posto che conoscevo dove il torrente passava all'ombra del ponticello sotto voce quando fumo sulla riva mi ordinò di stare il più possibile zitto e nascosto poi si sporse appena appena da un masso quel che bastava per spiare di là con la mano mi fece segno di aspettare mentre aspettavo lo guardai aveva capelli biondo canapa e il collo bruciacchiato dal sole portava calzoni di una misura non sua arrotolati alle caviglie e cadenti sul cavallo da caricatura di uomo adulto aveva anche i modi di un adulto una specie di gravità nella voce e nei gesti con un cenno mi ordinò di raggiungerlo e io obbedì mi sporsi dal masso per guardare dove guardava lui non sapevo che cosa dovevo vedere lì dietro il torrente formava una cascatella e una piccola pozza ombrosa profonda forse fino al ginocchio l'acqua era mossa in superficie aggettata dallo scroscio della caduta ai margini galleggiava un dito di schiuma e un grosso ramo incastrato di traverso aveva raccolto erba e foglie fradice non era niente quello spettacolo solo acqua che scorreva giù per la montagna eppure mi incantava ogni volta e non sapevo perché dopo un po' che scrutavo la pozza vidi la superficie rompersi appena e mi accorsi che lì dentro c'era qualcosa di vivo una due tre quattro ombre affusolate con il muso contro la corrente solo la coda che si muoveva piano in orizzontale a volte una delle ombre si spostava di scatto e si fermava in un altro punto e a volte emergeva con il dorso e poi tornava di sotto ma sempre guardando verso la cascatella eravamo più a valle rispetto a loro per questo non ci avevano ancora visti sono trote sussurrai pesci disse bruno e stanno sempre lì non sempre a volte cambiano buca ma cosa fanno cacciano rispose lui a cui la cosa sembrava del tutto naturale io invece la stavo imparando in quel momento avevo sempre pensato che un pesce nuotasse nel verso dell'acqua come verrebbe più facile e non che spendesse le sue forze a resistere controcorrente le trote muovevano la coda di quel che bastava per restare immobili avrei voluto sapere che cosa cacciavano forse i moscerini che vedevo volteggiare sul pelo dell'acqua e restare come intrappolati osservai per un po' la scena cercando di capirla meglio prima che bruno se ne stufasse di colpo balzò in piedi agitò le braccia e all'istante le trote sfrecciarono via andai a vedere erano fuggite dal centro della pozza in ogni direzione guardai nell'acqua e tutto quello che vidi fu la ghiaia bianca e azzurra dal fondo e poi dovetti lasciar perdere per inseguire bruno che risaliva di corsa largine opposto del corrente poco più in su un edificio solitario si affacciava sulla riva come la casa di un guardiano andava in rovina tra le ortiche i rovi di lamponi i nidi delle vespe che seccavano al sole ce n'erano tanti in paese di ruderi come quello bruno posò le mani sui muri di pietra lì dove si univano in uno spigolo tutto fessure si tirò su e in due passaggi fu alla finestra del primo piano dai disse affacciandosi da lassù poi però si scordò di aspettarmi forse perché non gli sembrava niente di difficile o perché non gli passava per la testa che avessi bisogno di aiuto o solo perché era abituato così che facile o difficile ognuno se la cavasse da solo lo imitai come potevo sentì la pietra scabra tiepida asciutta sotto le dita mi graffiai le braccia sul davanzale della finestrella guardai dentro e vidi bruno che si calava da una botola del solaio giù per una scala a pioli che portava di sotto credo avessi già deciso che l'avrai seguito ovunque laggiù nella semi oscurità c'era un locale suddiviso da muretti bassi in quattro vani delle stesse dimensioni simili a delle basche nell'aria stagnava un odore di muffa e legno marcio man mano che gli occhi si abituavano al buio vidi che il pavimento era disseminato di lattine bottiglie vecchi giornali camice ridotte a stracci scarpe sfondate parti di attrezzi arrugginiti bruno era chino su una grande pietra levigata bianca a forma di ruota posata in un angolo della stanza ma cos'è chiesi la mola disse poi aggiunse la pietra del mulino mi chinai vicino a lui a guardare sapevo che cos'era una mola ma non ne avevo mai vista una con i miei occhi allungai una mano quest'altra pietra era fredda viscida e nel foro centrale si era formato del muschio che rimaneva sui polpastrelli come fango verde senti le braccia bruciarmi per i graffi di prima dobbiamo metterla in piedi disse bruno perché così può rotolare ma dove come dove in giù no scossi la testa perché non capivo bruno me lo spiegò con pazienza la mettiamo in piedi la spingiamo fuori e poi la buttiamo giù per il torrente così i pesci saltano fuori dall'acqua e noi ce li mangiamo l'idea mi sembrò subito grandiosa e irrealizzabile quel macigno era troppo pesante per noi due ma era così bello immaginarlo rotolare giù e così bello immaginare noi stessi capaci di tanto che decisi di non fare obiezioni qualcuno doveva averci già provato perché sotto la mola tra la pietra e il pavimento erano stati conficcati due cunei da taglialegna entravano di quel che bastava per sollevarla dal terreno bruno raccolse un bastone robusto il manico di un piccone o di una pala e con un sasso cominciò a martellarlo dentro a quella fessura come un chiodo quando la punta si fu incastrata spinse il sasso sotto al manico e lo fermò con un piede adesso aiutami disse e che cosa devo fare andai a mettermi accanto a lui dovevamo spingere tutte e due verso il basso usando il peso dei nostri corpi per sollevare la mola così ci appendemmo insieme al manico e quando i miei piedi si staccarono da terra sentii per un momento che il macigno si muoveva era il sistema giusto quello che bruno aveva congegnato e con una leva migliore forse avrebbe potuto funzionare ma quel vecchio legno si incurvò sotto il nostro peso scricchiolò e infine si spezzò di schianto facendoci finire per terra bruno si ferì una mano bestemmiò e l'agitò per aria ti sei fatto male chiesi sasso di merda disse succhiandosi la ferita prima o poi ti muovo da lì salì per la scaletta e sparì di sopra spinto da una rabbia impulsiva e poco dopo lo sentì saltare giù dalla finestra e correre via quella sera nel mio letto faticai ad addormentarmi era l'eccitazione a tenermi sveglio venivo da un'infanzia solitaria e non ero abituato a fare le cose in due credevo anche in questo di essere uguale a mio padre ma quel giorno avevo provato qualcosa un improvviso senso di intimità che allo stesso tempo mi attirava e spaventava come un varco su un territorio ignoto per calmarmi cercai un'immagine nella mia testa pensai al torrente alla pozza alla cascatella alle trote che muovevano la coda per restare immobili alle foglie ai rametti che correvano oltre e poi alle trote che scattavano incontro alle loro prede cominciai a capire un fatto e cioè che tutte le cose per un pesce di fiume vengono da monte insetti rami foglie qualsiasi cosa se il punto in cui ti immergi in un fiume il presente pensai allora il passato è l'acqua che ti ha superato quella che va verso il basso e dove non c'è più niente per te mentre il futuro è l'acqua che scende dall'alto portando pericoli e sorprese il passato e a valle il futuro è a monte ecco come avrai dovuto rispondere a mio padre qualunque cosa sia il destino abita nelle montagne che abbiamo sopra la testa poi lentamente anche questi pensieri svanirono e restai in ascolto ormai ero abituato ai rumori notturni potevo riconoscerli uno a uno questa pensai è la fontana della beveratoio questo è il campanello di un cane che se ne va a spasso nella notte questo è il ronzio elettrico dell'unico lampione di grana mi chiesi se bruno nel suo letto ascoltava gli stessi suoni mia madre giro pagina in cucina mentre il crepitio della stufa mi collava verso il sonno per il resto di luglio non passò un giorno senza che ci incontrassimo o ero io a raggiungerlo al pascolo oppure bruno tirava un filo intorno alle sue mucche ci collegava la batteria di una macchina e capitava nella nostra cucina più che biscotti credo che gli piacesse mia madre gli piacevano le sue attenzioni lei lo interrogava apertamente senza giri di parole come era abituato a fare per lavoro e lui rispondeva tutto fiero che la sua storia interessasse a una signora di città tanto gentile ci raccontò di essere il più giovane abitante di grana nonché l'ultimo ragazzo del paese dato che non ce n'erano altri in arrivo suo padre stava via per buona parte dell'anno si faceva vedere di rado e soltanto d'inverno e appena sentiva aria di primavera ripartiva per la francia o la svizzera o ovunque trovasse un cantiere in cerca di operai sua madre in compenso non si era mai mossa di lì nei campi e sopra le case aveva un orto un pollaio due capre le arnie delle api il suo unico interesse era badare a quel piccolo regno quando la descrisse capì subito chi era una donna che avevo già visto passare spingendo una carriola o portando una zappa in un rastrello e che mi superava a testa china senza nemmeno accorgersi che c'ero lei e bruno abitavano a casa di uno zio marito della nostra padrona di casa proprietario di un po di pascoli e mucche da latte adesso questo zio era in montagna con i cugini più grandi bruno accennò alla finestra da dove in quel momento vedevo solo boschi e pietraie e aggiunse che lui li avrebbe raggiunti in agosto insieme alle mucche più giovani che gli avevano lasciato lì in montagna chiesi cioè in alpeggio sai cosa un alpeggio scossi la testa e gli zii sono bravi con te lo interruppe mia madre ma sì disse bruno c'è tanto da fare vai anche scuola però sì sì ti piace bruno scrollo le spalle non ci riusciva a dir di sì neanche per farla contenta e tua mamma e tuo papà si vogliono bene ora distorse lo sguardo arricciò le labbra in una smorfia che poteva voler dire no o forse un po o forse anche non era il caso di stare lì a discuterne a mia madre bastò come risposta ed evitò di insistere ma sapevo che qualcosa in quella conversazione non le era piaciuto non avrebbe lasciato perdere senza capire quando io e bruno uscivamo non parlavamo delle nostre famiglie ce ne andavamo in giro per il paese mai troppo lontano dalle sue mucche al pascolo per avventura esploravamo le case abbandonate a grana ce n'erano più di quante ne potessimo desiderare vecchie stalle vecchi finili e granai un vecchio emporio dagli scaffali polverosi e vuoti un vecchio forno per il pane annerito dal fumo ovunque gli stessi rifiuti che avevo visto al mulino come se per molto tempo dopo che quegli edifici erano andati in disuso qualcuno li avesse occupati malamente e poi lasciati di nuovo in certe cucine trovavamo anche il tavolo e la qualche piatto bicchiere nella dispensa la padella pesa il camino a grana nel 1984 abitavano 14 persone ma in altri tempi potevano essere state 100 un edificio dominava il centro del paese più moderno imponente delle case che gli stavano intorno aveva tre piani intonacati di bianco una scala esterna un cortile un muro di cinta in parte crollato entrammo da lì superando la sterpaglia che aveva invaso il cortile al pian terreno la porta era solo accostata e quando bruno la spinse ci ritrovammo in un atrio ombroso dotato di panche e appendiabiti di legno capì subito dove eravamo forse perché le scuole si somigliavano tutte però nella scuola di grana ora venivano allevati solo dei grossi conigli grigi che ci spiavano impauriti da una fila di gabbie l'aula aveva odore di paglia mangime urina vino che diventava aceto su una pedana di legno dove una volta doveva esserci stata la cattedra erano buttate alcune damigiane vuote ma nessuno aveva avuto il coraggio di tirar giù il crocefisso dal muro né di far legna con i banchi accatastati in fondo furono quelli ad attrarmi più dei conigli andai a guardarli da vicino erano banchi lunghi e stretti quattro buchi da calamaio ciascuno legno levigato da tutte le mani che ci si erano posate sopra sul bordo interno le stesse mani avevano inciso delle lettere con il coltello forse con la punta di un chiodo iniziali la g di guglielmina compariva spesso tu sai chi sono qualcuno si disse bruno qualcuno non lo conosco ma ne ho sentito parlare ma quando è stato non lo so è chiusa da sempre questa scuola non feci in tempo a chiedere altro che sentimo la zia di bruno chiamare così finivano le nostre avventure arrivava quel richiamo perentorio gridato una due tre volte che ci raggiungeva ovunque fossimo bruno sbuffò poi mi salutò e corse via lasciava tutto a metà un gioco un discorso e per quel giorno sapevo che non l'avrei rivisto io invece restai ancora un po nella vecchia scuola controllai tutti i banchi lessi tutte le iniziali e provai a immaginare i nomi di quei ragazzini poi mentre curiosavo trovai un'incisione più accurata e recente il solco lasciato dal coltello spiccava nel legno ingrigito come un taglio fresco passai un dito sulla g e sulla b ed era proprio impossibile avere dubbi sull'identità del loro autore allora collegai altre cose cose che avevo visto e non avevo capito nei ruderi in cui bruno mi portava e cominciai a intuire qual era la vita segreta di quel paese fantasma intanto luglio volava l'erba falciata al nostro arrivo era già ricresciuta di una spanna e lungo la mulattiera passavano le mandrie dirette agli alpeggi alti le osservavo sparire su per il vallone addentrandosi nel bosco in un frastuono di zoccoli e campanacci e più tardi ricomparire a lontano oltre la linea degli alberi come stormi di uccelli posati sul fianco delle montagne due sere alla settimana io e mia madre facevamo il percorso contrario verso un altro paese che era poi solo una manciata di case nel fondo valle impiegavamo mezz'ora per arrivarci a piedi e alla fine del sentiero sembrava di essere rientrate di colpo nella modernità le luci di un bar illuminavano il ponte sul fiume un via vai di automobili percorreva la regionale e la musica si mischiava alle voci dei villeggianti seduti fuori laggiù faceva più caldo e l'estate era allegra e oziosa come le estati al mare una compagnia di ragazzi si ritrovava a quei tavolini fumavano ridevano qualche volta venivano raccolti da amici di passaggio e partivano in macchina verso i bar dell'alta valle io e mia madre invece ci mettevamo in fila al telefono a gettoni aspettavamo il nostro turno e poi entravamo insieme in quella cabina esausta di conversazioni i miei si sbrigavano in fretta nemmeno a casa perdevano troppo tempo in chiacchiere e ad ascoltarli sembravano due vecchi amici a cui bastava mezza frase per capirsi mio padre parlava più a lungo con me quando lei me lo passava e montanaro diceva come andiamo ha escalato qualche bella cima e non ancora però mi alleno bravo e il tuo amico come sta sta bene solo che tra un po va in alpeggio e non lo vedo più ci vuole un'ora per arrivarci beh ma un'ora non è mica tanto ora dire che andiamo a trovarlo insieme che ne dici mi piacerebbe tu quando vieni in agosto diceva mio padre e prima di salutarmi aggiungeva dai un bacio alla mamma e curala è che non si senta sola io gli promettevo di sì ma tra me e me pensavo che fosse lui a sentirsi solo me lo immaginavo nell'appartamento di milano tutto vuoto con le finestre spalancate e il rombo dei camion mia madre stava benissimo tornavamo a grana per lo stesso sentiero nel bosco su cui nel frattempo era calato il buio lei allora accendeva una torcia e se la puntava sui piedi la notte non le faceva nessuna paura era così tranquilla da rassicurare anche me camminavo seguendo i suoi scarponi in quella luce incerta e dopo un po cominciavo a sentirla cantare con un tono sommesso come tra se e se se conoscevo la canzone le andavo dietro a bassa voce anch'io i rumori del traffico le radio le risate dei ragazzi svanivano alle nostre spalle l'aria si faceva più fresca man mano che salivamo sapevo di essere quasi arrivato un po prima di scorgere le finestre illuminate quando il vento mi portava l'odore dei camini 2 non so quali cambiamenti avesse visto in me quell'anno ma mio padre aveva già deciso che era arrivata l'ora di portarmi con sé salì da milano un sabato irrompendo nelle nostre abitudini con la sua alfa scassata determinato a non perdere un minuto delle sue brevi ferie aveva comprato una mappa che appese al muro con le puntine e un pennello con cui aveva intenzione di segnare i sentieri percorsi come le conquista dei generali il vecchio zaino militare i pantaloni di velluto al ginocchio il maglione rosso da scalatore dolomitico sarebbero stati la sua divisa mia madre preferì starne fuori rintanandosi tra i suoi gerani e i suoi libri bruno era già in alpeggio io non facevo che tornare nei nostri posti da solo e sentire la sua mancanza perciò accolsi volentieri la novità cominciai a imparare il modo di andare in montagna di mio padre la cosa più simile a un'educazione che io abbia ricevuto da lui partivamo presto la mattina salendo in macchina fino alle frazioni ai piedi del monte rosa erano località turistiche più in voga della nostra e in sonnolito vedevo scorrere le villette a schiera gli alberghi in stile alpino di inizio novecento i brutti condomini anni sessanta i campeggi di roulotte lungo il fiume tutta la valle era ancora in ombra e umida di rugiada mio padre beveva un caffè nel primo bar aperto poi si caricava lo zaino in spalla con la solennità di un alpino il sentiero partiva da dietro una chiesa o dopo un ponticello di legno entrava nel bosco e subito si nerpicava prima di imboccarlo alzavo un'ultima volta gli occhi al cielo sopra le nostre teste splendevano i ghiacciai già illuminati dal sole il freddo del mattino sulle gambe nude mi dava la pelle d'oca sul sentiero mio padre mi lasciava camminare in testa mi stava dietro a un passo così che potessi sentire una sua parola quando serviva e il suo respiro alle mie spalle avevo poche chiare regole da seguire uno prendere un ritmo e tenerlo senza fermarsi due non parlare tre davanti a un bivio scegliere sempre la strada che sale lui ansimava e sbuffava molto più di me tra il fumo e la vita da ufficio che faceva ma per almeno un'ora non tollerava soste né per prendere fiato né per bere né per osservare alcunché il bosco non aveva fascino ai suoi occhi era mia madre nei nostri giri intorno a grana a indicarmi le piante gli alberi e insegnarmi i loro nomi come se fossero persone ognuna con il suo carattere mentre per mio padre il bosco era solo l'accesso all'alta montagna lo risalevamo a testa bassa concentrati sul ritmo delle gambe dei polmoni del cuore in un rapporto privato e muto con la fatica calpestavamo sassi levigati dal passaggio secolare di animali e uomini a volte superavamo una croce di legno o una targa di bronzo con un nome o un'edicola con una madonnina e qualche fiore che davano a quegli angoli di bosco un'aria grave da cimitero allora il silenzio tra noi assumeva un altro significato sembrava l'unico modo rispettoso di passare alzavamo lo sguardo soltanto alla fine degli alberi sulla spalla glaciale il sentiero si ammorbidiva e uscendo al sole incontravamo gli ultimi villaggi alti erano posti abbandonati o quasi anche peggio di grana se non per una stalla indisparte una fontana che ancora funzionava una cappella ben tenuta sopra sotto le case il terreno era stato spianato e le pietre raccolte in cumuli e poi scavati canaletti per irrigare e concimare e terrazzate le rive per farne campi e orti mio padre mi mostrava queste opere mi parlava con ammirazione degli antichi montanari quelli arrivati dal nord delle alpi nel medioevo erano capaci di coltivare la terra a quote a cui nessuno si spingeva possedevano tecniche speciali e una specie di resistenza al freddo e alle privazioni ormai nessuno sarebbe riuscito a vivere lassù d'inverno in un'autonomia assoluta di cibo e di mezzi come per secoli avevano fatto loro io osservavo le case dirocate mi sforzavo di immaginarne gli abitanti non riuscivo a capire come mai qualcuno avesse scelto una vita tanto dura quando lo chiesi a mio padre lui mi rispose nel suo modo enigmatico sembrava sempre che non potesse darmi la soluzione ma appena qualche indizio e che alla verità io dovessi per forza arrivarci da solo disse non l'hanno mica scelto se uno va a stare in alto perché in basso non lo lasciano in pace e chi c'è in basso padroni eserciti preti capireparto dipende non era del tutto serio il tono della sua risposta ora si bagnava la nuca alla fontana ed era già più allegro rispetto al primo mattino si scrollava la testa dall'acqua si strizzava la barba e guardava in su nei valloni che ci aspettavano non c'erano ostacoli alla vista così prima o poi notava qualcuno più avanti di noi sul sentiero aveva un occhio acuto da cacciatore per scovare quelle macchioline rosse o gialle il colore di uno zaino o di una giacca a vento più lontane erano più spavalda suonava la voce con cui indicandole mi chiedeva che ne dici pietro li prendiamo certo rispondevo io ovunque fossero allora la nostra salita si trasformava in un inseguimento avevamo i muscoli ben caldi e ancora tutte le energie da spendere risalivamo i pascoli di agosto passando per alpeggi isolati mandrie di mucche indifferenti cani che ciringhiavano alle caviglie e distese di ortiche che mi pizzicavano le gambe nude taglia diceva mio padre dove il sentiero tracciava linee troppo dolci per i suoi gusti dritto vai su di qua infine la pendenza aumentava di nuovo ed era lì su quelle spietate rampe terminali che raggiungevamo le nostre prede erano due o tre uomini di solito dell'età di mio padre vestiti come lui in me confermavano l'idea che questa cosa dell'andare in montagna fosse una moda d'altri tempi e obbedisse a codici antiquati anche il modo in cui cedevano il passo aveva un che di cerimonioso si spostavano di lato accanto al sentiero si fermavano e si lasciavano superare di certo ci avevano visti dall'alto avevano provato a resistere e non erano contenti di essere stati presi salute diceva uno corre ragazzino è lui tira rispondeva mio padre io inseguo avercele le gambe che a lui eh già però le abbiamo avute ma forse un secolo fa andate su fino in cima se riusciamo auguri concludeva l'altro e fine dei convenevoli ci allontanavamo in silenzio così come eravamo arrivati l'esultanza non era prevista ma poco dopo quando eravamo abbastanza distanti sentivo una mano sulla spalla soltanto quello una mano che si appoggiava e stringeva ed era tutto forse è vero come sosteneva mia madre che ognuno di noi ha una quota prediletta in montagna un paesaggio che gli somiglia e dove si sente bene la sua era senz'altro il bosco dei 1500 metri quello di abeti e larici alla cui ombra crescono il mirtillo il ginepro e il rododendro e si nascondono i caprioli io ero più attratto dalla montagna che viene dopo prateria alpina torrenti torbiere erbe ed alta quota bestia al pascolo ancora più in alto la vegetazione scompare la neve copre ogni cosa fino all'inizio dell'estate e il colore prevalente è il grigio della roccia venato dal quarzo e intarsiato dal giallo dei licheni lì cominciava il mondo di mio padre dopo tre ore di cammino i prati e i boschi lasciavano il posto alle pietraie ai laghetti nascosti nelle conche glaciali ai canaloni solcati dalle slavine alle sorgenti di acqua gelida la montagna si trasformava in un luogo più aspro inospitale e puro lassù lui diventava felice ringiovaniva forse tornando ad altre montagne e altri tempi anche il suo passo sembrava perdere peso e ritrovare un'agilità perduta io al contrario ero esausto la fatica la mancanza di ossigeno mi chiudevano lo stomaco dandomi la nausea quel malessere rendeva ogni metro una pena mio padre non era capace di accorgersene verso i 3000 metri il sentiero si faceva incerto sulla pietraia non restavano che ometti di sassi e segni di vernice e lui prendeva finalmente la testa della spedizione non si voltava a controllare come stavo io se lo faceva era per gridare guarda indicando in alto sul filo di cresta le corna degli stambecchi che ci sorvegliavano come guardiani di quel mondo minerale alzando gli occhi la cima mi sembrava ancora lontanissima nel naso avevo un odore di neve ghiacciata e pietra focaia la fine della tortura arrivava imprevista superavo un ultimo salto aggiravo uno spuntone di roccia e di colpo mi trovavo davanti una pilla di sassi una croce di ferro tempestata dai fulmini lo zaino di mio padre buttato a terra e oltre soltanto cielo era un sollievo più che un'euforia non c'era alcun premio per noi lassù a parte il fatto che da lì non potevamo più salire la vetta non aveva proprio niente di speciale sarei stato più contento di raggiungere un torrente o un villaggio in cima alle montagne mio padre diventava meditabondo si levava camicia e canottiera e le stendeva sulla croce ad asciugare succedeva di rado che lo vedessi a torso nudo e in quello stato il suo corpo aveva qualcosa di vulnerabile con gli avambracci arrossati le spalle forti e bianche la collanina d'oro che non toglieva mai il collo di nuovo rosso e impolverato ci sedevamo a mangiare pane e formaggio e a contemplare il panorama davanti a noi si parava tutto intero il massiccio del monte rosa così vicino da distinguere i rifugi le funivie i laghi artificiali la lunga processione di cordate di ritorno dalla capanna margherita mio padre allora stappava la borraccia del vino e si accendeva l'unica sigaretta della mattinata non si chiama mica rosa perché rosa diceva viene da una parola antica che significa ghiacciaio la montagna di ghiaccio poi mi elencava i 4000 da est a ovest ogni volta da capo perché prima di andarci era importante riconoscerli e averli a lungo desiderati la modesta punta giordani la piramide vincent che la sovrasta il balmenhorn su cui sorge il grande cristo delle vette la parro dal profilo così dolce che quasi non si vede poi le nobili punte nifetti zoomstein duffour tre sorelle accuminate i due linscam con la cresta che li unisce la mangiatrice di uomini infine l'onda elegante del castore lo scontroso polluce l'intaglio della roccia nera i brei torn dall'aria innocua e per ultimo a ovest scolpito e solitario il cervino che mio padre chiamava la gran becca come se fosse una sua vecchia zia non si voltava volentieri a sud verso la pianura laggiù gravava la foschia di agosto e da qualche parte sotto quella cappa grigia bruciava milano sembra tutto piccolo vero diceva e io non capivo non capivo in che senso potesse sembrargli piccolo quel panorama maestoso o se erano altre cose a sembrargli piccole cose che gli tornavano in mente quando era lassù ma la malinconia non durava molto finita la sigaretta si tirava fuori dal pantano dei suoi pensieri recuperava la roba e diceva andiamo la discesa la facevamo di corsa giù a rotta di collo per qualsiasi pendenza lanciando grida di guerra e ululati da indiani e in meno di due ore eravamo con i piedi a mollo in qualche fontana di paese a grana mia madre aveva fatto passi avanti nelle indagini la vedevo spesso su nel campo dove la madre di bruno passava i suoi giorni ad alzare gli occhi la trovavi sempre la una donna ossuta con un berretto giallo piegata a curare cipolle e patate non scambiava mai due parole con nessuno e nessuno andava a trovarla finché non lo fece mia madre una nell'orto l'altra seduta su un ceppo lì accanto da lontano sembrava che chiacchierassero per delle mezz'ore allora parla disse mio padre a cui avevano raccontato di quella strana donna certo che parla io di muti non ne ho mai conosciuti rispose mia madre peccato commentò lui ma lei non era in vena di battute aveva scoperto che bruno quell'anno non aveva superato la prima media ed era molto arrabbiata non era più stato mandato a scuola dal mese di aprile era chiaro che se nessuno fosse intervenuto la sua istruzione sarebbe finita lì e questo era il genere di cose che indignavano mia madre a milano come in un pesino di montagna non è che puoi sempre salvare tutti disse mio padre a te qualcuno ti ha salvato o sbaglio come no poi mi sono dovuto salvare io da loro però intanto hai studiato non ti hanno mica messo a guardare le mucche quando avevi 11 anni a 11 anni bisogna andare a scuola dico solo che qui è diverso qui i genitori ci sono per fortuna sì una bella fortuna concluse mia madre e mio padre evitò di replicare non succedeva quasi mai che parlassero della sua infanzia e quelle poche volte lui scuoteva la testa e lasciava cadere il discorso così fumo mandati in avanscoperta mio padre e io ad allacciare i rapporti con gli uomini della famiglia guglielmina l'alpeggio in cui abitavano d'estate era un gruppo di tre baite a poco più di un'ora da grana lungo il sentiero che risaliva il vallone le vedemmo da lontano arroccate a metà del suo lato destro dove il fianco della montagna si ammorbidiva prima di cadere di nuovo giù fino allo stesso torrente che scorreva in paese io gli volevo già bene a quel fiumiciatolo ero contento di ritrovarlo lassù in quel punto il vallone si chiudeva come se un'immensa frana l'avesse tappato a monte e terminava in una conca intresa d'acqua tutta percorsa da rigagnoli e infestata da felci cespugli di rabarbaro e ortiche passandoci in mezzo il sentiero diventava fangoso poi si lasciava indietro l'acquitrino oltrepassava il torrente e saliva all'asciutto e al sole verso le baite dal torrente in su erano tutti i pascoli ben tenuti ehi disse bruno alla buonora scusa sono dovuto stare un po con mio padre è quello lì tuo padre e com'è non so dissi bravo avevo cominciato a parlare come lui non c'eravamo visti per 15 giorni e ci sentivamo già due vecchi amici mio padre lo salutò come se lo fossimo e anche lo zio di bruno ci tenne a mostrarsi ospitale entrò in una delle baite e ne uscì con un pezzo di toma una moccetta e un bottiglione di vino ma la sua faccia non si accordava con quei gesti di benvenuto era un uomo segnato dai cattivi pensieri che gli avevano intagliato i lineamenti aveva una barba sfatta ispida e quasi bianca i baffi più folti e grigi le sopracciglia incurvate in una perenne diffidenza gli occhi azzurro cielo la mano che mio padre gli porgeva l'aveva sorpreso e il gesto di stringerla gli era uscito incerto innaturale poi stappando il vino riempiendo i bicchieri era tornato nel suo territorio bruno aveva qualcosa da mostrarmi così li lasciamo lì a bere e andammo a fare un giro osservai con attenzione l'alpeggio di cui mi aveva tanto parlato possedeva una nobiltà antica che ancora si percepiva nei muri a secco in certe enormi pietre angolari nei travi dei tetti squadrati a mano e una miseria recente come uno strato di unto e polvere posato su ogni cosa la baita più lunga era adibita a stalla ronzante di mosche e incrostata di sterco fin sulla soglia nella seconda con gli stracci a ostruire le finestre rotte il tetto rattoppato da pezzi di lamera alloggiavano luigi guglielmina e i suoi eredi la terza era la cantina bruno mi portò a vedere quella anziché la stanza in cui dormiva nemmeno a grana mi aveva mai invitato in casa sua disse sto imparando a fare il casaro cioè quello che fa la toma vieni la cantina mi sorprese era fresca e ombrosa l'unico posto davvero pulito di tutto l'alpeggio le spesse mensole di larice erano state lavate da poco le tome stagionavano lì con la crosta umida di salamoia così lucide tonde ordinate sembravano in mostra per qualche tipo di gara le hai fatte tu chiesi no no per adesso le giro e basta sono belle eh cosa vuol dire che le giri una volta alla settimana le giro dall'altra parte e poi ci passo il sale poi lavo tutto e tengo in ordine qua dentro sono belle dissi fuori invece giacevano secchi di plastica una catasta di legna mezza marcia una stufa ricavata da un bidone di gasolio una vasca da bagno che faceva da beveratoio e per terra bucce di patata e qualche osso ripulito dai cani non era solo assenza di decoro c'era un certo disprezzo per le cose un certo gusto nel maltrattarle lasciarla andare in malura che stavo imparando a riconoscere anche a grana era come se quei posti avessero il destino segnato e la manutenzione non fosse che una fatica inutile mio padre e lo zio di bruno erano al secondo bicchiere e li trovammo nel pieno di una discussione sull'economia dal peggio di certo l'aveva avviata mio padre a cui delle vite altrui interessava soprattutto il funzionamento quante bestie quanti ettari di pascolo quanti litri di latte al giorno quanta resa in termini di formaggio luigi guglielmina era ben contento di parlare con un uomo competente e faceva i conti a voce alta per dimostrargli che con i prezzi che correvano e le assurde regole imposte agli allevatori il suo lavoro ormai non aveva più senso e lo faceva solo per passione disse quando muoio io quassù in dieci anni torna tutto bosco saranno contenti allora ai suoi figli il mestiere non piace chiese mio padre è farsi il culo che non gli piace più che sentirlo parlare in quel modo mi colpì la profezia non avevo mai pensato che un pascolo fosse stato un bosco né che potesse ridiventarlo guardai le mucche sparpagliate sopra l'alpeggio e mi sforzai di immaginare quei prati colonizzati dai primi arbusti che poi crescevano inghiottendo ogni segno di ciò che era stato i canali i muretti i sentieri e infine anche le case bruno intanto aveva acceso il fuoco nella stufa all'aperto senza che nessuno gli dicesse niente andò alla vasca a riempire una pentola d'acqua e si mise a pelare patate con il coltellino ce n'erano di cose che sapeva fare preparò una pasta asciutta e la mise in tavola insieme alle patate bollite la toma la mocetta il vino allora spuntarono anche i suoi cugini due ragazzi grandi e grossi sui 25 anni che si sedettero con noi mangiarono a testa bassa ci guardarono per un minuto e poi se ne andarono a dormire lo zio di bruno li osservò allontanarsi e nella smorfia che gli piegava le labbra c'era tutto il suo disprezzo per loro mio padre non badava queste cose alla fine del pasto si stiracchiò la schiena uni le mani dietro la nuca e alzò gli occhi al cielo come per godersi uno spettacolo disse proprio così che spettacolo le sue ferie erano quasi finite e aveva già cominciato a guardare le montagne con nostalgia su alcune cime per quell'anno non sarebbe più potuto andare ne avevamo diverse sopra la testa tutte pietraie gendarmi speroni canaloni di detriti e creste rotte sembravano le rovine di un'immensa fortezza distrutta dalle cannonate i cui resti pericolanti dovevano ancora finire di crollare in effetti poteva essere uno spettacolo soltanto per uno come mio padre come si chiamano queste montagne chiese io pensai che fosse una domanda strana con tutto il tempo che passava davanti alla sua mappa appesa al muro lo zio di bruno alzò lo sguardo come per vedere se veniva a piovere e con un gesto fiacco disse grenon qual è il grenon questo per noi è la montagna di grana tutte queste cime insieme ma sì non diamo nomi alle cime qui è questa zona dopo aver mangiato e bevuto cominciava a essere stufo di averci tra i piedi lei c'è mai stato insiste mio padre su in alto voglio dire da giovane accompagnavo a caccia mio papà e sugli acciaio c'è stato no mai avuto l'occasione ma mi sarebbe piaciuto ammise lo zio di bruno io penso di andare su domani disse mio padre porta il ragazzo a pestare un po di neve se per lei va bene posso portare anche il suo ecco dove voleva arrivare luigi guglielmina impiegò un momento a capire che cosa intendesse dire il mio poi si ricordò di bruno lì accanto a me stavamo giocando con uno dei cani un cucciolo nato quell'anno ma non ci perdevamo una parola a te va gli chiese sì sì disse bruno lo zio corrugò la fronte era più abituato a dire no che sì ma forse si sentì incastrato da quell'estraneo o magari chissà per un attimo il ragazzino gli fece pena allora vai disse poi tappò il bottiglione e si alzò da tavola senza più voglia di sembrare quello che non era il ghiacciaio affascinava l'uomo di scienza che c'era in mio padre ancora prima che l'alpinista gli ricordava i suoi studi di fisica e chimica la mitologia su cui si era formato il giorno dopo mentre salivamo al rifugio mezza lama ci raccontò una storia che assomigliava a uno di quei miti il ghiacciaio disse a me e bruno sul sentiero è la memoria degli inverni passati che la montagna custodisce per noi sopra una certa altezza ne trattiene il ricordo e se vogliamo sapere di un inverno lontano è lassù che dobbiamo andare si chiama quota delle nevi perenni spiegò e dove l'estate non riesce a sciogliere tutta la neve che cade d'inverno una parte resiste fino all'autunno e poi viene seppellita dalla neve dell'inverno successivo allora è salva là sotto piano piano si trasforma in ghiaccio diventa uno strato di crescita del ghiacciaio proprio come gli anelli degli alberi e noi contandoli possiamo sapere quanti anni ha solo che un ghiacciaio non se ne sta alla fermo in cima alla montagna si muove per tutto il tempo non fa che scivolare giù perché chiesi secondo te perché perché è pesante disse bruno proprio così disse mio padre il ghiacciaio è pesante e la roccia su cui è appoggiato è molto liscia così va giù lentamente ma senza fermarsi mai scivola giù per la montagna finché raggiunge una quota dove fa troppo caldo per lui quella si chiama quota di fusione la vedete là in fondo camminavamo su una morena che sembrava fatta di sabbia una lingua di ghiaccio e detriti si spingeva fin sotto di noi molto più in basso rispetto al sentiero era percorsa da rivoli d'acqua che si raccoglievano in un laghetto opaco metallico gelido fin dall'aspetto quell'acqua lì disse mio padre non viene mica dalla neve di quest'inverno e neve che la montagna ha conservato per chissà quanto tempo magari l'acqua di adesso viene da un inverno di cent'anni fa cento davvero chiese bruno o forse di più è un calcolo difficile bisognerebbe conoscere esattamente la pendenza e l'attrito si fa prima a fare una prova e come a questo è facile vedi quei crepaci in alto domani andiamo su buttiamo dentro una monetina e poi ci sediamo sul torrente ad aspettare che arrivi mio padre rise bruno restò a osservare i crepaci e la lingua del ghiacciaio e si vedeva che l'idea lo affascinava io ero meno interessato di lui agli antichi inverni sentivo nello stomaco che stavamo oltrepassando la quota cui le altre volte finivano le nostre ascensioni anche l'ora era insolita nel pomeriggio avevamo preso qualche goccia di pioggia adesso che veniva sera eravamo nella nebbia fu molto strano scoprire alla fine della morena un edificio di legno alto due piani lo annunciavano i gas di scarico di un generatore a gasolio e poi un vociare in qualche lingua che non conoscevo la pedana di legno davanti all'ingresso tutta abbuccherellata dalle punte dei ramponi era in gombra di zaini corde maglie e calzettoni stesi ovunque ad asciugare alpinisti che passavano con gli scarponi slacciati e la biancheria in mano il rifugio era pieno quella sera nessuno veniva lasciato fuori ma avrebbero messo gente a dormire perfino sulle panche e i tavoli io e bruno eravamo di gran lunga i più giovani della compagnia mangiamo tra i primi e per liberare il posto ce ne andammo di sopra subito dopo nella grande camerata dove dividevamo un letto lassù vestiti dalla testa ai piedi sotto un paio di coperte ruvide restamo a lungo ad aspettare che ci venisse sonno dalla finestra non scorgevamo stelle nei bagliori del fondo valle ma solo le braci delle sigarette di chi usciva a fumare ascoltavamo gli uomini al pianterreno dopo cena confrontavano i programmi dell'indomani discutevano sul tempo incerto o raccontavano di altre notti in rifugi e vecchie imprese ogni tanto mi arrivava la voce di mio padre che aveva ordinato un litro di vino e si era unito agli altri non avendo cime da conquistare si era fatto un a fama come il tipo che portava due ragazzini sul ghiacciaio e il ruolo lo inorgogliva aveva trovato gente delle sue parti con cui lo sentivo far battuta in dialetto veneto da timido mi vergognavo per lui bruno disse ne sa di cose tuo padre è già dissi io è bravo che te le insegna perché il tuo no non so sembra sempre che gli do fastidio io pensai che mio padre era bravo a parlare ma ascoltare non era proprio il suo forte né guardarmi altrimenti avrebbe capito come stavo avevo mangiato a fatica e avrei fatto meglio a digiunare perché adesso la nausea mi tormentava l'odore di minestra che saliva dalla cucina peggiorava la situazione facevo respiri profondi per calmare lo stomaco e bruno se ne accorse non stai bene non tanto vuoi che vado a chiamare tuo padre no no ora mi passa mi tenevo la pancia il caldo con le mani avrei voluto più di tutto essere nel mio letto e sentire mia madre di là davanti alla stufa restammo in silenzio affinché alle 10 il gestore dichiarò il coprifuoco spense il generatore e il rifugio piombò nel buio e poco dopo spuntarono le pile degli uomini che salivano in cerca di un letto passò anche mio padre con l'alito forte di grappa a vedere come andava io tenni gli occhi chiusi e finsi di dormire la mattina uscimo prima che fosse giorno ora la nebbia colmava le valli ai nostri piedi e il cielo era limpido di un color madre perla con le ultime stelle che sbiadivano man mano che schiariva non doveva mancare tanto all'alba gli alpinisti diretti alle cime più lontane erano già partiti da un pezzo li avevamo sentiti armeggiare in piena notte e adesso alcuna di quelle cordate si scorgevano molto in alto niente più che minuscoli naufraghi nel bianco mio padre ci agganciò i ramponi che avevano leggiato e ci legò a cinque metri di distanza uno dall'altro prima lui poi bruno poi io ci imbragò al petto con un giro complicato della corda sopra le giacchiavento ma non faceva quei nodi da anni e così la vestizione risultò lunga e macchinosa finimmo per essere gli ultimi a lasciare il rifugio restava da percorrere un tratto di pietraia su cui i ramponi sbattevano e tendevano a impigliarsi tra loro la corda mi intralciava il passo e mi sentivo goffo carico di troppa roba ma la sensazione cambiò di colpo quando posai piede sulla neve del mio battesimo del ghiacciaio ricordo questo un'improvvisa solidità sulle gambe le punte d'acciaio che mordevano la neve dura i ramponi che tenevano alla perfezione mi ero svegliato abbastanza bene ma dopo un po il tepore del rifugio si dileguò e la nausea tornò a salire mio padre là davanti tirava il gruppo vedevo che aveva fretta benché sostenesse di voler fare solo un giro secondo me nutriva la speranza segreta di raggiungere qualche cima e sorprendere gli altri alpinisti spuntando in vette insieme a noi ma io arrancavo tra un passo e l'altro era come se una mano mi strizzasse lo stomaco quando mi fermavo a respirare la corda tra me e bruno si tendeva obbligando anche lui a una sosta infine la tensione arrivava mio padre che si voltava contrariato a guardarmi che cosa c'è chiedeva pensava che facessi storie muoviamoci su al sorgere del sole tre ombre nere comparvero sul ghiacciaio accanto a noi allora la neve perse il suo tono azzurro e diventò di un bianco abbagliante e quasi subito cominciò a cedere sotto i ramponi le nuvole giù in basso si gonfiavano al calore del mattino e perfino io capivo che presto si sarebbero alzate come il giorno prima l'idea di arrivare da qualche parte diventava sempre meno realistica però mio padre non era tipo da ammetterlo e ritirarsi al contrario si intestardì ad avanzare a un certo punto incontrò un crepaccio misurò a occhio la distanza lo superò con un passo deciso poi piantò la piccozza nella neve e avvolse la corda intorno al manico per recuperare bruno io non provavo più alcun interesse per quel che stavamo facendo l'alba il ghiacciaio le catene di cime intorno a noi le nuvole che ci separavano dal mondo tutta quella bellezza disumana mi era indifferente avrei voluto solo che qualcuno mi dicesse quanto dovevamo ancora camminare arrivai sul bordo del crepaccio mentre bruno davanti a me si sporgeva per guardare giù mio padre gli disse di prendere un bel respiro e saltare aspettando il mio turno mi voltai sotto di noi da una parte la pendenza della montagna aumentava e il ghiacciaio si spaccava in una ripida seracca oltre quel tormento di blocchi rotti crollati ammassati il rifugio da cui eravamo partiti veniva inghiottito dalla nebbia allora mi sembrò che non saremmo più tornati indietro guardai bruno in cerca di un sostegno e lo vedi già dall'altra parte del crepaccio mio padre gli batteva una mano sulla schiena complimentandosi per il salto io no non ce l'avrei mai fatta passare il mio stomaco si arrese e vomitai la colazione nella neve fu così che il mio mal di montagna smise di essere un segreto mio padre si spaventò corse a soccorrermi allarmato saltando di nuovo il crepaccio e aggrovigliando le corde che ci legavano tutti e tre la sua paura mi sorprese perché mi ero aspettato piuttosto la rabbia ma allora non mi rendevo conto dei rischi che si era preso portandoci lassù avevamo 11 anni e ci trascinavamo sugli acciaio inseguiti dal mal tempo equipaggiati in qualche modo dietro alla sua ostinazione del mal di montagna sapeva che l'unica cura è scendere di quota e non esitò a farlo invertì la cordata in modo che io camminasse in testa e potessi fermarmi quando stavo male nello stomaco non avevo più niente ma ogni tanto ero ancora scosso dai conati e sputavo solo bava poco dopo entrammo nella nebbia mio padre in fondo alla cordata mi chiese come stai hai mal di testa non mi pare e la pancia come va un po meglio risposi anche se adesso mi sentivo soprattutto debole tieni disse bruno mi passò una manciata di neve che aveva stretto in pugno fino a renderla un ghiacciolo provai a succhiarla un po per quella e un po per il sollievo della discesa il mio stomaco cominciava a calmarsi era un mattino di agosto del 1984 è il mio ultimo ricordo di quell'estate il giorno dopo bruno sarebbe tornato in alpeggio e mio padre a milano ma in quel momento eravamo tutte tre sul ghiacciaio insieme come non sarebbe più accaduto con una corda che ci legava uno all'altro che noi lo volessimo o no io inciampavo nei ramponi e non riusciva a camminare dritto bruno mi stava subito dietro e dopo un minuto sopra i nostri passi nella neve cominciai a sentire il suo o o o era il verso con cui riportava le mucche in stalla e lo stava usando per riportare me al rifugio dato che non mi raggevo in piedi io mi affidai a quella cantilena e lasciai che le mie gambe prendessero il suo ritmo così non dovevo pensare più a niente ma l'hai guardato quel crepaccio mi chiese boia cane quanto andava giù non risposi avevo ancora negli occhi il momento in cui li avevo visti di là vicini ed esultanti come padre e figlio ora la nebbia e la neve formavano un bianco uniforme davanti a me e badavo solo a non cadere bruno non disse altro e riprese a cantilenare 3 l'inverno in quegli anni diventò per me la stagione della nostalgia mio padre detestava gli sciatori non voleva saperne di mischiarsi a loro trovava qualcosa di offensivo nel gioco di scendere per la montagna senza la fatica di salirci lungo un pendio spianato dalle ruspe e attrezzato con un cavo a motore li disprezzava perché arrivavano in massa e si lasciavano dietro soltanto rovine certe volte d'estate ci capitava di incontrare un pilone di una seggiovia o qualche cingolato fermo su una pista spelacchiata o i resti di una stazione dismessa in alta quota una ruota arrugginita sopra un blocco di cemento in mezzo alla pietraia bisognerebbe metterci una bomba diceva mio padre e non scherzava era lo stesso stato d'animo con cui a natale guardava i servizi del telegiornale sulle vacanze degli sciatori migliaia di cittadini invadevano le valli alpine si mettevano in coda a quegli stessi impianti e sfrecciavano giù per i nostri sentieri e lui si dissociava rinchiudendosi nell'appartamento di milano mia madre una volta gli propose di portarmi a fare un giro di domenica solo perché vedessi grana con la neve e mio padre rispose secco no non gli piacerebbe d'inverno la montagna non era fatta per gli uomini e andava lasciata in pace in quella sua filosofia del salire scendere o del fuggire in alto dalle cose che ti tormentavano in basso alla stagione della leggerezza doveva seguire necessariamente quella della gravità ovvero il tempo del lavoro della vita in pianura e dell'umore nero così adesso conoscevo anch'io la nostalgia della montagna il male da cui per anni l'avevo visto afflitto senza capire anch'io adesso potevo incantarmi alla comparsa della grigna in fondo a un viale rileggevo le pagine della guida del cai come fosse un diario imbevendomi della loro prosa ad altri tempi e mi illudevo di ripercorrere i sentieri passo passo salendo per ripide balze erbose fino a un alpe in disuso e da qui proseguendo per macereti e residui di nevai per poi portarsi sulla cresta sommitale in prossimità di un marcato avvallamento ma intanto le mie gambe impallidivano guarivano da graffie croste e dimenticavo il prurito delle ortiche il gelo di un guado senza calze scarpe il sollievo delle lenzuola dopo un pomeriggio di gran sole niente nella città d'inverno mi colpiva con altrettanta forza la osservavo da dietro un filtro che la rendeva indistinta e sbiadita i miei occhi solo una nebbia di persone automobili da attraversare due volte al giorno e quando guardavo il viale giù dalla finestra i giorni di grana mi sembravano così lontani da chiedermi se fossero esistiti davvero potevo essermeli inventati da solo averli sognati e basta finché notavo un nuovo taglio di luce sul balcone un germoglio nell'erba stenta tra le corsie di traffico la primavera tornava perfino a milano e la nostalgia si trasformava in attesa che arrivasse il momento di tornare su bruno aspettava quel giorno con la mia stessa trepidazione solo che io andavo e venivo lui restava credo tenesse d'occhio i tornanti da qualche suo punto d'osservazione perché veniva a chiamarmi nemmeno un'ora dopo il nostro arrivo perio gridava dal cortile era il nome con cui mi aveva ribattezzato esci dai diceva senza salutarmi né niente come se ci fossimo visti solo il giorno prima ed era vero gli ultimi mesi venivano cancellati di colpo e la nostra amicizia sembrava vivere un'unica infinita estate però bruno cresceva nel frattempo più rapidamente di me quasi sempre era sporco di stalla e si rifiutava di entrare in casa aspettava sul ballatoio appoggiandosi alla ringhiera su cui nessuno di noi si appoggiava perché dondolava appena la toccavi ed eravamo certi che un giorno l'altro sarebbe caduto giù si guardava alle spalle come per controllare se qualcuno l'avesse inseguito fin lì era scappato dalle sue mucche e mi portava via dai miei libri per avventure che non voleva rovinarmi a parole dove andiamo chiedevo allacciandomi gli scarponi in montagna si limitava a rispondere con un tono beffardo che gli era venuto forse lo stesso con cui rispondeva suo zio sorrideva dovevo solo fidarmi di lui mia madre si fidava di me lo ripeteva spesso che lei era tranquilla perché sapeva che non avrei fatto niente di male di male non di avventato o di stupido come se alludesse a ben altri pericoli che mi sarebbero toccati nella vita non le occorrevano di vieti né raccomandazioni per lasciarci partire andare in montagna con bruno non aveva niente a che fare con le cime è vero che prendevamo un sentiero entravamo nel bosco salivamo di corsa per una mezz'ora ma poi in qualche punto noto soltanto a lui lasciavamo la strada battuta e proseguivamo per altre vie super un canalone magari o di traverso nel fitto degli abeti per me era un mistero come facesse a orientarsi camminava veloce seguendo una mappa interiore che gli indicava passaggi dove io vedevo solo una riva franata o una rupe troppo scoscesa ma proprio all'ultimo tra due piani storti la roccia rivelava una fessura su cui potevamo salire e una cengia che prima non si vedeva ci lasciava attraversare comodamente alcune di quelle vie erano state aperte a colpi di piccone quando gli domandavo chi le avesse usate lui rispondeva i minatori oppure i boscaioli indicandomi prove che non ero stato in grado di notare l'arrivo di una teleferica sgangherato e invaso dalla sterpaglia la terra ancora nera di fuoco appena sotto uno strato più secco dove una volta c'era stata una carbonaia il bosco era disseminato di questi scavi cumuli rottami che bruno traduceva per me come i segni di una lingua morta e insieme a quei segni mi insegnava un dialetto che trovavo più giusto dell'italiano come se alla lingua astratta dei libri in montagna io dovessi sostituire la lingua concreta delle cose adesso che le toccavo con mano il larice la brenga l'abete rosso la pezza il pino cembro l'arula una roccia sporgente sotto cui ripararsi dalla pioggia era una barma un sasso era un berio ed ero io pietro ero molto affezionato a quel nome ogni torrente tagliava una valle e per questo si chiamava valle e ogni valle possedeva due versanti dal carattere opposto un adret ben esposto al sole dove c'erano i paesi e i campi e un envers umido e ombroso lasciato al bosco e agli animali selvatici ma dei due era l'inverso quello che preferivamo lì nessuno veniva a disturbarci e potevamo andare a caccia di tesori davvero c'erano le miniere nei boschi intorno a grana gallerie chiuse da qualche tavola inchiodata e già violate da altri prima di noi nei tempi antichi secondo bruno avevano estratto l'oro cercando vene ovunque nella montagna ma non potevano averlo portato via tutto doveva pur esserne rimaste un po così imboccavamo cunicoli ciechi che finivano in nulla dopo pochi metri e altri che entravano in profondità diventando tortuosi e bui il soffitto era così basso da starci a malapena in piedi l'acqua che colava lungo le pareti dava l'idea che da un momento all'altro tutto potesse venire giù sapevo che era pericoloso e sapevo anche di tradire la fiducia di mia madre perché non c'era niente di saggio nel cacciarci in quelle trappole e nel farlo provavo un senso di colpa che mi rovinava tutto il piacere avrei voluto essere come bruno e avere il coraggio di ribellarmi apertamente accettando la punizione a testa alta invece io disobbedivo di nascosto la passavo liscia e me ne vergognavo pensavo a queste cose mentre le pozzanghere mi infradiciavano i piedi l'oro non lo trovavamo mai presto tardi la galleria era ostruita da un crollo o diventava troppo buia per proseguire e non ci restava altra scelta che tornare indietro ci rifacevamo della delusione svaleggiando qualche rudere sulla via del ritorno baite da pastori che incontravamo nel bosco tirate su con quello che c'era lì simili a delle tane bruno fingeva di scoprirle insieme a me credo che conoscesse a memoria ognuna di quelle capanne in selvate chite ma c'era più gusto a dare una spallata una porta come se fosse la prima volta dentro trafugavamo una scodella ammaccata o la lama smangiata di una falce immaginando che fossero reperti di gran valore e in paese poco prima di separarci ci spartivamo l'are furtiva la sera mia madre mi chiedeva dove eravamo stati qua in giro rispondevo scrollando le spalle davanti alla stufa le davo poca soddisfazione hai visto qualcosa di bello ma sì mamma il bosco lei mi guardava con malinconia come se mi stesse perdendo credeva davvero che il silenzio tra due persone fosse l'origine di tutti i guai a me basta sapere che stai bene si arrendeva lasciandomi ai miei pensieri nell'altra battaglia che combattevamo a grana invece tenevo duro fin dall'inizio si era presa a cuore l'istruzione di bruno come una faccenda personale ma sapeva di non poter fare tutto da sola doveva stringere alleanza con le donne della sua famiglia aveva capito che la madre non le sarebbe stata d'aiuto e allora si era concentrata sulla zia era così che mia madre lavorava bussando alle porte mettendo un piede dentro alle case tornando con gentilezza e ostinazione finché la zia non si impegnò a mandarlo a scuola durante l'inverno e da noi durante l'estate perché facesse i compiti era già una vittoria non so che cosa ne pensasse lo zio forse lassù in alpeggio ci malediceva tutti quanti o forse in verità di quel figlio non gli importava granché a nessuno così ricordo le lunghe ore passate con bruno nella nostra cucina a ripassare la storia e la geografia mentre fuori ci aspettavano il bosco il torrente il cielo veniva mandato da noi tre volte alla settimana lavato e ben vestito in quelle occasioni mia madre lo faceva leggere a voce alta dai miei libri stevenson verne twain london e glieli lasciava dopo la lezione perché andasse avanti a esercitarsi mentre era al pascolo i romanzi a bruno piacevano ma era con la grammatica che entrava in crisi per lui era come studiare una lingua straniera e nel vederlo incagliarsi sulle regole dell'italiano sbagliare l'ortografia di una parola o balbettare un congiuntivo io mi sentivo umiliato per lui e irritato con mia madre non ci vedevo niente di giusto in quello che gli imponevamo eppure da bruno non si levava una protesta né un lamento capiva quanto lei ci tenesse forse non gli era mai capitato di valere qualcosa per qualcuno e si intestardiva a imparare poche volte gli era concesso durante l'estate di venire a camminare con noi e quelli erano i suoi giorni di festa la ricompensa alle fatiche dello studio che fosse una cima su cui mio padre ci portava o solo un prato dove mia madre stendeva una coperta per pranzo in bruno allora vedevo accadere una trasformazione indisciplinato per natura si adeguava alle regole e ai riti della nostra famiglia e mentre con me si comportava già da adulto con i miei genitori regrediva felicemente alla sua vera età la mia madre si lasciava nutrire vestire accarezzare per mio padre provava un rispetto vicino all'ammirazione lo vedevo nel modo in cui gli andava dietro sul sentiero da come lo ascoltava in silenzio quando si metteva a spiegare erano momenti normali nella vita di una famiglia ma bruno non li aveva mai vissuti e una parte di me ne andava fiera come fossero regali che io stesso gli facevo all'altra succedeva di osservarlo con mio padre cogliere un'intesa tra loro e sentire che sarebbe stato un buon figlio per lui non più bravo di me forse ma in un certo senso più giusto era pieno di domande e gliele faceva senza timore aveva la sicurezza che serviva per entrare in confidenza con mio padre e gambe che l'avrebbero seguito ovunque mi venivano queste idee poi le scacciavo come se fossero pensieri di cui vergognarsi finì che bruno passò la prima la seconda eppure la terza media superando l'esame col voto di discreto fu una tale notizia in casa sua che la zia telefonò subito a milano per riferircela che parola pensai chissà chi l'aveva scelta chissà che cosa intendeva dire perché non c'era proprio niente in bruno di discreto mia madre invece era tutta contenta e quando salimo a grana gli portò un premio una scatola di scalpelli e sgorbie per lavorare il legno poi cominciò a domandarsi che cos'altro doveva fare per lui venne l'estate del 1987 e dei nostri 14 anni per un mese ci dedicamo all'esplorazione metodica del torrente non dall'alto delle sue sponde né per i sentieri che qua e là lo incrociavano dal bosco ma in acqua nella corrente saltando da un masso all'altro oppure a guado di torrentismo se già esisteva a quei tempi non avevamo sentito parlare e comunque noi lo facevamo all'incontrario dal ponte di grana in su risalendo il vallone poco sopra al paese ci addentrammo in una lunga gola di acque tranquille all'ombra delle rive fitte di vegetazione grandi poze infestate dagli insetti grovigli di legname sommerso vecchie trote sospettose che si dileguavano mentre passavamo più in alto il problema diventava la pendenza che rendeva la corrente impetuosa e il percorso tutto salti e cascate dove non riuscivamo ad arrampicarci attrezzavamo la rapida con un pezzo di corda o un tronco caduto che spostavamo nell'acqua e incastravamo tra i massi perché ci facesse da scala certe volte una sola cascatella ci costava ore di lavoro ma era questo il bello dell'impresa progettavamo di risolvere un passaggio alla volta e poi di concatenarli tutti risalendo l'intero torrente in un giorno glorioso di fine estate prima però dovevamo scoprire dove sorgeva verso ferragosto eravamo ormai oltre i terreni dello zio di bruno c'era un grosso affluente da cui l'alpeggio prendeva l'acqua e poco dopo quella biforcazione un ultimo ponte rudimentale nient'altro che un paio di tavole a far da passerella da lì in poi il torrente si assottigliava e non presentava più alcuna difficoltà capì dal diradarsi del bosco che stavamo raggiungendo i 2000 metri gli ontani e le betulle scomparivano dalle rive ogni altro albero lasciava posto all'arice e sopra le nostre teste si apriva quel mondo di pietra che luigi guglielmina aveva chiamato grenon allora il letto del torrente perse le sue sembianze l'aspetto di un solco scavato e modellato dall'acqua e diventò soltanto una pietraia l'acqua letteralmente svanì sotto i nostri piedi usciva lì dai sassi tra le radici contorte di un ginepro non era così che avevo immaginato la mia sorgente e ne fui deluso mi voltai verso bruno che saliva qualche passo più indietro era tutto il pomeriggio che stava per conto suo perso in qualche pensiero quando era di quell'umore io non sapevo far altro che camminare in silenzio e sperare che gli passasse ma appena vide la sorgente si fece attento capì la mia delusione al primo sguardo aspetta disse mi fece cenno di tacere e si mise in ascolto poi si indicò l'orecchio e osservò la pietraia ai nostri piedi l'aria quel giorno non era immobile come in piena estate sui sassi tiepidi tirava un vento più freddo che passando tra le piante sfiorite portava via nugoli di semi soffici e agitava le foglie insieme a quel soffio ascoltando bene sentì un gorgoglio diverso da quello che l'acqua produce alla luce del sole un suono più basso e cupo sembrava che arrivasse da sotto la pietraia capì cos'era e cominciai a seguirlo salendo ancora a caccia dell'acqua che sentivo e non vedevo come un rabdomante bruno che sapeva già cosa avremmo trovato mi lasciava andare avanti quel che trovammo fu un lago nascosto in una conca ai piedi del grenon era ampio due o trecento metri il più grande che avessi mai visto in montagna e di forma circolare il bello dei laghi alpini è che non te li aspetti salendo se non sai che ci sono e non li vedi finché non fai un ultimo passo superi l'altezza dell'argine e a quel punto davanti agli occhi ti si apre di colpo un paesaggio nuovo la conca era tutta pietraia sul lato al sole e via via che lo sguardo voltava verso l'ombra si copriva di salici e rododendri prima e poi ancora di bosco al centro c'era questo lago osservandolo riuscivo a capire come era nato l'antica frana che dall'alpeggio dello zio di bruno si vedeva dal basso aveva chiuso il ballone come una diga così a monte della frana si era formato il lago che raccoglieva l'acqua di fusione dei nevaili intorno e a valle la stessa acqua tornava in superficie dopo essere filtrata sotto la pietraia per diventare il nostro torrente mi piaceva che nascesse in quel modo mi sembrava un'origine degna di un grande fiume come si chiama questo lago chiesi e ma che ne so disse bruno grenon qua si chiama tutto così era tornato al suo amore di prima si sedette sull'erba io restai in piedi accanto a lui era più facile guardare il lago che guardarci tra noi qualche metro più in là emergeva dall'acqua un masso che sembrava un'isoletta e andava bene per occupare gli occhi con qualcosa i tuoi hanno parlato con mio zio disse bruno dopo un po lo sapevi no menti strano ma tanto io non ci capisco niente di cosa dei segreti che avete tra di voi e di cosa hanno parlato con tuo zio di me rispose allora mi sedetti accanto a lui quello che poi raccontò non mi sorprese per niente i miei ne discutevano da tempo e non avevo dovuto origliare alle porte per conoscere le loro intenzioni il giorno prima avevano proposto a luigi guglielmina di portare bruno con noi in settembre portarlo a milano gli avevano offerto di ospitarlo in casa nostra e iscriverlo a una scuola superiore un istituto tecnico o professionale o quello che preferiva avevano pensato a un anno di prova se bruno non si fosse trovato bene avrebbe potuto rinunciare e tornare a grana l'estate successiva in caso contrario i miei sarebbero stati contenti di tenerlo con noi fino al diploma a quel punto avrebbe deciso lui liberamente che cosa fare della sua vita anche nel racconto di bruno riuscivo a sentire la voce di mia madre tenerlo con noi liberamente della sua vita dissi tuo zio non accetterà mai e invece si disse bruno sai perché perché per i soldi scavò nella terra con un dito raccolse un sassolino e aggiunse chi è che paga è questo che interessa a mio zio i tuoi hanno detto che pensano a tutto loro vitto alloggio scuola tutto quanto per lui è un affare e tua zia cosa dice per lei va bene e tua mamma bruno sbuffò tirò quel sassolino nell'acqua era così piccolo che non fece alcun rumore mia mamma cosa dice il solito un bel niente c'era uno strato di fango secco sulle rocce della riva una crosta nera alta una spanna da cui si capiva quant'era stato alto il lago in primavera ora i nevai che lo alimentavano erano ridotti a macchie grigie nei canaloni e se l'estate fosse proseguita avrebbero finito per estinguersi del tutto senza la neve chissà che cosa ne sarebbe stato del lago e tu chiesi io cosa ti piacerebbe venire a milano disse bruno e che ne so sai che da ieri che cerco di immaginarmelo è che non riesco non so nemmeno com'è restammo zitti io che sapevo com'era non avevo bisogno di immaginare niente per rivoltarmi contro quell'idea bruno avrebbe odiato milano e milano avrebbe rovinato bruno come quando sua zia lo lavava e vestiva e lo mandava da noi a imparare i verbi io proprio non capivo perché facessero di tutto per trasformarlo in quello che non era che male ci vedevano a lasciarlo pascolare le mucche per il resto della sua vita non mi rendevo conto che era un pensiero terribilmente egoista perché non riguardava davvero bruno i suoi desideri il suo futuro ma solo l'uso di lui che volevo continuare a fare la mia estate il mio amico la mia montagna io speravo che niente sarebbe mai cambiato lassù nemmeno i ruderi bruciati o i mucchi di letame lungo la strada che lui e i ruderi e il letame restassero sempre uguali fermi nel tempo ad aspettare me forse dovresti dirglielo proposi che cosa che non ci vuoi venire a milano che vuoi restare qui piegò le sopracciglia non si era aspettato quel consiglio da me forse lo pensava anche lui però non gli andava che lo pensassi io ma sei matto disse io non ci resto qui è tutta la vita che vado su e giù per questa montagna poi si alzò in piedi lì sul prato dove eravamo mise le mani intorno alla bocca e gridò oh mi senti sono io bruno io me ne vado dalla sponda opposta del lago il pendio del grenon ci rimandò l'eco del suo grido sentimmo dei sassi frenare il grido aveva disturbato dei camosci che ora si arrampicavano per la pietraia fu bruno a indicarmeli passavano in mezzo alle rocce che li rendevano quasi invisibili ma quando attraversarono un nevaio riuscì a contarli era un piccolo branco di cinque esemplari risalirono quella macchia di neve in fila indiana raggiunsero la cresta e lì si fermarono per un momento come per guardarci un'ultima volta prima di andarsene poi scesero uno a uno giù per l'altro versante il 4000 dell'estate doveva essere il castore ne scalavamo uno all'anno mio padre e io sul monte rosa per chiudere in bellezza la stagione quando eravamo ormai allenatissimi non avevo smesso di andare sul ghiacciaio né di soffrirne gli effetti mi ero solo abituato a stare male e che il malessere facesse parte di quel mondo così come le sveglie prima dell'alba o il cibo liofilizzato dei rifugi o il gracchiara dei corvi d'alta quota era un andare in montagna che non aveva più niente di avventuroso era un brutale mettere un piede dopo l'altro e vomitare l'anima fino in cima odiavo farlo e ogni volta mi ritrovavo a odiare anche quel deserto bianco eppure andavo fiero dei miei 4000 come di altre tante prove di coraggio nel 1985 il pennarello nero di mio padre aveva raggiunto la vincent nell'86 l'agnifetti lui considerava quelle cime un allenamento si era informato da qualche medico ed era sicuro che il mal di montagna mi sarebbe passato crescendo così entro tre o quattro anni avremmo potuto puntare alle cose serie come la attraversata dei linscam o le rocce della dufour ma del castore più che la lunga cresta ricordo la vigilia in rifugio io e lui da soli un piatto di pasta un mezzo litro di vino sul tavolo gli alpinisti seduti accanto che discutevano tra loro le facce arrossate dalla stanchezza dal sole il pensiero dell'indomani creava nella sala una specie di raccoglimento mio padre davanti a me sfogliava il libro degli ospiti che in rifugio era la sua lettura preferita parlava bene il tedesco e capiva il francese e ogni tanto mi traduceva un passaggio dalle lingue alpine nel libro qualcuno era tornato su una cima dopo 30 anni e ringraziava dio qualcun altro sentiva la mancanza di un amico che non c'era queste cose lo toccavano tanto che prese la penna e si unì a quel diario collettivo quando si alzò per farsi riempire la caraffa spiai ciò che aveva scritto aveva una grafia fitta e nervosa che era difficile da decifrare se non la conoscevi lessi qui con mio figlio pietro di 14 anni saranno le ultime da capo cordata perché tra un po mi tira su lui poca voglia di tornare in città ma mi porto via quel ricordo di queste giornate come il più bel rifugio firmato giovanni guasti invece di commuovermi o inorgoglirmi quelle parole mi diedero ai nervi ci trovavo qualcosa di falso e sentimentale una retorica della montagna che non corrispondeva alla realtà se la sua era un paradiso perché non ci restavamo a vivere perché portavamo via un amico che c'era nato e cresciuto e se la città faceva schifo perché lo costringevamo a viverci con noi ecco cosa avrei voluto chiedere a mio padre e a mia madre anche se è per questo com'è che siete tanto sicuri di sapere che cos'è bene per la vita di un altro come mai non vi viene il dubbio che magari lo sa meglio lui ma quando mio padre tornò era tutto contento era il suo terzo ultimo giorno di ferie un venerdì d'agosto dei suoi 45 anni e se ne stava in un rifugio alpino con il suo unico figlio aveva preso un secondo bicchiere e lo riempì a metà per me forse nella sua fantasia adesso che diventavo grande e mi liberavo del mal di montagna da padre e figlio ci saremmo trasformati in qualcos'altro compagni di cordata come aveva scritto nel libro compagni di bevute magari ci immaginava davvero così entro qualche anno seduti a un tavolo a 3500 metri a bere vino rosso e studiare le carte dei sentieri senza più alcun segreto la pancia come va mi chiese abbastanza bene e le gambe quelle benissimo ottimo allora domani ci divertiamo mio padre sollevò il bicchiere lo feci anch'io assaggià il vino e sentì che mi piaceva mentre lo mandavo giù il tipo seduto accanto scoppiò in una risata disse qualcosa in tedesco e mi mollò una pacca sulla schiena come se fossi appena entrato nella grande famiglia degli uomini e lui mi stesse dando il benvenuto la sera dopo tornammo a grana da reduci del ghiacciaio mio padre con la camicia aperta lo zaino su una spalla sola e l'andatura zoppicante per le vesciche ai piedi io affamato come un lupo perché appena scendevo di quota il mio stomaco si accorgeva di essere vuoto da due giorni mia madre ci aspettava con un bagno caldo e la cena in tabola più tardi sarebbe arrivato il momento dei racconti con mio padre che provava a descriverle il colore del ghiaccio nei crepacci la vertigine delle pareti nord la grazia dei cornicioni di neve sulle creste e io che di tutte quelle visioni avevo ricordi sfocati appannati dalla nausea di solito tacevo avevo già imparato un fatto cui mio padre non si era mai rassegnato e cioè che è impossibile trasmettere a chi è rimasto a casa quel che si prova lassù ma quella sera non arrivammo a raccontare niente stavo per fare il bagno quando sentì la voce di un uomo sbraitare giù in cortile andai alla finestra e scostai le tende vidi un tipo che gesticolava e gridava parole che non capivo c'era solo mio padre là fuori aveva steso i calzettoni sul balcone e ora si stava lavando i piedi doloranti all'abbeveratoio così si alzò dal bordo della vasca per affrontare quello sconosciuto lì per lì pensai che fosse un allevatore infuriato per l'uso della sua acqua a grana inventavano qualunque pretesto per prendersela quei forestieri era facile riconoscere i locali avevano tutti le stesse movenze gli stessi lineamenti forti in cui spiccavano tra fronte e zigomi due occhi celesti quest'uomo era più piccolo di mio padre se non per le braccia muscolose e le mani grosse del tutto sproporzionate al corpo con quelle gli afferrò i lembi della camicia poco sotto il colletto sembrava che lo volesse sollevare mio padre allargò le braccia lo vedevo di spalle immaginavo che dicesse calma calma l'uomo mormorò una parola scoprendo i denti rovinati aveva anche la faccia rovinata non sapevo da cosa perché ero ancora troppo giovane per riconoscere le facce da vino fece una smorfia uguale a quella di luigi guglielmina e in quel momento mi accorsi di quanto gli assomigliava mio padre cominciò a gesticolare piano capivo che si stava spiegando e conoscendolo sapevo che i suoi argomenti erano incontestabili l'uomo abbassò lo sguardo come facevo sempre io sembrava aver avuto un ripensamento ma le mani le teneva sempre lì sul colletto mio padre girò i palmi verso l'alto come dire bene ci siamo chiariti e adesso che si fa c'era qualcosa di ridicolo nel vederlo in quella situazione a piedi nudi sui suoi polpacci la linea dei calzettoni divideva nettamente le caviglie pallide da una breve fascia di pelle scarlatta sotto al ginocchio la zona che i pantaloni alla zuava lasciavano scoperta ecco un cittadino istruito sicuro di sé abituato a dire agli altri cosa fare che si era appena ostionato i polpacci sugli acciaio e cercava di ragionare con un montanaro ubriaco l'uomo decise che ne aveva abbastanza da un momento all'altro senza preavviso abbassò la mano destra la strinse a pugno e colpì mio padre all'altezza della tempia era la prima volta in vita mia che vedevo un pugno vero il rumore delle nocche sullo zigomo mi arrivò fin dentro al bagno secco come una legnata mio padre fece due passi indietro barcollò riuscì a non cadere per terra però subito dopo furono le braccia a cadergli lungo i fianchi e le spalle gli si incurvarono un po era la schiena di un uomo molto triste l'altro disse ancora una cosa prima di andarsene una minaccia o una promessa e non mi sorprese alla fine vederlo dirigersi verso la casa dei guglielmina durante quel breve scontro avevo capito chi era era tornato per reclamare ciò che era suo non sapeva di essersela presa con la persona sbagliata ma in fondo non cambiava niente quel pugno fu tirato in faccia a mio padre perché si piantasse ben chiaro nella testa di mia madre fu l'irruzione della realtà nel suo idealismo e forse anche nella sua arroganza il giorno dopo bruno e suo padre sparirono dalla circolazione al mio l'occhio sinistro diventò gonfio e blu ma non credo che fosse quello a fargli più male quando la sera si mise in macchina e partì per milano la settimana successiva era l'ultima per noi a grana la zia di bruno venne a parlare con mia madre abilita guardinga preoccupata forse soprattutto di non perdere degli inquilini fedeli come noi mia madre la tranquillizzò stava già pensando a come contenere i danni salvare i rapporti faticosamente costruiti per me fu una settimana interminabile pioveva spesso una coltre di nuvole basse nascondeva le montagne e qualche volta si diradava scoprendo la prima neve verso i 3000 metri mi sarebbe piaciuto prendere un sentiero di quelli che conoscevo e andare su a pestarla senza chiedere niente a nessuno invece restai in paese a ripensare a quello che avevo visto e sentirmi in colpa per quello che avevo provato poi la domenica chiudemmo casa e andammo via anche noi 4 quel pugno non me lo levai dalla testa finché un paio d'anni dopo non trovai il coraggio di tirare il mio fu il primo di una serie in verità e i più duri li avrei dati in pianura in un tempo successivo ma ora mi sembra giusto che la mia età ribelle sia cominciata in montagna come tutto quello che ha contato qualcosa per me il fatto in sé era da nulla avevo 16 anni e un giorno mio padre decise di portarmi a dormire in tenda ne aveva comprata una vecchia e pesantissima in qualche bancarella di roba militare aveva in mente di piantarla in riva un laghetto pescare un paio di trote senza farsi sorprendere dai forestali accendere un fuoco al calare del buio e arrostirci il pesce sopra e poi chissà tirare tardi bevendo e cantando davanti alle braci non gli era mai importato niente del campeggio perciò sospettavo che sotto ci fosse qualcos'altro in programma per me negli ultimi tempi mi ero rintanato in un angolo da cui osservavo la nostra vita familiare con un occhio impietoso le abitudini inestirpabili dei miei genitori le innocue sfuriate di mio padre e i trucchi con cui mia madre le arginava le piccole prepotenze i sotterfugi a cui non si accorgevano più di ricorrere lui emotivo autoritario insofferente lei forte e tranquilla e conservatrice il modo rassicurante di fare sempre la stessa parte sapendo che l'altro farà la sua non erano vere discussioni le loro ma recite di cui ogni volta prevedevo il finale e in quella gabbia finivo per essere rinchiuso anch'io mi era venuta l'urgenza di fuggire da lì però non ero mai riuscito a dirlo mai che mi uscisse una parola di bucca una volta che la mia voce protestasse su alcunché e credo fosse proprio per questo per farmi parlare che adesso era spuntata quella maledetta tenda dopo pranzo mio padre stese il materiale in cucina e lo divise in modo da spartirci il carico solo le aste i picchetti saranno pesati 10 chili più i sacchi a pelo le giacche a vento i maglioni il cibo gli zaini furono subito pieni in ginocchio sul pavimento mio padre cominciò ad allargare ogni cinghia e poi a spingere comprimere tirare in guerra con le masse i volumi e io già mi sentivo sudare sotto quel carico nell'affa del pomeriggio ma non fu il peso a sembrarmi insopportabile fu proprio la scena che aveva immaginato lui o loro il fuoco il laghetto le trote il cielo stellato tutta quella vicinanza papà dissi dai lascia perdere aspetta aspetta disse lui ancora cacciando qualcosa dentro lo zaino concentrato nello sforzo no dico davvero non serve mio padre si fermò e alzò lo sguardo aveva un'espressione furiosa per la lotta e da come mi scrutava mi sentì un altro zaino ostile un'altra cinghia che non gli voleva obbedire scrollai le spalle per mio padre se stavo zitto significava che poteva parlare lui distese la fronte disse togliamo un po di roba magari mi dai una mano ti va no risposi è proprio che non mi va e che cos'è che non ti va la tenda la tenda il lago tutto quanto come tutto quanto non ne ho voglia non ci vengo non avrei potuto dargli un colpo peggiore rifiutare di seguirlo in montagna era inevitabile che succedesse prima o poi se lo doveva aspettare ma ogni tanto penso che lui non avendo avuto un padre certi attacchi non li avesse sferrati perciò era impreparato a subirli ne fu molto ferito avrebbe potuto farmi altre domande magari sarebbe stata l'occasione buona per ascoltare quel che avevo da dire ma si vede che non era capace o non gli sembrava necessario o in quel momento si sentiva troppo offeso per pensarci lasciò lì gli zaini tenda e sacchiappelo e se ne andò da solo a camminare per me fu una liberazione a bruno era toccato un destino opposto e adesso faceva il muratore con suo padre non lo vedevo quasi mai lavoravano in alta montagna a costruire i rifugi e gli alpeggi e in settimana si fermavano lassù anche a dormire lo incontravo il venerdì o il sabato non a grana ma in qualche bar del fondo valle avevo tutto il tempo che volevo adesso che mi ero liberato dall'obbligo dell'alpinismo e mentre mio padre saliva alle cime io scendevo a bassa quota a cercare qualcuno della mia età mi bastò farlo due o tre volte per essere ammesso nella compagnia dei villeggianti passavo i pomeriggi tra le panchine di un tennis e i tavolini di un bar sperando che nessuno si accorgesse che non aveva un soldo per ordinare nulla ascoltavo le chiacchiere guardavo le ragazze ogni tanto alzavo gli occhi alle montagne riconoscevo i pascoli e le minuscole macchie bianche delle baite intonacate il verde acceso dei larici che lasciava il posto al verde cupo degli abeti il dritto e l'inverso sapevo di avere poco da spartire con quei ragazzi in villeggiatura ma volevo combattere il mio istinto a isolarmi poi verso le sette arrivavano al bar gli operai i muratori gli allevatori scendevano dai furgoni e dai fuoristrada sporchi di fango di calce o di segatura l'andatura ciondolante che imparavano fin da ragazzi come se insieme al corpo dovessero sempre spostare un gran peso si piazzavano al banco a lamentarsi e imprecare far battute alle cameriere e offrire giri di bevute bruno era tra loro aveva messo su muscoli da quel che vedevo e gli piaceva mostrarli arrotolando le maniche della camicia possedeva un'intera collezione di berretti e un portafoglio che spuntava dalla tasca dei jeans questo mi colpiva anche più del resto guadagnare soldi era una prospettiva lontanissima per me li spendeva senza nemmeno contarli pagando il suo giro con qualche banconota cartocciata imitando gli altri però a un certo punto lì dal banco con la stessa aria distratta si voltava verso di me sapeva già di incontrare i miei occhi mi faceva un cenno con il mento io ricambiavo alzando le dita di una mano ci guardavamo per un secondo tutto qui non se ne accorgeva nessuno ne succedeva di nuovo nel corso della serata e io non ero sicuro di interpretare bene il significato di quel saluto poteva voler dire mi ricordo di te mi manchi oppure sono passati solo due anni ma sembra una vita non ti pare o forse ehi berio ma che cavolo ci fa in mezzo a quella gente non sapevo che cosa pensasse bruno dello scontro tra i nostri padri se avesse rimpianti per com'era andata oppure dal suo attuale punto di vista quella storia gli sembrasse lontana irreale come sembrava a me non aveva affatto un'aria infelice può darsi che invece ce l'avessi io suo padre era con lui nella fila dei bevitori tra quelli con la voce più molesta il bicchiere sempre vuoto si rivolgeva bruno come fosse solo un altro dei suoi compagni non mi piaceva quell'uomo ma in questo li invidiavo non c'era niente di visibile tra loro non un tono di voce più brusco premuroso non un moto di fastidio confidenza o imbarazzo e a non saperlo nessuno avrebbe detto che erano padre e figlio non tutti i ragazzi della valle perdevano l'estate al bar giorni dopo qualcuno mi portò in una zona al di là del fiume un bosco di pino silvestre che nascondeva alcuni enormi massi estranei a quel paesaggio come meteoriti doveva averli spinti fin lì gli acciaio nella notte dei tempi poi la terra le foglie il muschio li avevano coperti e i pini c'erano cresciuti intorno e sopra ma alcuni dei massi erano stati riportati alla luce puliti con spazzole di ferro e perfino battezzati con un nome i ragazzi si sfidavano a trovare tutti i modi possibili di scalarli senza corde né chiodi provando e riprovando passaggi a un metro da terra cadendo sul morbido del sottobosco i due o tre più forti erano un piacere da guardare agili come ginnasti le mani escoriate e bianche di magnesite avevano portato quel gioco in montagna dalla città lo insegnavano volentieri gli altri perciò chiesi di provare anch'io sentì subito di essere adatto ad arrampicare in fondo ero già salito per rocce di ogni tipo con bruno senza saperne niente mentre mio padre mi aveva sempre messo in guardia dall'avventurarmi dove servivano le mani forse anche per questo decisi che dovevo diventare bravo al tramonto la compagnia si allargava chi veniva a far festa qualcuno accendeva un fuoco qualcun altro portava da fumare e da bere ci sedevamo lì intorno allora e mentre girava una bottiglia di vino ascoltavo discorsi del tutto nuovi per me e mi affascinavano quanto le ragazze al di là del falò imparai la storia degli hippie californiani che avevano inventato l'arrampicata libera moderna vivacando per intere estati sotto le pareti di iosemiti scalando mezzi nudi o dei francesi che si allenavano sulle scogliere della provenza avevano i capelli lunghi e l'abitudine di andare su leggeri e veloci e quando passavano dal mare alle guglie del monte bianco umiliavano i vecchi alpinisti come mio padre l'arrampicata era il piacere di stare insieme essere liberi e sperimentare e per questo un sasso di due metri in riva al fiume valeva quanto un 8.000 non c'entrava con il culto della fatica né con la conquista delle cime ascoltavo e intanto nel bosco calava il buio i tronchi contorti dei pini il profumo forte di resina i massi bianchi al vagliore delle fiamme lo rendevano un rifugio più accogliente di tutti quelli del monte rosa sul tardi qualcuno si metteva a provare un passaggio con la sigaretta tra le labbra l'equilibrio reso incerto dall'alcol qualcuno si allontanava insieme alla ragazza che aveva accanto non mi rendevo conto delle differenze tra noi nel bosco forse perché lì diventavano meno evidenti che altrove erano tutti ragazzi ricchi di milano genova e torino i meno ricchi abitavano nelle villette dell'alta valle edifici costruiti in fretta e furia ai piedi delle piste da sci i più ricchi nelle antiche case di montagna e in frazioni appartate dove ogni pietra e ogni tavola erano state tolte numerate poi posate di nuovo intorno al disegno di un architetto in una mi capitò di entrare accompagnando un amico a prendere da bere per la sera sembrava un vecchio fienile di tronchi da fuori da dentro si rivelava la casa di un antiquario o di un collezionista un'esposizione di libri d'arte quadri mobili sculture e bottiglie anche il mio amico aprì un armadio e riempimmo uno zaino ciascuno ma tuo padre non si arrabbia che gli freghiamo il vino chiesi mio padre rispose lui come se trovasse ridicola la parola stessa lasciamo la cantina svaligiata e corremo nel bosco il mio di padre intanto faceva l'offeso aveva ricominciato ad andare in montagna da solo alzandosi all'alba e partendo prima che noi ci svegliassimo e qualche volta mentre era via spiavo la cartina per controllare le sue nuove conquiste si era messo a esplorare una parte della valle che avevamo sempre evitato perché si vedeva anche dal basso che non c'era niente lassù né villaggi né acqua né rifugi né belle cime ma solo versanti che salivano dritti e brulli per duemila metri e infinite pietraie credo che ci andasse a sbollire la delusione o a cercare un paesaggio che assomigliesse al suo umore non mi aveva più invitato a seguirlo dal suo punto di vista dovevo essere io adesso a presentarmi da lui se avevo avuto il coraggio di dire no ora mi toccava quello di chiedere scusa e per favore venne l'ora degli acciaio i nostri due giorni di gloria a ferragosto e lo vedi preparare i ramponi la piccozza severa come un'arma la borraccia ammaccata dai colpi subiti mi sembrava l'ultimo reduce di un alpinismo d'assalto uno di quegli scalatori soldati che negli anni 30 andavano a morire in massa sulle pareti nord delle alpi attaccando la montagna alla cieca devi parlarci disse mia madre quella mattina guarda che ci sta male ma non è lui che mi deve parlare tu sei capace lui no ma capace di cosa dai che lo sai aspetta solo che vai lì e gli chiedi di andare con lui lo sapevo ma non lo feci e ne andai in camera poco dopo guardai dalla finestra mio padre che si allontanava col suo passo pesante lo zaino sovraccarico di ferraglia non si va da soli sugli acciaio e sapevo che quella sera gli sarebbe toccata una ricerca umiliante ce n'era sempre almeno uno così in rifugio girava di tavolo in tavolo ascoltava un po i discorsi si introduceva nella conversazione e infine proponeva di aggregarsi per l'indomani ben sapendo che nessuno era contento di legare un estraneo alla propria corda in quel momento mi sembrò la punizione perfetta per lui e bianchio la mia quell'estate dopo tanto allenamento sui massi con due ragazzi andai a fare la mia primavera via d'arrampicata uno era quello del vino il figlio del collezionista un genovese tra i più forti della compagnia l'altro un suo amico che aveva cominciato da qualche mese senza molta passione né talento forse solo per seguire lui la parete era tanto vicina alla strada che ci bastò attraversare un prato per arrivare all'attacco e così a strapiombo che le bestie la usavano per ripararsi dalla pioggia e dal sole ci mettemmo le scarpette tra le mucche poi il genovese mi consegnò un imbrago e un moschettone a ghiera legò noi due ai capi della corda e se stesso nel mezzo e senza tante cerimonie disse all'altro di fargli sicurezza e partì arrampicava leggero flessuoso dando la sensazione di non avere peso e che i gesti non gli costassero alcuna fatica non aveva bisogno di testare qua e là per trovare gli appigli andava a colpo sicuro ogni tanto sganciava un rinvio dall'imbrago lo agganciava a uno dei chiodi che segnavano la via passava la corda nel moschettone poi tuffava la mano nel sacchetto della magnesite si soffiava sulle dita e ricominciava a salire senza sforzo era molto elegante a vedersi eleganza grazie leggerezza erano tutte virtù che avrai tanto voluto imparare da lui il suo amico non ne possedeva neanche una lo vedevo da vicino arrampicando perché quando il genovese arrivò in sosta ci gridò di salire insieme lasciando qualche metro di distanza tra di noi così un tiro dopo l'altro mi ritrovai questo compagno sopra la testa spesso dovevo fermarmi perché gli arrivavo sotto le scarpe allora mi voltavo a guardare il mondo alle mie spalle i campi ingialliti di fine agosto il fiume che scintillava al sole le auto già piccole sulla regionale il vuoto non mi faceva paura lontano da terra nell'aria mi sentivo bene e i movimenti dell'arrampicata venivano naturali al mio corpo gli richiedevano sì concentrazione ma non muscoli né polmoni il mio compagno invece usava troppo le braccia e poco i piedi stava appiccicato alla roccia così era costretto a cercare gli appigli attentoni e non si faceva scrupoli ad aggrapparsi al rinvio quando ne trovava uno non si può fare così gli dissi sbagliando avrei dovuto lasciare che facesse come gli pareva lui mi guardò infastidito disse ma cosa vuoi vuoi superare che sei sempre qua sotto da quel momento fu il suo avversario in sosta disse a quell'altro pietro a fretta la presa per una corsa io non dissi il tuo amico è un baro e si tiene ai chiodi capivo che sarei finito uno contro due io mantenne a distanza da lì in poi ma quello se l'era legata al dito ogni tanto faceva una battuta e il mio agonismo diventò la barzelletta della giornata nello scherzo c'ero io che correvo dietro a loro gli arrivavo sotto e bisognava scalciare per tenermi giù scrollarmi via dai piedi il figlio del collezionista rideva quando spuntai all'ultima sosta mi disse vai proprio forte vuoi provare per primo va bene risposi in realtà volevo solo che finisse presto e mi lasciassero in pace ero già assicurato e avevo con me tutti i rinvii non dovevamo nemmeno fare le solite manovre per darci il cambio così alzai lo sguardo vidi un chiodo piantato in una fessura e andai trovare la via è facile se hai una corda sopra la testa se ce l'hai sotto i piedi allora è un'altra cosa quello a cui agganciai il primo moschettone era un vecchio chiodo ad anello non una delle placche in acciaio che luccicavano lungo la parete decisi di non farci caso e andai avanti per la fessura perché stavo salendo bene soltanto che più in alto la fessura cominciò ad assottigliarsi e poco dopo si esaurì tra le mie mani adesso avevo sopra la testa un tetto nero e umido che strapiombava e nessuna idea di come superarlo dove vado gridai non vedo da qui mi gridò il genovese ci sono chiodi no di chiodi non ce n'erano mi tenni bene all'ultimo tratto della fessura e mi sporsi da una parte e dall'altra per vedere se ne trovavo allora scoprì di avere seguito una falsa pista la fila di placche ed acciaio andava su di traverso qualche metro alla mia destra aggirando quel tetto per arrivare in cima ho sbagliato strada gridai ah sì mi gridò lui in risposta e com'è lì riesce ad attraversare no è tutto liscio e allora devi tornare giù non vedevo ma sentivo che la sotto si divertivano io però non avevo mai arrampicato in discesa la stessa fessura che avevo risalito mi sembrò impossibile a guardarla dall'alto mi venne da aggrapparmi con più forza e nello stesso momento mi resi conto che quel chiodo di ferro arrugginito era ormai a quattro o cinque metri di distanza una gamba mi cominciò a tremare un tremito incontrollabile che partiva dal ginocchio e arrivava fino al tallone il piede non mi obbediva più anche le mani sudavano e mi pareva che la roccia mi scivolasse via cado gridai tieni poi andai giù un volo di una decina di metri non è niente di davvero grave però bisognerebbe saper cadere spingersi in fuori dalla parete e attutire il colpo con le gambe alla fine del volo a me non l'aveva insegnato nessuno e andai giù dritto scorticandomi sulla roccia nel tentativo di tenermi sentì una fitta linguine quando arriva in fondo ma quest'altro dolore era una fortuna voleva dire che qualcuno aveva bloccato la corda ora non ridevano più poco dopo uscimmo in cima alla parete fu strano a quel punto trovarsi di nuovo nei prati con un filo tirato a un passo dal precipizio le mucche al pascolo un alpeggio mezzo di roccato un cane che abbaiava ci sedemmo per terra ero spaventato e dolorante avevo sangue dappertutto e mi sa che gli amici si sentivano in colpa perché uno dei due mi chiese sei sicuro che stai bene ma sì vuoi una sigaretta grazie decisi che era l'ultima che avremmo diviso la fumai sdraiato sul prato guardando il cielo mi dissero ancora qualcosa ma a quel punto io già non li ascoltavo più come ogni estate il tempo cambiò verso la fine del mese pioveva e faceva freddo ed era la montagna stessa metterti voglia di scendere a valle a godere del tepore di settembre mio padre era ripartito mia madre ricominciò ad accendere la stufa nelle brevi schiarite andavo a raccogliere legna nel bosco tirando giù i rami secchi dai larici che si spezzavano con uno schiocco stavo bene lì a grana ma questa volta fremevo anch'io per tornare in città sentivo di avere tante cose da scoprire persone di cui andare in cerca e che il prossimo futuro mi riservava importanti cambiamenti vivevo quegli ultimi giorni sapendo che in molti sensi erano gli ultimi come già un ricordo della montagna che era stata mi piaceva che fossero così io e mia madre di nuovo soli il fuoco che scoppiettava in cucina il freddo della mattina presto le ore spese a leggere e vagabondare nei boschi non c'erano sassi su cui arrampicare a grana ma scoprì che riuscivo ad allenarmi bene sui muri delle baite salivo e scendevo con metodo dagli spigoli evitando le prese troppo facili e provando a tenermi sulle tacche più sottili solo con la punta delle dita poi attraversavo da uno spigolo all'altro e ritorno dovevo avere scalato in quel modo tutte le case diroccate del paese una domenica il cielo fu di nuovo pulito facevamo colazione quando bussarono alla porta era bruno stava lì sul ballatoio e sorrideva ehi berio disse vieni montagna mi raccontò senza preamboli che quella primavera suo zio aveva avuto l'idea di prendere delle capre le lasciava allo stato brado sulla montagna di fronte all'alpeggio così non doveva far altro che osservarle con il binocolo la sera controllando che ci fossero tutte e non si allontanassero da dove le poteva vedere solo che in quelle ultime notti là in alto aveva nevicato e lo zio non le trovava più facile che fossero rintanate in qualche buco o magari chissà scappate dietro un branco di stambecchi di passaggio bruno ne parlava come se fosse un'altra delle imprese sballate di suo zio possedeva una moto adesso un ferro vecchio senza targa con cui facemmo tutta la strada fino all'alpeggio schivando i rami bassi dei larici e riempiendoci di fango nelle pozzanghere mi piaceva stargli aggrappato alla schiena ne avvertivo alcun imbarazzo da parte sua poi partimmo di buon passo per un sentiero dritto sull'inverso dei pascoli di suo zio in quell'erba magra e sassosa allo sterco delle capre era dappertutto seguendo quello risalimmo una riva di rododendri e dei salti di roccia su cui scorreva un torrente quasi secco poi cominciò la neve fino a quel momento io della montagna conoscevo una stagione sola una breve estate che all'inizio di luglio assomigliava alla primavera e a fine agosto all'autunno ma dell'inverno non sapevo proprio niente ne parlavamo spesso io e bruno da piccoli quando si avvicinava il ritorno in città e diventavo malinconico e immaginavo di vivere lassù per tutto l'anno insieme a lui ma tu non sai com'è qui d'inverno mi diceva c'è solo neve mi piacerebbe vederla rispondevo io e adesso eccola lì questa non era la neve ghiacciata dai canaloni a 3000 metri era neve fresca soffice che entrava nelle scarpe e bagnava i piedi ed era strano sollevarli e trovare nell'orma schiacciata i fiori di agosto arrivava appena alla caviglia ma bastava cancellare ogni traccia del sentiero copriva gli arbusti i buchi e i sassi così ogni passo poteva nascondere una trappola e io che sulla neve non sapevo camminare non facevo che seguire bruno mettere il piede dove l'aveva messo lui come una volta non capivo quale istinto un memoria lo guidasse gli andavo dietro e basta raggiungemmo il crinale che dava sull'altro versante e appena il vento girò ci portò il suono dei campanacci le capre si erano rifugiate più in basso sotto le prime rocce scendere non fu complicato stavano rintanate a gruppi di tre o quattro le madri con i capretti intorno negli spiazzi sgombri dalla neve bruno le contò e vide che non ne mancava nessuna erano meno obbedienti delle mucche inselvatichite da un'estate in montagna e risalendo per la nostra stessa traccia lui doveva gridare per tenerle insieme tirava palle di neve a quelle che se ne andavano per conto loro imprecava contro lo zio e le sue idee geniali tornammo fino al crinale e poi giù di nuovo nella neve in questo corteo disordinato e chiassoso doveva essere mezzogiorno quando ritrovamo l'erba sotto i piedi da un momento all'altro era di nuovo estate le capre affamate si dispersero per i prati noi due proseguimo di corsa non perché avessimo fretta ma perché sapevamo andarci solo così in montagna e la discesa ci aveva sempre resi euforici quando arrivamo alla moto bruno disse ti ho visto mentre ti arrampicavi sei bravo ho cominciato quest'estate e ti piace un sacco come il gioco del torrente mi misi a ridere no dissi non così tanto io quest'estate ho costruito un muro dove su in montagna in una stalla stava crollando e abbiamo dovuto rifarlo tutto solo che non c'era la strada andavo avanti e indietro con la moto abbiamo dovuto lavorare come una volta pala secchio e piccone e ti è piaciuto sì disse dopo averci pensato un po su il lavoro sì è difficile fare un muro in quel modo qualcos'altro non gli era piaciuto ma non mi disse che cos'era io non glielo chiesi non gli chiesi come andava con suo padre né quanti soldi guadagnava né se aveva una fidanzata o dei progetti per il futuro né che cosa pensava di quello che era successo tra noi e lui nemmeno non mi chiese come stavo come stavano i miei e io non gli risposi la mamma sta bene il papà sempre incazzato con me sono cambiate un po di cose quest'estate credevo di aver trovato degli amici ma mi sbagliavo ho baciato due ragazze in una sera sola invece gli dissi che sarei tornato a granà a piedi sei sicuro sì è che domani parto mi va di camminare giusto allora ciao era il mio rito di fine estate un ultimo giro da solo per salutare la montagna così guardai bruno inforcare la moto e avviarla dopo qualche tentativo con uno scoppio e uno sbuffo di fumo nero dalla marmitta aveva un certo stile come motociclista alzò una mano per salutarmi e diede gas io ricambiai saluto anche se ormai non mi guardava più allora non potevo saperlo ma non ci saremmo rivisti per moltissimo tempo l'anno dopo ne avrei avuti 17 e a grana sarei tornato solo per qualche giorno e poi avrei smesso di andarci del tutto il futuro mi allontanava da quella montagna di infanzia era un fatto triste e bello e inevitabile e di questo sì e me ne rendevo ormai conto quando bruno e la sua moto sparirono nel bosco mi voltai verso il pendio da cui eravamo scesi e prima di andarmene restai per un po a osservare la nostra lunga traccia nella neve parte seconda la casa della riconciliazione 5 mio padre morì quando lui aveva 62 anni e io 31 solo durante il funerale mi accorsi di avere l'età che aveva lui quando ero nato io ma i miei 31 anni assomigliavano ben poco ai suoi io non mi ero sposato non ero entrato in fabbrica non avevo fatto un figlio e la mia vita mi sembrava per metà quella di un uomo per metà quella di un ragazzo abitavo da solo in un monolocale ed era un lusso che faticavo a permettermi avrei voluto guadagnarmi da vivere come documentarista ma per pagare l'affitto accettavo lavori di ogni tipo ero emigrato anch'io però dai miei genitori avevo ereditato l'idea che a un certo punto della giovinezza uno debba dire addio al posto in cui è nato e cresciuto e andare a diventare grande da un'altra parte così a 23 anni fresco di militare ero partito per raggiungere una ragazza a torino poi la storia con la ragazza non era durata quella con la città sì tra vecchi fiumi e vecchi caffè sotto i portici mi ero sentito subito a mio agio leggevo emingway a quei tempi vagabondavo senza un soldo e cercavo di tenermi aperto agli incontri alle offerte di lavoro e alle possibilità con la montagna a fare da sfondo alla mia festa mobile anche se non c'ero mai più tornato vederla all'orizzonte quando uscivo di casa mi pareva una benedizione e così ora mi dividevano da mio padre 120 chilometri di campi e risaie che non sono niente però bisogna aver voglia di farli un paio d'anni prima gli avevo dato un'ultima grande delusione lasciando l'università io che in matematica avevo sempre avuto il massimo dei voti lui che aveva sempre previsto per me un futuro simile al suo mio padre mi disse che buttavo via la vita io gli risposi che secondo me l'aveva buttata via lui non ci parlamo più per un anno intero quello in cui andavo e venivo dalla mia caserma di soldato e dopo il congedo partì quasi senza salutare meglio per lui e per me che andassi per la mia strada a inventarmi una vita diversa dalla sua da un'altra parte così una volta lontani nessuno dei due fece più nulla per colmare la distanza con mia madre era diverso siccome al telefono parlavo poco ebbe l'idea di scrivermi delle lettere scoprì che le rispondevo mi piaceva sedermi al tavolo la sera prendere carte e penne raccontarle quello che mi capitava fu per lettera che le parlai della decisione di scrivermi a una scuola di cinema i miei primi amici a torino li trovai lì mi affascinava il documentario mi sentivo portato a osservare ascoltare e mi confortava che lei rispondesse sì sei sempre stato bravo in questo sapevo che ci sarebbe voluto moltissimo tempo per farne un lavoro ma mia madre mi incoraggiò fin dall'inizio per anni mi mandò dei soldi e io le spedì in cambio tutto quello che facevo ritratti di persone luoghi esplorazioni della città piccoli film che nessuno vedeva ma di cui andavo orgoglioso mi piaceva la vita che stava prendendo forma le dicevo così quando mi chiedeva se ero felice evitavo di rispondere ad altre domande quelle sulle ragazze con cui non durava mai più di qualche mese perché appena le cose si facevano serie mi dileguavo e tu scrivevo io sto bene il papà invece lavora troppo e gli fa male rispondeva mia madre mi raccontava più di lui che di sé la fabbrica era in crisi e mio padre dopo 30 anni di carriera anziché lasciar perdere aspettare la pensione aveva raddoppiato gli sforzi viaggiava molto in macchina da solo guidando per centinaia di chilometri tra uno stabilimento e l'altro tornava a casa esausto e crollava a letto appena dopo cena il sonno durava poco di notte si alzava e si rimetteva a lavorare tanto i pensieri non lo facevano dormire ma secondo mia madre non erano solo pensieri sulla fabbrica ansioso lo è sempre stato però adesso sta diventando una malattia era in ansia per il lavoro in ansia per la vecchiaia che si avvicinava in ansia per mia madre appena le veniva un'influenza in ansia anche per me si svegliava di soprassalto con l'idea che stessi male allora le chiedeva di telefonarmi anche a costo di buttarmi giù dal letto lei lo convinceva ad aspettare qualche ora e cercava di tranquillizzarlo farlo dormire farlo rallentare non che il suo stesso corpo non gli avesse già mandato dei segnali ma lui sapeva vivere soltanto così con il fiato sul collo imporgli la calma era come costringerlo ad andare in montagna più piano godendosi l'aria buona e senza fare a gara con chiunque in parte era l'uomo che conoscevo e in parte un altro quello che scoprivo nelle lettere di mia madre l'altro mi incuriosiva mi tornò in mente una certa fragilità che avevo intravisto in lui certi attimi di smarrimento che subito si affrettava a nascondere quando mi sporgevo da una roccia gli veniva distinto di afferrarmi per la cintura dei pantaloni quando stavo male sul ghiacciaio e si agitava più lui di me mi dissi che forse quest'altro padre l'avevo avuto sempre lì e non me ne ero mai accorto per quanto era ingombrante il primo e cominciai a pensare che in futuro avrei dovuto o potuto fare un altro tentativo poi quel futuro scomparve di colpo insieme alle possibilità che conteneva una sera di marzo del 2004 mia madre chiamò per dirmi che mio padre aveva avuto un infarto in autostrada l'avevano trovato in una piazzola di sosta non aveva provocato incidenti anzi era riuscito a fare tutto per bene aveva messo le quattro frecce e frenato e accostato come se avesse bucato una gomma ho finito la benzina invece era il cuore ad averlo piantato in asso troppi chilometri a tavoletta poca manutenzione mio padre doveva aver sentito un gran dolore al petto e fatto in tempo a capire qual era il guaio nella piazzola aveva spento il motore non si era nemmeno slacciato la cintura era rimasto lì seduto e l'avevano trovato così come un pilota ritirato dalla corsa la fine più beffarda per uno come lui con le mani sul volante e tutti che lo superavano quella primavera tornai per qualche settimana a milano da mia madre oltre alle questioni di cui c'era da occuparsi sentivo il bisogno di stare un po con lei dopo i giorni convulsi del funerale nella calma del periodo che seguì scoprimmo con mia sorpresa che mio padre alla morte ci aveva pensato e come c'era un elenco di istruzioni nel suo cassetto dove aveva assegnato i dati bancari e tutto quel che serviva a mia madre e me per entrare in possesso dei suoi beni essendo noi due gli unici eredi non aveva avuto bisogno di fare un vero testamento ma nello stesso foglio aveva scritto che lasciava a lei la sua metà della casa di milano mentre per me c'era vorrei che pietro avesse la proprietà di grana niente epitaffi né una riga di saluto era tutto freddo e pratico e notarile di quell'eredità mia madre non sapeva quasi niente uno tende a credere che i suoi genitori condividano ogni cosa che gli passa per la testa specie quando cominciano a invecchiare ma stavo scoprendo in quei giorni che loro due dopo la mia partenza avevano fatto vite per molti versi separate lui lavorava ed era sempre in viaggio lei era in pensione faceva l'infermiera volontaria in un ambulatorio per stranieri dava una mano nei corsi di preparazione al parto e divideva le sue giornate più con le amiche che con mio padre sapeva solo che lui aveva comprato un pezzetto di terra e montagna per pochi soldi l'anno precedente non le aveva chiesto il permesso di spendere quella cifra né l'aveva invitata a vedere il posto era da tanto ormai che non andavano a camminare insieme e lei non aveva obiettato considerandola una faccenda privata tra i documenti di mio padre trovai l'atto di vendita e una mappa catastale che non mi aiutarono molto di più c'era un edificio a uso agricolo di quattro metri per sette al centro di un terreno dalla forma irregolare la mappa era troppo piccola per capire dove era il posto e troppo diversa da quelle a cui ero abituato non riportava le quote i sentieri ma solo le proprietà e osservandola non capivo nemmeno se intorno ci fossero boschi prati o che altro mia madre disse lo saprà bruno dov'è bruno andavano sempre via insieme io non sapevo nemmeno che l'aveste rivisto certo che l'abbiamo rivisto è un po difficile non rivedersi a grana non credi e cosa fa chiesi anche se in realtà volevo chiedere e come sta si ricorda di me in tutti questi anni mi ha pensato quanto l'ho pensato io ma ormai avevo imparato a fare le domande degli adulti in cui si chiede una cosa per saperne un'altra il muratore rispose mia madre non è mai andato via bruno e dove vuoi che vada a grana non è cambiato molto vedrai non sapevo se fidarmi perché nel frattempo ero cambiato io può anche apparirti del tutto diverso da adulto un posto che amavi da ragazzino e rivelarsi una delusione oppure può ricordarti quello che non sei più e metterti addosso una gran tristezza non è che avessi tutta questa voglia di scoprirlo ma c'era quella proprietà che mi aspettava e la curiosità e bella meglio andai su alla fine di aprile da solo con la macchina di mio padre era sera e risalendo la valle riuscivo a vedere soltanto lo spazio illuminato dai fanali anche così notavo parecchi cambiamenti i punti in cui la strada era stata rifatta e allargata le reti di protezione sulle scarpate le cataste di tronchi abbattuti qualcuno si era messo a costruire villette in stile tirolese e qualcun altro a cavare sabbia e ghiaia dal fiume che era stato arginato con sponde di cemento dove una volta scorreva tra sassi e alberi le seconde case buie gli alberghi chiusi per la bassa stagione o per sempre le ruspe immobili e gli escavatori con il braccio piantato per terra davano ai paesi un aspetto di decadenza industriale come quei cantieri abbandonati a metà per fallimento poi mentre mi stavo facendo deprimere da quelle scoperte qualcosa attirò la mia attenzione mi chinai verso il parabrezza per guardare in su nel cielo notturno delle forme bianche mandavano una specie di chiarore impiegai un momento a capire che non erano nuvole erano le montagne ancora coperte di neve avrei dovuto aspettarmelo in aprile ma in città la primavera era inoltrata io non ero più abituato a sapere che andando in alto si va indietro con le stagioni la neve lassù mi consolò dalle miserie del fondo valle subito dopo mi accorsi di avere appena ripetuto un gesto tipico di mio padre quante volte l'avevo visto mentre guidava chinarsi in avanti alzare gli occhi al cielo per controllare il tempo o studiare il versante di una montagna o solo ammirarne la forma mentre passavamo teneva le mani alte sul volante e ci appoggiava la tempia sopra così lo ripetei di nuovo quel gesto questa volta con attenzione immaginando di essere mio padre a 40 anni avere appena imboccato la valle con una moglie seduta accanto e un figlio sul sedile posteriore in cerca di un posto buono per tutti e tre immaginai mio figlio che dormiva mia moglie mi indicava i paesi e le case e io fingevo di darle ascolto ma poi appena lei si voltava mi sporgevo in avanti e guardavo in su obbedendo al potente richiamo delle cime più erano incombenti minacciose e più mi piacevano la neve là in alto valeva come la miglior promessa sì forse su quella montagna c'era un buon posto per noi la stradina che saliva a grana era stata asfaltata ma per il resto aveva ragione mia madre sembrava che non fosse cambiato proprio niente i rudari erano sempre lì e così le stalle i fienili e i mucchi di letame lasciai la macchina dove ricordavo ed entrai a piedi nel paese buio mi feci guidare dallo scroscio dell'abbeveratoio nell'oscurità ritrovai le scale la porta di casa la grossa chiave di ferro nella toppa dentro mi accolse il vecchio odore di umidità e di fumo in cucina apri lo sportello della stufa e trovai un mucchietto di braccio ancora incandescenti ci buttai la legna secca posata lì accanto e poi strofinai finché il fuoco non divampò di nuovo anche gli intrugli di mio padre stavano nel posto di sempre di solito comprava un bottiglione di grappa bianca e poi lo aromatizzava in barattoli più piccoli con le bacche le pigne e le erbe che raccoglieva in montagna scelsi un barattolo a caso e versai due dita di grappa in un bicchiere per scaldarmi un po' era amarissima forse genziana e mi sedetti con quella vicino alla stufa mi arrotolai una sigaretta e poi aspettai che i ricordi venissero a galla fumando e guardandomi intorno nella vecchia cucina mia madre aveva fatto un bel lavoro in vent'anni dovunque mi voltassi vedevo la sua mano quella di una donna con le idee chiare sul modo in cui rendere una casa accogliente le erano sempre piaciuti i cucchiè di legno e le pentole di rame e per nulla le tende che impedivano di guardare fuori sul davanzale della sua finestra preferita aveva messo un mazzo di fiori secchi in una brocca la radiolina che ascoltava tutto il giorno e una foto in cui io e bruno eravamo seduti schiena contro schiena su un ceppo di larice probabilmente all'alpeggio di suo zio con le braccia incrociate al petto ed espressione da duri non ricordavo quando e da chi fosse stata scattata ma portavamo gli stessi vestiti avevamo la stessa ridicola posa e chiunque già avrebbe visto il ritratto di due fratellini pensai anch'io che era una bella foto finì la sigaretta e buttai il mozzicone nella stufa presi il bicchiere vuoto e mi alzai per riempirlo e fu allora che vidi la mappa di mio padre ancora lì appesa al muro con le puntine ma parecchio diversa da come la ricordavo io mi avvicinai per osservarla bene ebbi subito una sensazione chiara e cioè che da quello che era prima la carta dei sentieri della valle fosse diventata qualcos'altro qualcosa di simile a un romanzo o forse meglio a una biografia dopo vent'anni di camminate non c'era una vetta un alpeggio un rifugio che il penerello di mio padre non avesse raggiunto e quel reticolo di percorsi era così fitto da rendere la mappa illeggibile per chiunque altro solo che adesso il nero non era più l'unico colore certe volte era affiancato da un tratto di pennarello rosso certe altre di pennarello verde altre volte ancora il nero il rosso e il verde andavano tutte e tre insieme anche se più spesso il nero tracciava da solo dei lunghissimi giri doveva esserci di sicuro un codice e restai lì a cercare di capire qual era mi parve dopo un po che ci riflettevo uno degli indovinelli che mio padre mi faceva da bambino andai a riempirmi il bicchiere e tornai a osservare la mappa se fosse stato un problema di crittografia come quelli che avevo studiato negli anni di università avrei cominciato col cercare la ricorrenza più frequente e quella più rara la più frequente era il nero da solo la più rara i tre colori insieme furono i tre colori ad aiutarmi perché mi ricordavo bene il punto in cui ci eravamo bloccati sul ghiacciaio quella volta io lui e bruno la linea rossa e la linea verde finivano proprio in quel punto mentre il nero proseguiva così capì che il resto della salita mio padre l'aveva fatta dopo il nero naturalmente era lui il rosso lo accompagnava in vetta ai nostri 4000 perciò non potevo che essere io e il verde per esclusione era bruno mia madre me l'aveva detto che andavano a camminare insieme vidi che ce n'erano tanti di sentieri neri e verdi forse anche più dei sentieri neri e rossi e ne fui un po' geloso un po' fui anche contento di sapere che per tutti quegli anni mio padre non era andato in montagna da solo mi venne in mente che in qualche modo tortuoso quella mappa appesa al muro potesse essere un messaggio per me più tardi andai nella vecchia camera ma era troppo fredda per passarci la notte tolsi il materasso dal letto e lo portai in cucina e ci stesi il sacco a pelo sopra mi tenni la grappa e il tabacco a portata di mano prima di spegnere la luce caricai per bene la stufa e al buio l'ascoltai ardere a lungo senza addormentarmi bruno venne a prendermi la mattina presto era un uomo che non conoscevo più ma da qualche parte conteneva un ragazzino che conoscevo bene grazie per il fuoco dissi figurati disse lui mi strinse la mano sul ballatoio e pronunciò una di quelle frasi di rito a cui avevo dovuto abituarmi negli ultimi due mesi e che ormai non ascoltavo più e non sarebbero servite tra vecchi amici però chissà cosa eravamo adesso bruno e io mi sembrò più sincera la stretta della sua mano destra che era secca ruvida callosa e aveva qualcos'altro di strano che non capivo lui colse il mio disagio e l'alza per mostrarmela era una mano da muratore a cui mancavano le ultime falangi dell'indice e del medio hai visto disse una volta ho fatto lo scemo col fucile di mio nonno volevo sparare a una volpe e boom mi sono troncato le dita ti è scoppiato in mano non proprio grilletto difettoso aia dissi chissà che male bruno scrollò le spalle come a dire che c'era di peggio nella vita mi guardò al mento e mi chiese la barba non te la tagli mai saranno dieci anni risposi accarezzandola una volta ho provato anch'io a farla crescere solo che avevo una ragazza e sai come non le piaceva la barba e già a te invece sta bene assomiglia tuo padre dicendolo sorrise dato che stavamo cercando di rompere il ghiaccio mi sforzai di non badare al senso di quella frase e ricambiai il sorriso poi chiusi la porta e andai con lui il cielo nel ballone era basso e pesante di nuvole primaverili sembrava che avesse appena smesso di piovere e che potesse ricominciare da un momento all'altro nemmeno il fumo riusciva ad alzarsi dai cammini scivolava giù per i tetti umidi si arricciava nelle grondaie in quella luce fredda uscendo dal paese ritrovai ogni baracca ogni pollaio ogni legnaia come se da quando ero partito nessuno avesse spostato più nulla ciò che invece era stato stravolto lo vidi poco dopo superate le ultime case giù in basso il greto del torrente era largo almeno il doppio di come lo ricordavo sembrava che un gigantesco aratro lo avesse rivoltato di recente scorreva tra ampie zone sassose che gli davano un aspetto esangue anche in quella stagione di disgelo hai visto disse bruno cos'è successo l'alluvione del 2000 non ti ricordi è venuta giù tanta di quell'acqua che hanno dovuto portarci via in elicottero c'era un escavatore che lavorava in basso dov'ero io nel 2000 così lontano con il corpo e con lo spirito che neanche avevo saputo di un'alluvione a grana il torrente era ancora in gombro di tronchi travi pezzi di cemento rottami di ogni tipo trascinati giù dalla montagna sulle anse le sponde e rose mostravano le radici degli alberi che spuntavano in cerca della terra che non c'era più il nostro vecchio fiumiciattolo mi fece molta pena ma un po più in alto vicino al mulino notai una grande pietra bianca tonda a forma di ruota incagliata nell'acqua che mi risollevò il morale anche quella l'ha portata all'alluvione chiesi e no disse bruno quella l'ho buttata giù prima quando volevo far festa per i 18 anni e come hai fatto con il cric della macchina mi venne da sorridere mi immaginai bruno che entrava nel mulino con il cric e poco dopo la mola che usciva dalla porta e cominciava a rotolare avrei voluto esserci è stato bello chiesi bellissimo anche bruno sorrise poi ci mettevo in marcia verso la mia proprietà salimmo ben più lenti di una volta perché non ero per niente in forma e la sera prima avevo finito per bere troppo super il vallone devastato dall'acqua dove i prati lungo la riva erano ridotti a distese di sabbia e sassi bruno spesso doveva voltarsi stupirsi vedendomi così lontano fermarsi ad aspettare tra un colpo di tosse l'altro gli dissi vai vai se vuoi ti raggiungo no no disse lui come se si fosse dato un compito preciso e dovesse svolgerlo a dovere nemmeno l'alpeggio di suo zio godeva di buona salute quando passammo di lì vidi che il tetto di una baita si era imbarcato spingendo in fuori il muro su cui le travi poggiavano a occhio sarebbe bastata una nevicata robusta darle il colpo di grazia la vasca da bagno rovesciata restava ad arrugginire fuori dalla stalla e le porte erano scardinate buttate malamente contro i muri come nella profezia di luigi guglielmina i primi piccoli larici spuntavano ovunque nei pascoli chissà quanti anni ci avranno impiegato e chissà che cos'era capitato allo zio avrei voluto chiederlo a bruno ma lui non si fermò così superammo l'alpeggio e proseguimo senza dire una parola oltre le baite l'alluvione aveva prodotto il danno peggiore in alto dove le mucche salivano al culmine della stagione la pioggia aveva portato via un intero pezzo di montagna la frana aveva trascinato con sé alberi e massi uno sfacelo di materiale instabile che anche quattro anni dopo cedeva sotto i piedi bruno continuava a tacere faceva strada affondando con gli scarponi nel fango saltando da un masso all'altro o camminando in equilibrio sui tronchi caduti e non si voltava dovevo correre per stargli dietro finché la frana fu alle spalle il bosco ci riaccolse e finalmente lui ritrovò la parola qui ci passava poca gente anche prima disse ora che non c'è più il sentiero mi sa che ci passo solo io ci vieni spesso ma sì la sera la sera quando mi va di fare un giro dopo il lavoro mi porto dietro la frontale se per caso viene buio beh c'è chi va al bar ci sono andato al bar adesso basta meglio il bosco poi feci la domanda proibita quella che non si poteva fare camminando con mio padre manca molto no no solo che tra un po troviamo neve l'avevo già notata all'ombra delle rocce neve vecchia su cui aveva piovuto e che si trasformava in poltiglia ma più in alto quando alzai la testa vidi che chiazzava le pietraie e riempiva con ampie distese le conche del grenon su tutto al lato nord era ancora inverno la neve seguiva le forme della montagna come nel negativo di una pellicola dove era il nero delle rocce a scaldarsi al sole e il bianco della neve a sopravvivere nelle zone d'ombra stavo pensando a questo quando raggiungemo il lago come la prima volta si svelò ai miei occhi all'improvviso te lo ricordi questo posto disse bruno eh sì non è come d'estate eh no il nostro lago in aprile era ancora coperto da uno strato di ghiaccio di un bianco opaco venato da crepe azzurre come quelle che si formano sulla porcellana non c'era un senso geometrico nelle inclinature né linee di frattura comprensibili qua e là le lastre si erano alzate per le spinte dell'acqua e lungo le rive al sole si notavano già le prime sfumature più scure l'inizio dell'estate ma fare il giro della conca con lo sguardo sembrava di vedere due stagioni di quale pietraie le macchie di ginepro e rododendro i rari arbusti di larice di là il bosco e la neve la scia di una slavina veniva giù per il grenon da quella parte e finiva dentro al lago bruno si diresse proprio lì lasciando la riva cominciamo a risalire il pendio sulla neve una crosta agghiacciata che quasi sempre teneva sotto i nostri piedi e ogni tanto cedeva di colpo quando cedeva ci affondavamo dentro fino alla coscia ogni passo falso costava una faticosa riemersione e ci volle mezz'ora di questa marcia zoppicante prima che bruno concedesse una sosta trovò un muretto di pietre che emergeva dalla neve ci montò sopra e si scrollò gli scarponi battendoli tra loro io invece mi sedetti senza badare ai piedi bagnati non ce la facevo più avevo una gran voglia di tornare davanti alla stufa mangiare e dormire eccoci qui disse dove come dove a casa tua solo allora mi guarda intorno benché la neve alterasse le forme si capiva che lì dove eravamo il pendio formava una specie di terrazzo boscoso una parete di roccia liscia alta insolitamente bianca cadeva su questo pianoro affacciato sul lago dalla neve emergevano i resti di tre muri a secco di cui uno era quello dove ero seduto fatti della stessa roccia bianca due muri corti e uno lungo sul davanti quattro per sette come diceva la mia mappa catastale il quarto muro era la parete stessa che aveva fornito il materiale e sosteneva gli altri tre del tetto crollato non c'era più alcuna traccia ma dentro a rudere in mezzo alla neve aveva fatto in tempo a crescere un piccolo pino cembro che si era aperto la strada tra le macerie e ormai raggiungeva l'altezza dei muri eccola lì la mia eredità una parete di roccia neve un mucchio di sassi squadrati un pino quando siamo capitati qui era settembre disse bruno tuo padre ha detto subito è questa ne avevamo viste tante era da un po che lo accompagnavo a cercare ma questa gli è piaciuta al primo colpo è stato l'anno scorso no no sono tre anni ormai poi ho dovuto trovare i proprietari e convincerli e qui non vende mai nessuno va bene tenersi un rudere per tutta la vita ma non va bene darlo a un altro perché ci faccia qualcosa e lui che cosa ci voleva fare beh una casa una casa certo mio padre le ha sempre odiate le case e si vede che aveva cambiato idea cominciò a piovere intanto sentì una goccia sul dorso della mano e vedi che era acqua mista a neve perfino il cielo sembrava indeciso tra l'inverno e la primavera le nuvole nascondevano le montagne alla vista e toglievano volume alle cose ma anche in una mattinata del genere riuscivo a cogliere la bellezza di quel posto una bellezza cupa aspra che non infondeva pace ma piuttosto forza e un po d'angoscia la bellezza dell'inverso ha un nome questo posto chiesi credo di sì secondo mia mamma una volta la chiamavano bar madrola lei non si sbaglia su queste cose i nomi se li ricorda tutti la barma è quella roccia lì è già e drola vuol dire strana strana perché è così bianca penso di sì la roccia strana dissi per sentire come suonava restai un po lì seduto a guardarmi intorno e a riflettere sul senso di quell'eredità mio padre proprio lui che era sfuggito alle case per una vita aveva coltivato il desiderio di costruirne una lassù non era riuscito a realizzarlo ma immaginando l'eventualità di morire aveva pensato di lasciarmi quel posto chissà che cosa voleva da me bruno disse io sono pronto per l'estate pronto perché cosa per lavorare no e siccome non capivo spiegò la casa l'ha disegnata tuo padre come la voleva lui e mi ha fatto promettere che gliela costruivo io era seduto proprio lì dove sei seduto tu adesso quando me l'ha chiesto non finivano mai le scoperte in quei giorni la mappa dei sentieri il rosso e il verde che accompagnavano il nero pensai che ce n'erano tante altre di storie che bruno aveva da raccontarmi quanto alla casa se mio padre aveva disposto tutto in quel modo non vedevo motivi di oppormi alle sue volontà tranne uno io però non ho mica i soldi dissi quelli che avevo ricevuto erano serviti ad aggiustare i miei conti disastrosi ne restavano ancora un po che non erano sufficienti per costruire una casa né avevo voglia di usarli a quello scopo c'era una lunga lista di desideri arretrati da esaudire bruno annui si era aspettato l'obiezione disse basta che compriamo il materiale anche su quello credo che possiamo risparmiare parecchio sì ma a te chi ti paga e non preoccuparti per me non è mica un lavoro da farsi pagare questo qui non mi spiegò che cosa intendeva e quando stavo per chiederglielo aggiunse una mano invece sì che mi farebbe comodo con un manovale potrei finire in tre o quattro mesi che ne dici ti va in pianura mi sarei messo a ridere gli avrei risposto che non sapevo fare nulla e che non gli sarei stato di alcun aiuto ero seduto su un muro in mezzo alla neve davanti a un lago ghiacciato a 2000 metri d'altezza avevo cominciato a provare un senso di inevitabilità per motivi che non conoscevo era lì che mio padre mi voleva portare su quel pianoro battuto dalle slavine sotto a quella roccia strana a lavorare a quel rudere insieme a quell'uomo e mi dissi va bene papà fammi quest'altro indovinello vediamo che cosa hai preparato per me vediamo cosa c'è di nuovo da imparare tre o quattro mesi domandai ma sì è una casa molto semplice e quando vuoi cominciare appena va via la neve rispose bruno poi salto giù dal muro e cominciò a spiegarmi come pensava di fare 6 la neve andò via presto quell'anno tornai a grana all'inizio di giugno nel pieno della stagione del disgelo con l'acqua che gonfiava il torrente scendeva dappertutto nella valle formando cascate e ruscelli effimeri che non avevo mai visto prima sembrava di sentirla sotto i piedi quella neve che si scioglieva sulle montagne e anche mille metri più in basso rendeva la terra morbida come muschio alla pioggia che cadeva ogni giorno decidemmo di non fare caso un lunedì mattina l'alba prendemmo a casa di bruno una pala un piccone una grossa scure una motosega e mezza tannica di gasolio e con questa roba in spalla salimmo fino alla barma come avevamo cominciato a chiamare la mia proprietà benché lui fosse molto più carico di me ero io che dovevo fermarmi ogni quarto d'ora a rifiatare posavo lo zaino e mi sedevo per terra tutti errori che mio padre una volta mi aveva insegnato a non fare e restavamo lì in silenzio evitando di guardarci mentre il mio cuore rallentava su la neve aveva lasciato il posto al fango e all'erba morta così potevo capire un po meglio le condizioni da rudere i muri sembravano solidi fino a un metro d'altezza grazie a pietre angolari che nemmeno in due avremmo potuto spostare ma dal metro in su il muro lungo sporgeva in fuori spinto dai travi del tetto prima che crollassero e i muri corti erano tutti dissestati con le ultime file di pietre in bilico ad altezza duomo bruno disse che avremmo dovuto demolirli fino alla base o quasi inutile perdere tempo a raddrizzare muri storti meglio buttarli giù e ricostruirli da capo prima però bisognava preparare il cantiere erano le 10 di mattina quando entrammo nel rudere e cominciamo a liberarlo dalle macerie crollate all'interno si trattava di assicelle per lo più che una volta erano le scandole del tetto ma anche assi del vecchio pavimento tra il pian terreno e il primo piano e in mezzo a questo legname fradicio travi lunghi sei o sette metri ancora incastrati ai muri o conficcati per terra alcuni avevano resistito all'acqua e bruno cercava di capire se si potevano riutilizzare faticammo a lungo per liberare quelli sani e trascinarli fuori facendoli rotolare oltre i muri su due tavole inclinate mentre quelli guasti andavano spaccati e messi via come legna da ardere per via delle dita monche bruno aveva imparato a usare una motosega da mancini teneva fermo il tronco con un piede e lavorava con la punta della lama molto vicina alla suola dello scarpone alzando una nuvola di segatura alle sue spalle nell'aria si diffondeva un buon profumo di legna bruciata poi il pezzo cadeva io andavo a raccoglierlo per accatastarlo mi stancai in fretta alla fatica delle braccia ero abituato ancora meno che a quella delle gambe a mezzogiorno uscimo da rudere coperti di polvere e segatura c'erano quattro bei tronchi di larice sotto la grande parete di roccia abbattuti già da un anno e lasciati lì a stagionare al momento giusto sarebbero diventati i travi del nuovo tetto ma per adesso ne usai uno per sedermici sopra sono già stanco dissi e non abbiamo nemmeno cominciato sì che abbiamo cominciato disse bruno ci vorrà una settimana solo per sgomberare e per buttare giù i muri e fare spazio qua intorno può essere e chi lo sa intanto aveva costruito un focolare di sassi e acceso un fuocherello con delle schegge di legna sudato com'ero faceva piacere anche a me asciugarmi davanti al fuoco mi cercai nelle tasche trovai il tabacco e mi arrotolai una sigaretta lo offrì anche a lui che disse non son capace se me la fai tu posso provare poi quando gliela accesi dovette contenere la tosse si vedeva che non era abituato e tanto che fumi chiese ho cominciato che ero qui un'estate perciò che cosa avrò avuto 16 o 17 anni davvero io non ti ho mai visto perché fumavo di nascosto me ne andavo nel bosco per non farmi vedere o sul tetto della casa e da chi è che dovevi nasconderti da tua mamma non lo so mi nascondevo e basta bruno fece la punta a due bastoncini con il coltello a serramanico prese un pezzo di salsiccia dallo zaino la tagliò a tocchetti li infilzò negli spiedi e li mise ad arrostire aveva anche del pane una pagnotta nera da cui tagliò due grosse fette a me ne diede una disse senti non importa quanto tempo ci vuole non devi pensare troppo in line questo lavoro se no diventi matto e allora cosa devo pensare a oggi guarda che bella giornata mi guarda intorno serviva una certa buona volontà per definirla così era uno di quei giorni di tarda primavera in cui in montagna tira sempre vento banchi di nuvole andavano e venivano coprendo il sole e l'aria era ancora fredda come se un inverno ostinato non volesse farsi da parte il lago laggiù assomigliava a una seta nera con il vento che la increspava anzi no era il contrario un'increspatura il vento sembrava una mano gelida che ne spianasse le pieghe mi fece venir voglia di allungare le mie verso il fuoco e poi tenerli a rubargli un po di calore nel pomeriggio continuammo a portar fuori macerie e arrivammo a scoprire il fondo del rudere un tavolato che indicava chiaramente la natura dell'edificio da una parte contro il muro lungo trovammo le mangiatoie mentre una canalina al centro del locale aveva fatto da scolo per il letame erano tavole spesse tre dita levigate dal lungo sfregamento con i musi e gli zoccoli del bestiame bruno disse che avremmo potuto pulirle e usarle per costruirci qualcosa e con il piccone cominciò a far leva per sollevarle io vedi un oggetto per terra e lo raccolsi era un cono di legno liscio e cavo simile al corno di un animale quello serve per la pietra della falce disse bruno quando glielo mostrai la pietra della falce è una pietra con cui si affila la falce avrà un nome anche quella ma chi se lo ricorda dovrei chiedere a mia mamma credo sia una pietra di fiume di fiume mi sentivo un bambino a cui bisogna spiegare tutto lui mostrava infinita pazienza con queste mie domande mi prese di mano il corno e se lo appoggiò su un fianco poi spiegò è una pietra liscia e tonda quasi nera deve essere bagnata per funzionare bene questo lo appendi alla cintura con un po d'acqua dentro in modo che mentre falci ogni tanto puoi bagnare la pietra e fare il filo alla lama così con il braccio fece un gesto ampio e morbido disegnando una mezzaluna sopra la sua testa vidi benissimo la falce immaginaria e la pietra immaginaria che l'affilava solo allora mi resi conto che stavamo ripetendo uno dei nostri giochi preferiti non so perché non ci avessi pensato prima ma noi eravamo già stati in tanti ruderi come quello entravamo dai buchi nei muri pericolanti camminavamo su tavole che traballavano sotto i piedi rubavamo dei rottami e fingevamo che fossero tesori l'avevamo fatto per anni così cominciai a vedere l'impresa in cui ci eravamo imbarcati in un modo un po diverso fino ad allora avevo creduto di essere lì solo per mio padre per esaudire le sue volontà per rimediare alle mie colpe ma in quel momento guardando bruno che affilava la falce immaginaria l'eredità che avevo ricevuto mi sembra piuttosto un risarcimento o una seconda possibilità per la nostra amicizia interrotta era questo che mio padre aveva voluto regalarmi bruno diede un'ultima occhiata al corno e lo lanciò nel mucchio della legna da ardere io lo andai a riprendere e lo misi via pensando che gli avrei trovato un qualche uso futuro feci lo stesso con il pino cembro che era nato dentro il rudere alle 5 quando ero ormai troppo stanco per fare qualunque altra cosa lavorai di piccone tutto intorno all'alberello e riuscì a estirparlo con le sue radici il tronco era esile e contorto per essere cresciuto in quel modo guadagnandosi la luce tra le macerie le radici scoperte gli davano l'aspetto di un moribondo e mi affrettai a trapiantarlo poco lontano scavai un buco sul limite del pianoro da dove si vedeva meglio il lago e lo posai lì copri le radici di terra e la pressai per bene ma quando lasciai l'alberello il vento a cui non era abituato cominciò a farlo ondeggiare qua e là allora mi sembrò una creatura troppo fragile a lungo protetta dai sassi e improvvisamente in balia degli elementi dici che ce la fa chiesi ma disse bruno è una pianta strana quella lì forte per crescere dove cresci e debole appena la metti da un'altra parte tu hai già provato qualche volta e come è andata male guardò per terra come faceva quando ripensava a una vecchia storia disse mio zio voleva un cembro davanti a casa non so perché magari pensava che gli portasse fortuna e ne aveva bisogno c'è da dire allora ogni anno mi mandava in montagna a prendere una pianticella ma finiva sempre pestata dalle mucche e dopo un po non ci abbiamo più provato com'è che lo chiamavate voi il cembro la rula ah già e porta fortuna così dicono se ci credi magari te la porta fortuna o no ci tenevo a quell'alberello piantai un bastone robusto vicino al tronco e lo legai in più punti con uno spago poi andai al lago a riempire una borraccia d'acqua per innaffiarlo quando tornai su vidi che bruno aveva costruito una specie di pedana sotto la grande parete aveva posato a terra due travi del vecchio tetto e ci aveva inchiodato qualche tavola di recupero ora prese dallo zaino un cordino e un telo impermeabile di quelli che a grana usavano per coprire il fieno nei campi con dei paletti di legno fissò due angoli del telo a una fessura nella roccia e gli altri due al terreno e così aveva ottenuto un riparo sotto cui sistemò lo zaino e le provviste quella roba la lasciamo qui chiesi non è che la lasciamo ci resto anch'io e che senso ci resti nel senso che ci dormo ci dormi questa volta si spazienti rispose brusco non posso mica perdere quattro ore di lavoro al giorno ti pare il muratore resta in cantiere dal lunedì al sabato il manovale va su e giù con la roba è così che si fa guarda il bivacco che aveva costruito mi spiegavo solo adesso come mai il suo zaino fosse tanto pieno e vuoi dormire lì dentro per quattro mesi tre mesi quattro quello che ci vuole è estate il sabato scendo e dormo in un letto ma allora non dovrei restare qui anch'io magari dopo c'è ancora un sacco di materiale da portare su ho preso in prestito un mulo bruno aveva riflettuto a lungo sul lavoro che ci aspettava io stavo improvvisando lui no ne aveva programmato ogni fase le mie mansioni e le sue i tempi e gli spostamenti mi spiegò dove aveva preparato la roba e che cosa avrei dovuto portargli il giorno dopo sua madre mi avrebbe mostrato come caricare il mulo disse io ti aspetto per le nove di mattina alle sei di sera sei libero sempre se ti va bene è certo che mi va bene pensi di farcela ma sì bravo allora ciao guardai l'ora erano le sei e mezza bruno prese un asciugamano e un pezzo di sapone e partì verso il monte a lavarsi in qualche posto che conosceva osservai il rudere che adesso era del tutto simile a come l'avevo trovato la mattina solo che dentro era vuoto e fuori c'era una bella catasta di legna pensai che non era male per il primo giorno di lavoro poi presi lo zaino salutai il mio alberello e mi incamminai verso grana c'era un'ora che amavo di più delle altre in quel paese di giugno ed era proprio quella in cui scendevo da solo alla fine della giornata di mattina era diverso avevo fretta il mulo non mi obbediva l'unico pensiero era quello di arrivare su di sera invece non c'era alcun motivo per correre partivo alle sei alle sette con il sole ancora alto in fondo al vallone avevo luce fino alle dieci e nessuno ad aspettarmi a casa camminavo tranquillo con la stanchezza che mi intorpidiva i pensieri e il mulo che mi veniva dietro senza che dovessi badare a lui dal lago fino alla frana i fianchi della montagna fiorivano di rododendri all'alpeggio dei guglielmina intorno alle baite deserte sorprendevo caprioli che brucavano nei pascoli in disuso drizzavano le orecchie e mi fissavano allarmati poi fuggivano nel bosco come ladri a volte mi fermavo lì a fumare intanto che il mulo pascolava mi sedevo sul ceppo di larice dove era stata scattata quella foto mia e di bruno osservavo l'alpeggio e lo strano contrasto tra la desolazione delle cose umane e il rigoglio della primavera le tre baite deperivano i muri si ingobbivano come vecchie schiene i tetti cedevano al peso degli inverni intorno era tutto un germogliare di erbe e fiori mi sarebbe piaciuto sapere che cosa faceva bruno a quell'ora aveva acceso il suo fuocherello o camminava da solo per la montagna o andava avanti a lavorare fino al buio per molti versi l'uomo che era diventato mi sorprendeva mi sarei aspettato di trovare se non la controfigura di suo padre almeno quella dei suoi cugini o di uno dei muratori che una volta vedevo con lui al bar invece con quella gente e non c'entrava nulla mi dava l'idea di uno che a un certo punto della vita aveva rinunciato alla compagnia degli altri si era trovato un angolo di mondo e si era rintanato lì mi ricordava sua madre la incontravo spesso in quei giorni quando facevo i carichi la mattina mi spiegava come fissare il basto assicurare gli attrezzi e le tavole sui fianchi del mulo spronarlo quando rifiutava di proseguire ma non aveva detto una parola sul mio ritorno nessun lavoro che stavo facendo con suo figlio fin da quando ero piccolo sembrava che nulla le interessasse delle nostre vite che lei stesse bene al suo posto e gli altri le passassero accanto come le stagioni mi chiedevo se non nascondesse sentimenti di tutt'altro tipo riprendevo il sentiero lungo il torrente arrivavo a grana che era quasi buio legavo il mulo sotto casa mi accendevo la stufa e mettevo una pentola d'acqua sul fuoco potevo aprire una bottiglia di vino se avevo pensato a fare scorta in dispensa avevo solo pasta conserve qualche scatoletta d'emergenza dopo i primi due bicchieri mi sentivo stanco morto certe volte buttavo la pasta e mi addormentavo mentre cuoceva e la trovavo di notte la stufa spenta la bottiglia bevuta a metà la mia cena ridotta a una poltiglia immangiabile allora aprivo una lattina di fagioli e la divoravo con il cucchiaio senza nemmeno scolarla in un piatto poi mi stendevo sul mio materasso sotto al tavolo mi chiudevo nel sacco a pelo e subito ripiambavo nel sonno verso la fine di giugno arrivò mia madre con un'amica si sarebbero date il cambio le sue amiche per farle compagnia tutta l'estate benché a me non sembrasse affatto una vedova inconsolabile ma mi disse lei stessa che era contenta di avere qualcuno vicino e io notavo la confidenza silenziosa che c'era con queste altre donne parlavano poco in mia presenza si capivano con uno sguardo le vedevo dividere la vecchia casa con un'intimità che mi pareva più preziosa delle parole dopo lo scarno funerale di mio padre avevo riflettuto a lungo sulla sua solitudine quella specie di conflitto perenne tra lui e il resto del mondo era morto nella sua macchina senza nessun amico che ne sentisse la mancanza in mia madre vedevo invece i frutti di una lunga vita passata a curare le relazioni ad accudirle come i fiori del suo balcone mi chiedevo se si potesse impararlo un talento come quello o uno ci nasce e basta se facessi ancora in tempo a impararlo io così adesso quando scendevo dalla montagna trovavo ben due donne a occuparsi di me la tavola apparecchiata e le lenzuola pulite nel letto niente più fagioli e sacco a pelo dopo cena io e mia madre ci fermavamo in cucina a parlare mi veniva facile con lei e una volta le dissi che era come essere tornati a tanti anni prima ma scoprì che avevamo ricordi diversi di quelle nostre sere nei suoi io stavo sempre zitto mi ricordava assorto in un mio mondo impossibile da invadere e da cui le mandavo rari racconti era contenta adesso di avere occasione di recuperare alla barma io e bruno avevamo cominciato a tirare sui muri descrivevo a mia madre il modo in cui lavoravamo entusiasta delle mie scoperte di manovale ogni muro era fatto in realtà di due file parallele di pietre separate da uno spazio che riempivamo con sassi più piccoli ogni tanto una grossa pietra posata di traverso univa le due file usavamo il cemento anche il meno possibile non per ecologia ma perché lo portavo su io in sacchi da 25 chili mescolavamo la polvere di cemento alla sabbia del lago e versavamo l'impasto tra le pietre in modo che da fuori non si vedesse o quasi per molti giorni avevo fatto avanti e indietro dalla barma al lago a questo scopo c'era una piccola spiaggia sulla riva opposta dove andavo a riempire le bisacce del mulo mi piaceva moltissimo l'idea che fosse quella sabbia a tenere insieme la casa mia madre ascoltava con attenzione però non era la carpenteria che le interessava e con bruno come va? mi chiese è strano a volte mi pare ci conosciamo da sempre ma se ci penso non so quasi niente di lui che cos'è che è strano? il modo in cui mi parla è molto gentile con me anzi più che gentile è affettuoso questo di lui non me lo ricordavo mi sembra sempre che ci sia qualcosa che non capisco buttai un pezzo di legna nella stufa avevo voglia di una sigaretta mi imbarazzava fumare davanti a mia madre anche se avrei voluto liberarmi di quello stupido segreto ma non ci riuscivo andai a versarmi invece due dita di grappa la grappa, non so perché, non mi imbarazzava quando tornai a sedermi mia madre disse ma sai, Bruno c'è stato molto vicino in questi anni certe volte era qui tutte le sere il papà l'ha aiutato spesso in che cosa l'ha aiutato? non in senso pratico come posso dire? sì, a volte gli avrà anche prestato dei soldi ma non è questo Bruno a un certo punto ha litigato con suo padre non ha più voluto lavorare con lui credo che non lo veda da anni per cui, se aveva bisogno di un consiglio era qui che veniva si fidava molto di quello che gli diceva il papà non lo sapevo poi mi ha chiesto sempre di te come stavi che cosa stavi facendo io gli raccontavo quello che mi scrivevi nelle lettere non ho mai smesso di dargli tue notizie non lo sapevo dissi di nuovo stavo imparando che cosa succede a uno che va via che gli altri continuano a vivere senza di lui immaginavo le sere tra loro quando Bruno aveva 20, 25 anni ed era lì a parlare con mio padre al posto mio forse non sarebbe successo se io fossi rimasto o forse avremmo condiviso quei momenti più che la gelosia provavo il rimpianto di non esserci stato mi sembrava di essermi perso le cose più importanti mentre ero indaffarato in altre cose futili che nemmeno me le ricordavo finimmo i muri e venne l'ora di costruire il tetto era ormai luglio quando andai da un fabbro giù in paese a ritirare otto staffe d'acciaio che Bruno aveva ordinato piegate in un certo modo che voleva lui insieme a qualche decina di viti a espansione lunghe una spanna caricai il materiale sul mulo insieme a un piccolo generatore a motore il gasolio per alimentarlo e il mio vecchio materiale d'arrampicata una volta portato su tutto raggiunsi la sommità della parete di roccia dove non ero mai stato c'erano dei larici lassù mi assicurai a uno dei più grossi e mi calai in corda doppia fino a metà parete armato di un trapano elettrico poi passai la giornata tra gli ordini che Bruno mi gridava dal basso il borbottio del generatore e lo stridio assordante del trapano che bucava la roccia ci volevano quattro viti per ogni staffa per otto staffe facevano 32 buchi secondo Bruno quei muri erano il punto critico di tutto il lavoro perché d'inverno la parete di roccia avrebbe scaricato neve di continuo così aveva ragionato a lungo per costruire un tetto che sopportasse quegli urti diverse volte mi insai sulle corde spostai l'ancoraggio un po' più in là tornai giù a bucare la roccia seguendo le sue indicazioni verso sera le otto staffe erano tutte fissate allineate a distanze regolari a circa quattro metri d'altezza le nostre giornate finivano con una birra adesso che infilavo nello zaino la mattina insieme alle provviste ci sedemmo a bere davanti al focolare nero di ceneri e braci io ero bianco invece avevo polvere di roccia dappertutto e le mani indolenzite per via del trapano ma quando alzai lo sguardo le staffe d'acciaio brillavano sulla parete al sole della sera ero fiero che Bruno avesse deciso di affidarmi quel lavoro il problema della neve è che non sai mai quanto può pesare disse esistono dei calcoli per la portata ma poi è meglio raddoppiare tutto quali calcoli? beh, un metro cubo d'acqua pesa dieci quintali, giusto? la neve può pesare dai tre ai sette a seconda di quanta aria contiene perciò se un tetto dovesse reggere due metri di neve bisognerebbe calcolare una portata di quattordici quintali io la raddoppio ma una volta come facevano, scusa? una volta puntellavano tutto prima di andare via, in autunno riempivano la casa di palli di rinforzo ti ricordi quei tronchi grossi e corti che abbiamo trovato? a un inverno si vede che non sono bastati neanche quelli o forse chissà, se ne erano dimenticati guardai la sommità della parete cercai di immaginare la neve che si accumulava lassù si staccava e precipitava di sotto era un bel salto a tuo padre piaceva molto discutere di queste cose disse Bruno ah sì? quanto deve essere largo un trave a che distanza bisogna metterli uno dall'altro che tipo di legno è meglio usare la bete non va bene perché è un legno morbido il larice è un legno più duro a lui non bastava che glielo dicessi voleva sempre sapere il motivo di tutto il fatto è che uno cresce all'ombra e l'altro al sole è il sole che rende duro il legno l'ombra e l'acqua lo rendono morbido e non va bene per i travi sì, ci credo che gli piaceva si era comprato pure un libro io gli dicevo ma lascia perdere Gianni andiamo a chiedere a qualche vecchio muratore l'ho portato dal mio capo di una volta siamo andati là con il progetto e tuo padre si è portato un quadernino dove si è scritto tutto anche se poi secondo me è andato lo stesso a controllare il libro perché delle persone si fidava poco, no? non lo so, dissi pensa di sì era dal giorno del funerale che non sentivo il nome di mio padre sentirlo pronunciare da Bruno mi fece piacere anche se a volte mi pareva che avessimo conosciuto due persone diverse domani tiriamo su i travi? chiesi prima bisogna tagliarli a misura e fare la sagoma per la staffa poi issarli ci vorrà il mulo vediamo un po' come va dici che ci mettiamo tanto? non lo so una cosa alla volta, eh? adesso la birra va bene adesso la birra intanto mi stavo rimettendo in forma dopo un mese che facevo quella strada ogni mattina cominciavo a ritrovare il passo di una volta mi pareva che l'erba nei campi lungo il sentiero fosse ogni giorno più folta l'acqua del torrente più tranquilla il verde dei larici più pieno e che l'arrivo di luglio assomigliasse per il bosco alla fine di una giovinezza tumultuosa era anche il periodo in cui arrivavo io da ragazzino la montagna riprendeva l'aspetto che mi era più familiare fin da quando pensavo che laggiù le stagioni non cambiassero e una perenne estate aspettasse il mio ritorno a grana incontravo gli elevatori che preparavano le stalle spostavano roba con i trattori entro pochi giorni avrebbero portato le mandri e la parte bassa del vallone si sarebbe ripopolata in alto invece non saliva più nessuno c'erano altre due ruderi nei dintorni del lago non lontano dalla strada che percorrevo nei miei andi rivieni il primo assediato dalle ortiche era nelle stesse condizioni in cui avevo trovato il mio in primavera ma il tetto era crollato solo in parte e dando un'occhiata dentro trovai il solito triste spettacolo l'unica stanzetta era stata vandalizzata come se il proprietario nell'abbandonarla si fosse voluto vendicare di una vita tanto misera o i successivi visitatori avessero cercato inutilmente qualcosa di valore restavano un tavolo uno sgabello zoppo stoviglie gettate tra i rifiuti e una stufa che mi pareva ancora buona e che avevo intenzione di venire a prendere prima che un crollo la seppellisse del tutto il secondo rudere era solo il ricordo invece di una costruzione molto più antica e complessa il primo non poteva avere più di un secolo quest'altro ne aveva almeno tre non era una semplice stalletta ma un grande alpeggio dotato di corpi differenti quasi un piccolo villaggio con scalinate esterne di pietra e travi di colmo imponenti e misteriose dato che le piante di quelle dimensioni crescono centinaia di metri più in basso e non riuscivo a immaginare come le avessero portate su dentro alle case non c'era niente se non i muri lavati dalle piogge e ancora a piombo rispetto alle capanne a cui ero abituato quelle rovine sembravano raccontare una civiltà più nobile che si era consumata in un periodo di decadenza e infine estinta salendo mi piaceva fermarmi un minuto in riva al lago mi chinavo ad accarezzare l'acqua e ne sentivo la temperatura con la mano il sole che illuminava le cime del Grenon non era ancora arrivato nella conca e il lago manteneva una qualità notturna come un cielo in cui non è più buio ma non ancora chiaro non ricordavo bene perché mi fossi allontanato dalla montagna né che cos'altro avessi amato quando non amavo più lei ma mi sembrava risalendola ogni mattina in solitudine di farci lentamente la pace la barma in quei giorni di luglio assomiglieva a una segheria avevo fatto diversi carichi di tavole e adesso il pianoro era ingombro di legname accatastato assi da bete di due metri ancora bianche e profumate di resina gli otto travi stavano sospesi tra la parete di roccia e il muro lungo fissati alle staffe d'acciaio inclinati a 30 gradi e sostenuti a metà da un lungo tronco di larice riuscivo quasi a immaginarmi la casa adesso che lo scheletro del tetto c'era aveva la porta rivolta a ovest e due belle finestre a nord i suoi occhi sul lago Bruno aveva voluto costruirle ad arco perdendo intere giornate a modellare le pietre con mazza e scalpello dei due piani bassi del vecchio rudere la stalla di sotto e la casera di sopra noi ne avremmo ottenuto uno solo più alto e spazioso a volte cercavo di raffigurarmi la luce che c'entrava ma questo era davvero troppo in là per la mia immaginazione arrivando riattizzavo le braci nel focolare ci buttavo qualche rametto secco riempievo un pentolino d'acqua e lo mettevo sul fuoco tiravo fuori dallo zaino il pane fresco e un pomodoro di quelli che la madre di Bruno miracolosamente riusciva a far crescere a 300 metri d'altezza mi affacciavo nel bivacco in cerca di caffè e trovavo il sacco a pelo sfatto un mozzicone di candela saldato alle tavole un libro aperto a metà davo un'occhiata alla copertina e sorridevo nel leggere il nome di Conrad di tutta la scuola di mia madre a Bruno era rimasta la passione per i romanzi di mare lui usciva dalla casa quando l'odore del fuoco lo raggiungeva stava là dentro a misurare e tagliare le tavole per il tetto con l'avanzare della settimana il suo aspetto si faceva più selvatico e se perdevo la cognizione del tempo capivo dalla sua barba che giorno era alle nove lo trovavo già nel pieno del lavoro assorto in pensieri da cui emergeva a fatica oh diceva sei qui alzava la mano e mi rivolgeva il suo saluto monco poi veniva a fare colazione con me staccava un pezzo di pane e una fetta di toma con il coltello il pomodoro lo mangiava così a morsi senza sale né niente osservando il cantiere e pensando al lavoro che ci aspettava 7 era la stagione del ritorno e della riconciliazione due parole a cui pensavo spesso mentre l'estate scorreva una sera mia madre mi raccontò una storia che riguardava lei mio padre e la montagna il modo in cui si erano conosciuti e quello in cui avevano finito per sposarsi strano impararla così tardi dato che era la storia di come la nostra famiglia era nata e dunque di come ero nato io ma da piccolo ero troppo piccolo per questo genere di racconti e dopo non avevo più voluto ascoltare mi sarei tappato le orecchie a vent'anni pur di non sentire ricordi di famiglia e anche quella sera la mia prima reazione fu di contrarietà una parte di me era affezionata alle cose che non sapeva guardavo fuori dalla finestra mentre ascoltavo il fianco opposto del vallone nella penombra delle nove di sera era affitto di abeti da quel lato un bosco senza radure che scendeva deciso fino al torrente solo un lungo canalone lo tagliava con un solco più chiaro ed era quello che tenevo d'occhio poi durante il racconto di mia madre cominciò a nascere in me un sentimento diverso pensai ma io la conosco questa storia ed era vero che a modo mio la conoscevo per anni ne avevo collezionato i frammenti come uno che possegga le pagine strappate di un libro e le abbia lette mille volte in ordine casuale avevo visto fotografie ascoltato conversazioni avevo osservato i miei genitori e il loro modo di fare sapevo quali argomenti li costringevano a tacere di colpo quali altri a litigare quali nomi del passato avevano il potere di rattristarli o commuoverli possedevo ogni parte della storia ma non ero mai riuscito a ricomporla tutta intera dopo un po' che guardavo fuori vedi le cerve che aspettavano là sull'altro versante nel canalone doveva esserci una vena d'acqua e ogni sera prima del buio uscivano dal bosco ad abbeverarsi l'acqua non si vedeva da quella distanza ma erano le cerve a dirmi che c'era andavano e venivano lungo una loro pista e le osservai finché fu troppo buio per distinguere qualcosa la storia è questa negli anni 50 mio padre era il migliore amico del fratello di mia madre mio zio Piero erano entrambi del 1942 di cinque anni più giovani di lei si erano conosciuti da ragazzi in campeggio dove li portava il prete del paese d'estate passavano un mese intero sulle dolomiti dormivano in tenda giocavano nei boschi imparavano ad andare in montagna e a cavarsela da soli ed era quella vita ad averli resi tanto amici io potevo capirlo no disse mia madre sì non facevo nessuna fatica a immaginarli Piero andava benissimo a scuola mio padre era più forte di gambe e di carattere anzi non proprio per certe cose era il più fragile dei due ma era anche quello che conteggiava gli altri con il suo entusiasmo il più fantasioso e irrequieto metteva allegria averlo intorno e un po' per questo un po' perché viveva in collegio da loro era diventato subito di casa a mia madre era sembrato un ragazzino con troppe energie uno che aveva bisogno di correre e stancarsi più degli altri che fosse un orfano questo all'epoca non impressionava nessuno era un caso abbastanza frequente nel dopoguerra così come era frequente prendersi in casa il figlio di qualcun altro magari un parente morto o emigrato chissà dove in cascina di spazio ce n'era a volontà e di lavoro pure non che mio padre avesse bisogno di una sistemazione pratica non era un tetto sopra la testa a mancargli gli mancava una famiglia così a 16 o 17 anni era sempre lì il sabato e la domenica e ogni giorno d'estate per il raccolto la vendemmia, i fieni, il taglio del bosco studiare gli piaceva ma gli piaceva pure la vita all'aria aperta mia madre mi raccontò di quando lui e Piero avevano scommesso di pestare per sfida non so quanti quintali d'uva con i piedi della loro scoperta giovanile del vino e del giorno in cui li avevano trovati nascosti in cantina e completamente ubriachi di storie simili ce n'erano a non finire disse ma voleva che una cosa mi fosse chiara questo rapporto non era nato e cresciuto per caso c'era una volontà precisa dietro il prete, quello della montagna era un amico di mio nonno aveva portato in campeggio i ragazzi e le ragazze per anni e vedeva di buon occhio che mio padre si legasse a loro il nonno a sua volta aveva consentito ad accogliere quell'orfano in casa propria era anche questo un modo di provvedere al suo futuro Piero assomigliava a me disse mia madre era taciturno, riflessivo aveva una sensibilità che lo rendeva capace di capire gli altri e allo stesso tempo un po' indifeso verso i caratteri più forti del suo quando venne l'ora di iscriversi all'università non ebbe dubbi nella scelta desiderava da sempre più di tutto diventare un medico sarebbe stato un bravo medico disse mia madre aveva quel che ci vuole per diventarlo il talento dell'ascolto e della compassione mio padre invece più che dagli esseri umani era attratto dalla materia dalla terra dal fuoco dall'aria dall'acqua gli piaceva l'idea di affondare le mani nella materia del mondo e scoprire come era fatto sì pensai questo era proprio lui era così che me lo ricordavo affascinato da ogni granello di sabbia e cristallo di ghiaccio e del tutto indifferente alle persone riuscivo a immaginare l'ardore con cui a 19 anni si era addentrato nello studio della chimica intanto avevano cominciato ad andare in montagna per conto loro da giugno a settembre ogni sabato quasi partivano con la corriera per Trento o Belluno poi risalivano le valli in autostop passavano la notte nei pascoli o certe volte nei fienili non avevano soldi per comprarsi niente ma nessuno ne aveva disse mia madre tra chi andava in montagna a quei tempi le Alpi erano l'avventura dei poveri il polo nord o l'oceano pacifico di ragazzi come loro dei due mio padre era quello che studiava le mappe e progettava nuove imprese Piero era più prudente ma anche più ostinato aveva bisogno di tempo per convincersi però poi difficilmente si ritirava a metà strada ed era il compagno ideale per uno come mio padre che invece tendeva ad abbattersi se le cose giravano storte finché ci fu uno scarto nelle loro vite chimica durava meno di medicina così mio padre si laureò per primo e nel 67 partì militare finì nell'artiglieria di montagna a trascinare cannoni e mortai su per le mulattiere della grande guerra la sua laurea gli dava diritto al grado di sotto ufficiale o sergente dei muli come diceva lui non fece molta vita di caserma quell'anno lo passò tutto spostandosi di valle in valle con la sua compagnia scoprì che quella vita non gli dispiaceva affatto quando tornava sembrava più vecchio adesso sia del ragazzo che era partito e sia di Piero che passava ancora le giornate sui libri era come se avesse assaggiato per primo un sapore più duro e reale e ci avesse preso gusto sperimentò oltre alle sbornie di grappa le lunghe marce e i campi nella neve era della neve che parlava Piero durante le licenze delle sue forme del suo carattere mutevole del suo linguaggio negli slanci da giovane chimico che aveva allora si era innamorato di un elemento nuovo diceva che d'inverno la montagna era un mondo tutto diverso e che loro due dovevano andarci insieme così nel Natale del 68 poco dopo il congedo lui e Piero inaugurarono la loro prima stagione invernale si fecero prestare da qualcuno gli sci e le pelli di foca cominciarono a battere i posti che conoscevano meglio solo che adesso non potevano più dormire sotto le stelle dovevano pagarsi i rifugi mio padre era allenatissimo mio zio meno perché aveva passato l'ultimo anno a preparare la tesi di laurea ma anche lui entusiasta delle nuove scoperte avevano a malapena i soldi per mangiare e dormire e non potevano certo permettersi una guida alpina per cui la tecnica era quello che era ma tanto secondo mio padre per salire era pur sempre questione di gambe per scendere in qualche modo si scendeva piano piano stavano perfino elaborando uno stile finché puntarono in marzo a una forcella del sasso lungo e si ritrovarono ad attraversare un pendio sotto il sole del pomeriggio riuscivo a vedere la scena che mia madre descriveva per quante volte doveva averla sentita raccontare mio padre era un po' più avanti si era tolto uno sci per sistemare l'attacco quando sentì il terreno cedergli sotto i piedi sentì un fruscio simile a quello di un'onda che si ritira sulla sabbia ed era davvero come se tutto il pendio che aveva appena attraversato si stesse ritirando verso il basso in modo incredibilmente lento all'inizio mio padre scivolò giù di un metro riuscì a spostarsi di lato e a tenersi a una roccia vide il suo sci spaiato che invece continuava la discesa così come Piero che si trovava in un punto del pendio più liscio e ripido lo vide perdere l'equilibrio e scivolare sulla pancia guardando in su con le mani che cercavano un appiglio che non c'era poi il banco di neve prese velocità e volume non era la neve secca dell'inverno che precipita in nuvole polverose era la neve umida di primavera che viene giù rotolando rotola e monta su se stessa dove trova un ostacolo e sommerso Piero senza davvero investirlo o travolgerlo gli salì sopra e continuò la discesa 200 metri più in basso il pendio spianava e là sotto la slavina si assestò ancora prima che fosse tutto fermo mio padre scese di corsa ma non riusciva a individuare il suo amico la neve era dura adesso neve pesante e ben pressata dalla caduta si aggirò sulla slavina gridando guardando dappertutto per vedere se qualcosa si muoveva ma la neve era di nuovo immobile benché non fosse passato più di un minuto dal distacco mio padre nei mesi successivi la raccontava così era come se una bestia enorme fosse stata disturbata nel sonno avesse ringhiato appena si fosse scrollata di dosso il fastidio e riadagiata dove era più comoda e adesso già dormiva di nuovo per la montagna non era successo niente l'unica speranza quello che rare volte accade era che Piero là sotto si fosse formato una bolla d'aria e riuscisse a respirare mio padre del resto una pala non l'aveva e prese l'unica decisione sensata cominciò a scendere verso il rifugio in cui avevano dormito solo che poco più in basso si ritrovò ad affondare nella neve morbida allora tornò su rimese lo sci che gli restava e riuscì in qualche modo a scendere con quello scivolando per brevi tratti e cadendo di continuo ma era sempre meglio che sprofondare a ogni passo a metà pomeriggio raggiunse il rifugio e chiamò i soccorsi che arrivarono ormai col buio e trovarono mio zio la mattina dopo morto sotto un metro di slavina asfissiato dalla neve per tutti quanti fu subito chiaro che era colpa sua a chi avrebbero potuto darla altrimenti due fatti provavano che lui e Piero avessero preso l'inverno sotto gamba erano attrezzati male e si trovavano lassù allora sbagliata aveva nevicato da poco faceva troppo caldo per attraversare un pendio era mio padre il più esperto dei due ed era lui che avrebbe dovuto saperlo evitare quel passaggio e ritirarsi prima mio nonno trovò qualcosa di imperdonabile nei suoi errori e col tempo anziché passargli la rabbia che provava mise radici non arrivò a chiudergli la porta di casa ma non aveva più piacere a vederlo e cambiava faccia quando lui arrivava poi cominciò a cambiare stanza perfino un anno dopo durante la messa in memoria di suo figlio fece in modo di sedersi dall'altra parte della chiesa mio padre a un certo punto si arrese e smise di disturbarlo è proprio qui che nella storia entra in scena mia madre benché da aspettatrice ci fosse sempre stata conosceva mio padre da una vita anche se all'inizio l'aveva considerato solo come l'amico di suo fratello poi crescendo era diventato un amico anche per lei avevano cantato bevuto camminato vendemmiato tante di quelle volte fianco a fianco che dopo l'incidente cominciarono a incontrarsi per parlare mio padre era molto in crisi quel periodo e a mia madre non sembrava giusto non le sembrava giusto dargli tutta la colpa e lasciarlo solo finì che si misero insieme circa un anno prima di sposarsi l'invito alle nozze fu rifiutato da tutta la famiglia così si sposarono senza parenti in montagna già pronti a partire per Milano e poi la loro vita ricominciò da capo con una nuova casa nuovi lavori nuovi amici nuove montagne c'ero anch'io in questa loro vita nuova anzi disse mia madre ero la cosa più nuova di tutte quella che dava ragione di esistere alle altre io con il mio nome vecchio un nome di famiglia era tutto quando mia madre finì il suo racconto mi vennero in mente i ghiacciai il modo in cui mio padre me ne parlava lui non era uno che tornava sui propri passi né amava ripensare ai giorni tristi però certe volte in montagna anche su quelle montagne vergini dove non era morto nessun amico guardava il ghiacciaio e qualcosa nella sua memoria veniva a galla diceva così che l'estate cancella i ricordi proprio come scioglie la neve ma il ghiaccio è la neve degli inverni lontani è un ricordo d'inverno che non vuole essere dimenticato soltanto adesso capivo di cosa parlava e sapevo una volta per tutte di aver avuto due padri il primo era l'estraneo con cui avevo abitato per vent'anni in città e tagliato i ponti per altri dieci il secondo era il padre di montagna quello che avevo solo intravisto eppure conosciuto meglio l'uomo che mi camminava alle spalle sui sentieri l'amante dei ghiacciai quest'altro padre mi aveva lasciato un rudere da ricostruire allora decisi di dimenticare il primo e fare il lavoro per ricordare lui 8 in agosto avevamo finito il tetto della casa era composto da due strati di tavole separati da una lamiera e un isolante all'esterno erano scandole di larice sovrapposte una all'altra e percorse da solchi per far defluire l'acqua all'interno erano perline di abete il larice avrebbe difeso la casa dalla pioggia l'abete l'avrebbe tenuta al caldo avevamo deciso di non bucare il tetto con un lucernario anche in un mezzogiorno d'estate questa assenza rendeva l'interno piuttosto ombroso le finestre rivolte a nord non ricevevano luce diretta ma guardando fuori vidi la montagna di fronte che si alzava al di là del lago splendere quasi bianca i suoi salti di roccia e le sue pietraie erano abbaglianti a quell'ora la luce che entrava dalle finestre veniva da lì come da uno specchio così funzionava una casa costruita sull'inverso uscii sul pianoro a osservare quella montagna al sole poi mi voltai verso la nostra il grenon che copriva il cielo mi era venuta voglia di salirci in cima a vedere che aspetto aveva la barma da lassù da due mesi l'avevo sopra la testa ogni giorno ma non ci avevo mai pensato credo fossero le gambe a comandarmi questo desiderio e il caldo dell'estate le gambe erano di nuovo forti e scalpitavano e l'estate mi attirava verso l'alto bruno scese dal tetto dove stava facendo un lavoro di pazienza doveva fissare una lamiera di piombo tra la parete di roccia e il tetto in modo che l'acqua colando giù nei giorni di pioggia non filtrasse in casa si trattava di sagomare la lamiera un pezzetto alla volta con il martello perché seguisse la parete in ogni sporgenza e rientranza e le aderisse bene il piombo era morbido e lavorando con cura alla fine sembrava quasi saldato alla roccia una sua vena opaca così il tetto e la parete diventavano una superficie sola chiesi a Bruno del sentiero per il Grenon e lui mi indicò una traccia che andava su dall'agua attraverso il pendio scompariva in un folto di ontani superava una zona umida e ricompariva più avanti tra balze di nuove erbose là dietro disse quello che sembrava un crinale nascondeva in realtà un'altra cunca e un altro lago più piccolo del nostro dal lago in poi era tutta pietraia non c'era un vero sentiero per risalirla forse qualche ometto di sassi o qualche via di camosci ma comunque mi indicò un intaglio sulla cresta sommitale dove spiccava un residuo di nevaglio tenendo d'occhio quella neve disse non mi potevo sbagliare lassù sarei uscito in cresta e poi era facile proseguire fino in cima mi piacerebbe farci un giro dissi magari sabato domenica se c'è il sole ma vai adesso disse bruno questo lo faccio anche da solo sei sicuro ma sì giornata libera vai vai il lago superiore era tutto diverso dal nostro gli ultimi piccoli cembri e larici gli ultimi arbusti di salice e ontano scomparivano via via lungo il pendio e oltre il crinale soffiava già all'aria rarefatta dell'alta montagna il lago era solo una pozza verdastra circondata da pascoli magri e distese di mirtillo una ventina di capre incustodite stavano accovacciate nei pressi di un rudere e mi ignorarono quasi il sentiero finiva lì tra le false piste scavate dai passaggi del bestiame dove l'ultima erba rada cedeva il posto ai lastroni della pietraia vedevo bene il nevaio lassù in cima e mi ricordavo le regole di mio padre tirai una linea tra me e la neve e partii sentivo nelle orecchie la sua voce che diceva dritto vai su di qua era da tanto che non camminavo sopra la quota del bosco non c'ero mai stato da solo ma dovevo aver imparato bene perché mi sentivo a mio agio nel muovermi sulla pietraia vedevo un ometto di sassi più in alto e puntavo lì spostandomi da una pietra all'altra secondo un istinto che mi faceva preferire le pietre grandi e stabili ed evitare quelle traballanti trovavo una qualità elastica nella roccia che non assorbiva il passo come la terra o l'erba ma rimandava su alle gambe la loro stessa forza forneva il corpo lo slancio per proseguire così una volta posato un piede su un sasso e spinto il peso in avanti e in su l'altro cominciò ad andare sempre più lontano mi ritrovai a correre e saltare sulla pietraia e poi a smettere di governare il movimento delle gambe e lasciare che facessero da sole sentivo di potermi fidare di loro e che non avrebbero sbagliato mi ricordai di mio padre e della gioia che gli vedevo addosso quando superavamo la quota dei pascoli ed entravamo nel mondo della roccia forse era la stessa gioia che mi sentivo in corpo io quando raggiunsi il piccolo nevaio avevo il fiatone per la corsa mi fermai a tastare quella neve d'agosto era ghiacciata e granulosa tanto dura da doverla grattare via con le unghie e ne raccolsi una manciata che mi passai sulla fronte e il collo per rinfrescarmi la succhiai finché non senti le labbra formicolare poi risali l'ultimo tratto di pietraia fino in cresta allora la vista mi si aprì sull'altro versante del grenon il suo lato al sole sotto i miei piedi dopo una fascia rocciosa un lungo prato andava giù dolcemente fino a un gruppo di baite e a un pascolo punteggiato dalle mucche mi sembrava di essere tornato di colpo mille metri più in basso o di avere cambiato stagione davanti a me la luce dell'estate e i suoni vivi del bestiame e alle mie spalle quando mi voltai un autunno ombroso cupo fatto di roccia umida e chiazza di neve i due laghi laggiù erano resi gemelli dalla prospettiva cercai la casa che io e Bruno stavamo costruendo ma forse ero già troppo in alto o forse era lei a mimetizzarsi bene e non riuscì a distinguerla dalla montagna della cui materia era fatta gli ometti di sassi proseguivano qualche metro sotto il crinale lungo una bella cengia io però avevo voglia di arrampicare e non vedevo grandi difficoltà davanti a me così decisi di mantenere il filo di cresta posai le mani sulla roccia dopo tanti anni scelsi gli appoggi per i piedi e mi tirai su benché fosse un'arrampicata elementare quei vecchi gesti richiesero tutta la mia attenzione dovevo di nuovo pensare a dove mettere ogni mano e ogni piede usare l'equilibrio e non la forza e cercare di essere leggero ben presto persi la cognizione del tempo non badavo alle montagne intorno né ai due mondi estranei tra loro che precipitavano sotto di me esisteva soltanto la roccia che avevo davanti agli occhi ed esistevano le mie mani ed i miei piedi finché raggiunsi un punto da cui non si poteva più salire e solo per questo mi resi conto di essere in cima e adesso pensai c'era un cumulo di sassi sulla vetta oltre quel monumento rudimentale il monte rosa era comparso coi suoi ghiacciai contro il cielo forse avrei dovuto portarmi una birra per festeggiare ma non provavo esultanza né sollievo decisi di fermarmi il tempo di una sigaretta salutare la montagna di mio padre e poi tornare giù sapevo ancora riconoscere ognuna di quelle cime le osservavo fumando da est a ovest e ritrovavo tutti i nomi nella mia memoria mi chiedevo a che altezza ero perché mi pareva di aver superato i 3000 senza sentire niente nella pancia così mi guardai intorno in cerca di qualche scritta vedi che incastrata nel cumulo di sassi c'era una cassetta metallica sapevo che cosa conteneva aprì lo sportello e trovai un quaderno avvolto in una busta di plastica che non era riuscita a proteggerlo del tutto dall'acqua le pagine a righe avevano la consistenza della carta bagnata e asciugata c'erano un paio di penne anche con cui i rari camminatori avevano lasciato un pensiero o a volte solo il nome e la data l'ultimo era passato più di una settimana prima sfogliai le pagine e vedi che su quella montagna brulla disfatta e senza sentieri che faceva ombra alla mia casa e ormai sentivo anch'essa mia non salivano che una decina di persone all'anno per cui il quaderno andava parecchio indietro nel tempo lessi diversi nomi e annotazioni senza importanza sembrava sempre che dopo aver fatto tanta fatica nessuno trovasse le parole per scrivere ciò che provava se non qualche banalità poetica o spirituale sfogliai il quaderno a ritroso con un po' di insofferenza verso l'umanità e non sapevo quel che stavo cercando finché non lo trovai due righe dell'agosto del 1997 la graffia era quella che conoscevo lo spirito pure c'era scritto salito da grana in tre ore e cinquantotto minuti ancora in splendida forma Giovanni Guasti osservai a lungo le parole di mio padre l'inchiostro sbavato dall'acqua la firma meno leggibile delle due frasi che la precedevano era la firma di un uomo abituato a farla spesso non più davvero un nome ma solo un gesto automatico nel punto esclamativo c'era tutto il suo buon umore di quel giorno era solo o così pareva dal quaderno perciò lo immaginai salire per la pietraia e uscire in cresta come avevo fatto io ero sicuro che avesse tenuto d'occhio l'orologio e a quel punto si era messo a correre voleva farcela a tutti i costi in meno di quattro ore stava bene lassù in cima fiero delle sue gambe e contento di rivedere la sua montagna luminosa mi venne in mente di strappare la pagina per conservarla poi mi sembrò un sacrilegio come portare giù un sasso dalla vetta chiusi bene il quaderno nella plastica lo rimisi nella cassetta e lo lasciai lì ne trovai altri di messaggi di mio padre nelle settimane successive studiavo la sua mappa dei sentieri e me ne andavo a cercarlo sulle cime meno nobili quelle dimenticate dalla bassa valle sul monte rosa verso ferragosto processioni di cordate segnavano gli acciai e alpinisti di mezzo mondo affollavano i rifugi ma dove andavo io non incontravo mai nessuno se non qualche solitario dell'età di mio padre o forse più mi pareva di incontrare lui quando li superavo e a loro sarà sembrato di incontrare un figlio credo che mi guardavano arrivare e si scostavano dicendo l'arco i giovani vedi che questi uomini avevano piacere se mi fermavo a parlare così cominciai a farlo certe volte ne approfittavamo per dividere un boccone tutti tornavano sulle stesse montagne da 30 40 50 anni e come me preferivano quelle trascurate dagli alpinisti i valloni abbandonati in cui niente sembrava cambiare mai un uomo con due baffi bianchi mi raccontò che per lui era un modo di ripensare alla sua vita era come se attaccando lo stesso vecchio sentiero una volta all'anno si addentrasse tra i ricordi e risalisse il corso della propria memoria veniva dalla campagna come mio padre ma la sua era la campagna del riso tra novare e vercelli dalla casa in cui era nato vedeva il monte rosa sopra la linea dei campi e fin da piccolo gli avevano spiegato che lassù nasceva l'acqua l'acqua da bere l'acqua dei fiumi l'acqua per allagare le risaie tutta l'acqua che usavano veniva da lì e finché il ghiaccio continuava a splendere all'orizzonte non ci sarebbero stati problemi di siccità mi piaceva quel signore era vedovo da qualche anno e gli mancava molto sua moglie aveva delle macchie di sole sulla testa pelata e una pipa che si mise a riempire mentre parlavamo a un certo punto prese dallo zaino una borraccia versò due gocce di grappa su uno zuccherino e me lo offrì con questo vai come un treno disse e dopo un po' eh già non c'è niente come la montagna per ricordare cominciavo a saperlo anch'io in cima trovavo una croce sbilenca a volte nemmeno quella disturbavo stambecchi che si scomodavano senza davvero fuggire i maschi mi soffiavano addosso tutto il loro fastidio per la mia presenza le femmine e i piccoli dietro si mettevano al sicuro se ero fortunato la cassettina di ferro stava nascosta ai piedi della croce o da qualche parte tra i sassi la firma di mio padre c'era in tutti quei quaderni era spesso laconico sempre spaccone mi capitava di andare indietro di dieci anni solo per trovare tre parole fatta anche questa Giovanni Guasti doveva sentirsi particolarmente in forma un giorno ed essersi commosso per qualcosa per scrivere stambecchi aquile neve fresca come una seconda giovinezza un'altra diceva nebbia fitta fino in cima vecchie canzoni magnifico panorama interiore io le conoscevo tutte quelle canzoni e a cantare nella nebbia mi sarebbe piaciuto essere con lui era una vena malinconica che ritrovai in un altro messaggio lasciato appena l'anno prima tornato quassù dopo tanto tempo sarebbe bello restarci tutti insieme senza vedere più nessuno senza dover più scendere a balle tutti chi mi chiesi e io dov'ero quel giorno chissà se aveva già cominciato a sentirsi il cuore debole o che cos'altro gli era successo per scrivere quelle parole senza dover più scendere a balle era lo stesso sentimento che gli aveva fatto sognare una casa nel posto più alto impervio e isolato dove vivere lontano dal mondo io copiavo le date e le frasi su un tacquino prima di rimettere il quaderno dove l'avevo preso non aggiungevo mai niente di mio forse io e Bruno vivevamo davvero dentro il sogno di mio padre ci eravamo ritrovati in una pausa delle nostre esistenze quella che mette fine a un'età e ne precede un'altra anche se questo l'avremmo capito soltanto dopo dalla barma vedevamo i falchi volteggiare sotto di noi le marmotte stare in guardia sulla soglia della tana scorgevamo un pescatore o due ogni tanto giù al lago e qualche camminatore ma loro non alzavano gli occhi a cercarci e noi non scendevamo a salutare aspettavamo che fossero andati via tutti per farci una nuotata nei pomeriggi di agosto l'acqua del lago era gelida e gareggiavamo a chi stava sotto più a lungo prima di uscire correndo per i prati finché il sangue non tornava a circolare nelle vene avevamo anche noi una canna da pesca solo un bastone e una lenza con cui ogni tanto riuscivo a prendere qualcosa usando cavallette come esche allora per cena c'erano trote arrostite sul fuoco e vino rosso restavamo a bere davanti a quel fuoco fin quando non faceva buio la notte dormivo su anch'io adesso mi accampavo nella casa in costruzione proprio sotto la finestra la prima volta passai lunghe ore a osservare le stelle del mio sacquapelo e ad ascoltare il vento mi giravo dall'altra parte e anche nel buio riuscivo a sentire la presenza della parete di roccia come se possedesse un magnetismo o una forza di gravità o come quando hai gli occhi chiusi e qualcuno ti avvicina una mano alla fronte e tu senti che è lì mi sembrava di dormire in una caverna scavata nella montagna come Bruno mi disabituai in fretta alla civiltà scendevo in paese una volta alla settimana contro voglia solo per fare la spesa sorpreso di ritrovarmi tra le macchine dopo appena un paio d'ore di cammino i negozianti mi trattavano come un turista qualsiasi magari solo più eccentrico degli altri e io ero contento così mi sentivo meglio quando riprendevo il sentiero caricavo sul mulo il pane la verdura il salame il formaggio il vino gli davo una pacca sul sedere e lasciavo che andasse su per conto suo sulla strada che ormai conosceva a memoria forse davvero avremmo potuto restare lassù per sempre e non se ne sarebbe mai accorto nessuno arrivarono le piogge di fine agosto anche di loro mi ricordavo sono i giorni che in montagna portano l'autunno perché dopo quando torna il sole non è più il sole caldo di prima e la luce diventa obliqua e le ombre più lunghe quei banchi di nuvole lente senza forma che inghiottano le cime una volta mi dicevano che era ora di partire e io protestavo con il cielo perché l'estate era durata solo un attimo non era appena cominciata non poteva essere già volata via così alla barma la pioggia piegava l'erba dei prati punteggiava la superficie del lago tamburellava sul nostro tetto e il suo crepitio si confondeva con quello del fuoco stavamo rivestendo da bete una delle due stanze in quei giorni scaldandoci con la stufa che avevo recuperato l'avevamo sistemata contro la parete di roccia la roccia dietro la stufa piano piano si intiepidiva e rimandava il calore alla stanza la bete di cui era rivestita avrebbe dovuto trattenerlo ma questa era ancora un'idea per il futuro senza porte e finestre il vento ci soffiava sul collo e la pioggia cadeva di traverso dai vani e dopo il lavoro si stava bene in casa a guardare la stufa alimentandola con la legna del vecchio rudere Bruno una sera mi parlò del progetto che aveva in mente voleva comprare l'alpeggio dello zio era da tanto tempo che metteva via i soldi i cugini ben contenti di liberarsi dei loro brutti ricordi gli avevano fatto un prezzo e Bruno aveva speso tutto quel che possedeva per l'anticipo il resto sperava di farselo prestare dalla banca quei mesi alla barma erano stati le prove generali adesso sapeva di esserne capace se tutto andava bene avrebbe passato l'estate successiva a fare lo stesso lavoro voleva ristrutturare le baite comprare un po' di bestiame e rimettere in funzione l'alpeggio entro un paio d'anni è un bel progetto dissi le mucche ormai non costano più niente disse lui e rendono? mica tanto ma non importa se fosse per i soldi continuerai a fare il muratore il muratore non ti piace più sì che mi piace ma ho sempre saputo che era una cosa temporanea è una cosa che sono capace di fare ma non è quella per cui sono nato e per cosa sei nato? per fare il montanaro divenne serio nel pronunciare questa parola gliel'avevo sentita usare poche volte quando mi parlava dei suoi avi gli antichi abitanti della montagna che lui conosceva attraverso i boschi i campi inselbatichiti le case diroccate che esplorava da una vita quell'abbandono gli sembrava inevitabile una volta quando l'unico destino che vedeva per sé era lo stesso di tutti gli uomini della valle guardare in basso dove c'erano soldi e lavoro e non in alto dove non c'erano che sterpi e ruderi mi raccontò che suo zio in alpeggio negli ultimi tempi non riparava più niente se una sedia si rompeva la bruciava nella stufa se vedeva una pianta infestante nel pascolo nemmeno si chinava a strapparla suo padre bestemmiava quando gli nominavi quel posto le mucche le avrebbe prese volentieri affucilate e il pensiero che andasse tutto in malora gli provocava un'allegria crudele ma Bruno si sentiva diverso da così tanto diverso da suo padre suo zio e i suoi cugini che a un certo punto aveva capito a chi assomigliava e da dove gli veniva il richiamo della montagna la tua mamma dissi non perché l'avessi saputo prima l'avevo pensato in quel momento sì disse Bruno siamo uguali io e lei fece una pausa perché pesassi bene quelle parole e poi aggiunse solo che lei è una donna se io me ne vado a stare nel bosco nessuno mi dice niente se lo fa una donna la prendono per una strega se io sto zitto che problema c'è sono solo un uomo che non parla una donna che non parla deve essere una mezza matta era vero lo avevamo pensato tutti io stesso non avevo mai scambiato più di due parole con lei neanche adesso quando passavo da grana e mi dava le patate i pomodori e la toma da portare su un po' più curva e ancora più magra di una volta era sempre la stessa strana presenza che vedevo là in alto nell'orto da ragazzino Bruno disse se mia mamma fosse stata un uomo allora sì che avrebbe fatto la vita che voleva non era il tipo da sposarsi mi sa di certo non con mio padre la sua unica fortuna è stata liberarsi di lui e come ha fatto? chiudendosi la bucca e stando lassù con le galline non puoi prendertela troppo con una così prima o poi la lasci in pace ma te le ha dette lei queste cose? no o sì forse in qualche modo non importa che me le abbia dette le ho capite da solo sapevo che Bruno aveva ragione cose simili sui miei genitori le avevo capite anch'io cominciò a girarmi in testa quella frase la sua unica fortuna è stata liberarsi di lui e mi chiesi se fosse accaduto lo stesso a mia madre poteva anche essere per come la conoscevo forse non proprio una fortuna ma magari un sollievo mio padre era stato un uomo ingombrante e prepotente e faticoso quando era nei dintorni esisteva soltanto lui il suo carattere esigeva che le nostre vite gravitassero tutte intorno alla sua e tu? mi chiese Bruno dopo un po' io cosa? adesso cosa fai? ah parto credo se riesco per dove? forse l'Asia ancora non lo so gli avevo già parlato del mio desiderio di viaggiare ero stanco di non avere un soldo soprattutto per questo negli ultimi anni avevo consumato tutte le mie energie nella fatica di sbarcare il lunario non mi mancava niente di ciò che non possedevo ma la libertà di girare il mondo sì ora con la piccola eredità di mio padre avevo sistemato i conti e volevo inventarmi un progetto lontano da casa avevo voglia di prendere un aereo e stare via per qualche mese senza le idee troppo chiare e vedere se trovavo qualche storia da raccontare non l'avevo mai fatto deve essere bello partire così disse Bruno vuoi venire? gli chiesi per scherzo ma non del tutto mi dispiaceva che il lavoro fosse finito non mi era mai capitato di stare così bene con qualcuno no non è per me disse lui tu sei quello che va e viene io sono quello che resta come sempre no? quando la casa fu pronta in settembre era fatta così aveva una stanza di legno e una stanza di pietra la stanza di legno era più grande e calda con la stufa il tavolo due sgabelli una cassa panca e una dispensa alcuni di questi mobili venivano dai ruderi nei rintorni recuperati e puliti da me con olio di gomito e carta vetrata altri li aveva costruiti bruno usando le assi del vecchio tavolato sotto il tetto contro la parete di roccia c'era un soppalco a cui si accedeva con una scala a pioli l'angolo più caldo e appartato della casa mentre il tavolo stava proprio sotto la finestra così sedendoci potevamo guardare fuori la stanza di pietra era piccola e fresca e intendevamo usarla come cantina laboratorio e magazzino lasciamo lì parecchi degli attrezzi che avevamo usato e tutto a legname di scarto non c'era bagno né acqua corrente né elettricità ma avevamo spessi vetri alle finestre e una massiccia porta d'ingresso dotata di un chiavistello e nessun lucchetto solo la stanza di pietra era chiusa a chiave la serratura serviva a evitare che ci rubassero gli attrezzi ma la stanza di legno restava aperta come si usava nei rifugi nel caso che qualcuno passasse di lì in inverno e si trovasse in difficoltà il prato intorno alla casa era pulito come un giardino adesso la legna da ardere stava all'asciutto sotto una tettoia e il mio piccolo cembro con torto guardava il lago anche se non mi sembrava più robusto né in salute di quando l'avevo trapiantato l'ultimo giorno andai a grana a prendere mia madre si allacciò gli scarponi di cuoio che le avevo visto usare fin da quando ero bambino non ne aveva mai avuti altri pensavo che avrebbe faticato a salire invece andammo su piano al suo passo ma senza fare nemmeno una sosta e io che le stavo dietro vidi come camminava tenne lo stesso ritmo lento e implacabile per più di due ore dava la sensazione che fosse impossibile vederla sbilanciarsi o scivolare fu molto contenta della casa che io e Bruno avevamo costruito era un giorno di settembre terzo con poca acqua ormai nei torrenti l'erba che seccava nei pascoli e l'aria che non era più quella tiepida di agosto Bruno aveva acceso la stufa e si stava bene in casa a bere un tè davanti alla finestra a mia madre le finestre piacevano e restò lì parecchio tempo a guardare fuori mentre io e Bruno organizzavamo il materiale da portare giù poi la vidi uscire sul pianoro a guardar bene ogni cosa per ricordarsela il lago le pietraie le cime del grenon l'aspetto della casa osservò a lungo la scritta che il giorno prima con mazza e scalpello avevo inciso sulla parete di roccia l'avevo ripassata con la vernice nera e diceva Giovanni Guasti 1942 2004 è nel ricordo il più bel rifugio poi ci chiamò a cantare una canzone era la canzone che si canta quando muore un amante della montagna la canzone in cui si chiede a Dio di lasciarlo andare a camminare anche nell'altra vita sia Bruno che io la conoscevamo era tutto giusto mi pareva fatto come si deve mancava una cosa da dire l'avevo pensata da un po' e decisi di dirla in quel momento in modo che la sentisse anche mia madre così c'era un testimone ricordarsela dissi a Bruno che volevo che quella casa non fosse mia ma nostra mia è sua di tutte e due ero convinto che mio padre desiderasse così perché l'aveva lasciata a entrambi e soprattutto lo desideravo io perché l'avevamo costruita insieme da quel momento dissi poteva considerarla casa sua tanto quanto io la consideravo mia sei sicuro? mi chiese io sì allora va bene disse grazie poi tolse le braci dalla stufa e le buttò fuori io chiusi la porta di casa presi la briglia del mulo e dissi a mia madre di fare strada e tutte e quattro partimmo al suo passo verso grana parte terza inverno di un amico nove fu un vecchio nepalese tempo dopo a raccontarmi delle otto montagne portava un carico di galline su per la valle dell'Everest diretto a qualche rifugio dove sarebbero diventate pollo al curry per turisti aveva sulla schiena una gabbia divisa in una dozzina di celle e le galline vive ci strepitavano dentro un trabiccolo del genere ancora mi mancava avevo visto gerle piene di cioccolato biscotti latte in polvere bottiglie di birra e di whisky e di coca cola andare su per i sentieri del nepal ad accontentare i gusti degli occidentali ma un pollaio portatile mai quando chiesi all'uomo se potevo fotografarlo lui lo appoggiò su un muretto si tolse dalla fronte la fascia con cui sosteneva il carico e si mise in posa sorridente accanto alle galline poi mentre riprendeva fiato parlamo un po' veniva da una regione dove ero stato anch'io e se ne stupì capì che non ero un camminatore di passaggio riuscivo perfino a mettere insieme qualche frase in nepali e allora mi chiese come mai mi interessavo tanto all'Himalaya avevo la risposta per quella domanda gli dissi che c'era una montagna dove ero cresciuto io a cui ero molto legato e che da lì mi era nato il desiderio di vedere le più belle e lontane del mondo ah disse lui ho capito stai facendo il giro delle otto montagne le otto montagne l'uomo raccolse un bastoncino con cui tracciò un cerchio nella terra gli venne perfetto si vedeva che era abituato a disegnare poi dentro al cerchio tracciò un diametro e poi un secondo perpendicolare al primo poi un terzo e un quarto lungo le bisettrici ottenendo una ruota con otto raggi io pensai che dovendo arrivare a quella figura sarei partito da una croce ma era tipico di un asiatico partire dal cerchio l'hai mai visto un disegno così? mi chiese sì risposi nei mandala giusto disse lui noi diciamo che al centro del mondo c'è un monte altissimo il sumeru intorno al sumeru ci sono otto montagne e otto mari questo è il mondo per noi nel dirlo tracciò fuori dalla ruota una piccola punta per ogni raggio e poi una piccola onda tra una punta e l'altra otto montagne e otto mari infine fece una corona intorno al centro della ruota che poteva essere pensai la cima innevata del sumeru valutò il suo lavoro per un momento e scosse la testa come se fosse un disegno che aveva già fatto mille volte ma ultimamente ci avesse perso un po' la mano comunque puntò il bastoncino al centro e concluse e diciamo avrà imparato di più chi ha fatto il giro delle otto montagne o chi è arrivato in cima al monte sumeru il portatore di galline mi guardò e sorrise io pure perché la storia mi divertiva e credevo di averla capita bene cancellò il disegno con la mano ma sapevo che non l'avrei dimenticato beh mi dissi questa devo proprio raccontarla a bruno il mio centro del mondo in quegli anni era la casa che avevamo costruito insieme ci andavo a stare per lunghi periodi tra giugno e ottobre e ogni tanto ci portavo degli amici che se ne innamoravano subito così finì per avere la sua compagnia che mi mancava in città durante la settimana vivevo solo a leggere scrivere spaccare legna e vagabondare per vecchi sentieri la solitudine divenne una condizione familiare per me buona ma non del tutto ma nei sabati d'estate c'era sempre qualcuno che saliva a trovarmi e allora la casa smetteva di assomigliare alla capanna di un'eremita e diventava uno di quei rifugi che una volta frequentavo con mio padre con il vino sul tavolo la stufa accesa gli amici che discutevano fino a tardi e la lontananza dal mondo che per una notte ci rendeva fratelli il rifugio si scaldava al fuoco di quell'intimità e a me pareva che tra una visita e l'altra ne custodisse le braci anche Bruno era attratto dal calore della barma lo vedevo spuntare dal sentiero verso sera portando un pezzo di toma e un bottiglione di vino o lo sentivo bussare alla porta quando era già buio come se fosse normale la nella notte dei duemila metri ricevere la visita di un vicino se ero in compagnia si univa volentieri alla tavolata lo trovavo più loquace che mai come uno che ha taciuto troppo a lungo e ha accumulato una quantità di cose da raccontare a grana restava confinato in un suo mondo fatto di case libri camminate nei boschi idee silenziose e capivo l'urgenza che lo spingeva a lavarsi e cambiarsi dopo una giornata di cantiere ignorare la stanchezza e il sonno e prendere il sentiero per il lago con questi amici si discuteva spesso di andare a vivere in montagna tutti insieme leggevamo bokchin e sognavamo o fingevamo di sognare di trasformare uno di quei villaggi abbandonati in una cittadella ecologica dove avremmo sperimentato la nostra idea di società solo in montagna si poteva fare solo lassù ci avrebbero lasciati in pace ne conoscevamo altri di esperimenti così in giro per le alpi tutti durati poco e finiti male ma proprio questo ci dava argomenti su cui discutere e non ci impediva di fantasticare come avremmo fatto per il cibo come per l'energia elettrica come per costruire le case un po' di soldi ci sarebbero ancora serviti ma come ce li saremmo procurati dove avremmo mandato a scuola ai nostri figli sempre che ce li volessimo mandare e come avremmo risolto il problema della famiglia sabotatrice di ogni comunità nemica anche peggiore che la proprietà e il potere era il gioco dell'utopia cui giocavamo ogni sera Bruno che il suo villaggio ideale lo stava costruendo davvero si divertiva a demolire il nostro diceva senza cemento le case non stanno in piedi e senza concime non cresce nemmeno l'erba dei pascoli e senza benzina voglio vedere come tagliate la legna d'inverno che cosa pensate di mangiare polenta e patate come i vecchi e diceva siete voi di città che la chiamate natura è così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome noi qui diciamo bosco pascolo torrente roccia cose che uno può indicare con il dito cose che si possono usare se non si possono usare un nome non glielo diamo perché non serve a niente mi piaceva sentirlo parlare così e mi piaceva poi vederlo entusiasmarsi davanti a certe idee che coglievamo in giro per il mondo lui che era l'unico ad avere la capacità di realizzarle un anno tirò 50 metri di tubo da uno dei torrenti che alimentavano il lago scavò un tronco di larice con la motosega e costruì una fontana davanti a casa così adesso avevamo l'acqua per bere e lavarci ma non era quello lo scopo principale sotto il getto della fontana montò una turbina che mi ero fatto spedire apposta dalla Germania era di plastica larga una spanna simile a una girandola ehi Berio ti ricordi disse quando il nostro mulino cominciò a girare certo che mi ricordo quel sistema caricava una batteria con cui in casa riuscivamo a tenere accese una radio e una lampadina per tutta la sera funzionava notte e giorno non dipendeva dal meteo come un pannello solare o una turbina eolica non costava niente e non consumava niente era l'acqua che scendeva dal Grenon e andava verso il lago e nella discesa passava da casa per dare luce e musica alle nostre serate c'era una ragazza che venne su con me nell'estate del 2007 si chiamava Lara stavamo insieme solo da un paio di mesi eravamo nella fase che per altri è l'inizio di una relazione per noi invece era già la fine avevo cominciato a ritrarmi a eluderla e a sparire così mi avrebbe lasciato perdere prima che tutto diventasse troppo doloroso era un sistema collaudato e in quei giorni mi costrinse ad ammetterlo a parole se la prese per una notte poi le passò furono bei giorni anche una volta capito che sarebbero stati gli ultimi la casa il lago le pietraie e le creste del Grenon piacevano molto a Lara che faceva lunghe passeggiate da sola per i sentieri lì intorno mi sorprese vedere come camminava era una ragazza dalle gambe forti a suo agio con la vita spartana di lassù finì per conoscerla meglio alla barma che nei due mesi in cui eravamo andati a letto insieme lei c'era cresciuta mi disse a lavarsi con l'acqua fredda e asciugarsi al fuoco veniva da altre montagne che aveva lasciato anni prima per studiare e adesso le mancavano non che rinnegasse la scelta di andare in città sentiva di aver avuto una storia d'amore con Torino con le strade la gente le notti i lavori che aveva fatto e le case in cui aveva abitato una storia lunga e bella ma ormai esaurita le dissi che la capivo bene qualcosa del genere era successo anche a me lei mi rivolse uno sguardo triste in cui c'era del rimprovero e del rimpianto nel pomeriggio la vidi scendere al lago spogliarsi nuda sulla riva entrare in acqua e nuotare fino a quel masso simile a uno scoglio e per un momento mi dissi che forse l'avevo allontanata troppo in fretta ma poi mi ricordai di come stavo quando stavo con qualcuno e non ci pensai più quella sera invitai Bruno a cena era in ritardo di un anno sui suoi programmi per via di prestiti e permessi che l'avevano ralentato ma ormai aveva quasi finito di ristrutturare l'alpeggio non c'era altro nei suoi pensieri da tre anni combatteva con impiegati di banca e funzionari comunali faceva due lavori d'inverno per guadagnare i soldi che spendeva d'estate ed era in quello stato di concentrazione assoluta vicino all'ossessione in cui l'avevo già visto nella mia stagione da manovale passò tutta la sera a raccontarci di stalle a norma di legge locali per fare il formaggio e cantine per stagionarlo attrezzature in grame e in acciaio piastrelle lavabili dentro alle vecchie baite discorsi che io conoscevo a memoria ma Lara no e in parte quel fervore era suo uso e consumo mi faceva ridere il mio vecchio amico Bruno perché non l'avevo mai visto provare a far colpo su una donna sceglieva parole più difficili del solito esagerava nel gesticolare e la sbirciava spesso per controllare la sua reazione gli piaci? le dissi dopo che fu andato via e tu come lo sai? lo conosco da vent'anni è il mio miglior amico e non pensavo che tu avessi amici disse Lara pensavo che scappassi appena ne vedi uno non replicai il sarcasmo era il meno che mi potesse capitare ci vuole stile anche per essere lasciati e lei ce l'aveva mi preparavo a partire per un lavoro quell'autunno quando Bruno mi cercò a Torino era la prima volta che andavo in Himalaya e non stavo nella pelle sentire la sua voce al telefono mi sorprese un po' perché nessuno dei due aveva confidenza con lo strumento un po' perché con la testa ero già lontanissimo da lì andò subito al punto Lara era appena tornata a trovarlo Lara? pensai non ci eravamo più visti da quei giorni in montagna adesso c'era salita da sola aveva voluto visitare l'alpeggio e saperne di più sui suoi progetti lavorativi Bruno le aveva raccontato che in primavera avrebbe aperto l'azienda agricola aveva in mente di comprare una trentina di mucche e di non vendere il latte a nessun caseificio ma produrre il formaggio improprio per cui di certo avrebbe avuto bisogno di assumere qualcuno era quello che sperava lei il posto le piaceva in mezzo alle mucche c'era cresciuta e si era proposta subito per il lavoro Bruno ne era lusingato in parte e in parte preoccupato non aveva messo in conto la presenza di una donna quando mi chiese che cosa ne pensavo dissi credo che lo possa fare benissimo alla testa dura questo l'ho capito disse Bruno e allora? quello che non ho capito è com'è tra di voi ah dissi non so saranno due mesi che non ci vediamo avete litigato? no non c'è niente tra di noi sono contento se viene su da te sei sicuro? certo nessun problema allora va bene mi salutò e mi augurò buon viaggio ecco un uomo d'altri tempi pensai chi mai avrebbe chiesto il permesso di fare ciò che stava per fare quando riattaccai sapevo già tutto quello che sarebbe successo dopo ero contento per lui ed ero contento anche per lei poi smisi di pensare a Bruno e a Lara e a chiunque altro e cominciai a preparare lo zaino per l'Himalaya il primo viaggio in Nepal fu un viaggio nel tempo per me a un giorno di macchina da Kathmandu a meno di 200 km dalla sua folla cominciava una valle stretta scoscesa boscosa con un fiume che non si vedeva ma rombava giù in fondo i villaggi costruiti mille metri più in alto dove i dirupi si addolcivano al sole li collegavano mulattiere fatte di ripidi saliscendi ed esili ponti di corda sospesi su torrenti che tagliavano i fianchi della valle come lame intorno ai villaggi tutta la montagna era terrazzata a risaie nel profilo assomigliava a una scalinata dai gradini tondeggianti bordati da muretti a secco spezzettati in mille proprietà ottobre era stagione di raccolto e salendo osservavo i contadini al lavoro le donne mietevano inginocchiate nei campi gli uomini battevano le spighe nelle aie per separare i chicchi dalla paglia il riso seccava su teli dove altre donne più anziane delle prime lo setacciavano con cura quanto ai ragazzini ce n'erano dappertutto ne vidi due arare un campo come se fosse un gioco spronando una coppia di buoi magrissimi a forza di grida e colpi di bacchetta e mi ricordai del bastone giallo di Bruno la prima volta che ci eravamo incontrati sarebbe piaciuto anche a lui il Nepal lì esistevano ancora gli aratri di legno le pietre di fiume per affillare le falci e le gerle di vimini sulle schiene dei portatori anche se ai piedi dei contadini vedevo scarpe da ginnastica e dalle loro casupole sentivo uscire suoni di radio e televisione mi sembrava di aver ritrovato viva quella civiltà di montagna che da noi era estinta di ruderi lungo il sentiero non ne vidi neanche uno risalivo la valle insieme a quattro alpinisti italiani diretti all'Annapurna avrei diviso per qualche settimana la tenda con loro insieme alla mia macchina da presa era un lavoro ben pagato e mi era parso fin dall'inizio un colpo di fortuna mi incuriosiva l'idea di girare un documentario sull'alpinismo vedere che cosa sarebbe successo a un gruppo di uomini in condizioni estreme ma quello che stavo scoprendo nell'avvicinamento al campo base mi affascinava anche di più avevo già deciso di fermarmi dopo la spedizione e fare un giro a bassa quota per conto mio il secondo giorno di cammino comparvero in fondo alla valle le vette dell'Himalaya allora vidi cos'erano state le montagne all'alba del mondo montagne accuminate taglienti come appena scolpite dalla creazione ancora non levigate dal tempo le loro nevi illuminavano la valle da 6 o 7 mila metri d'altezza le cascate precipitavano dagli strapiombi e incidevano le pareti di roccia staccavano dai pendii frane di terra rossastra che finivano ribollendo nel fiume in alto indifferenti a quel tumulto i ghiacciai sorvegliavano ogni cosa è da lassù che viene l'acqua mi aveva detto quel signore coi baffi bianchi anche in Nepal dovevano saperlo bene se avevano chiamato la loro montagna come la dea del raccolto e della fertilità lungo il sentiero l'acqua era ovunque l'acqua dei torrenti delle fontane dei canali l'acqua dei lavatoi in cui le donne facevano il bucato l'acqua che mi sarebbe piaciuto vedere in primavera con le risaie allagate e la valle trasformata in una miriade di specchi non so se gli alpinisti con cui salivo notassero queste cose erano impazienti di lasciarsi alle spalle i villaggi e piantare piccozze e ramponi in quel ghiacciaio che splendeva lassù io no camminavo tra i portatori così potevo chiedere a loro quello che non capivo che verdura si coltiva negli orti quale legna si brucia nelle stufe a chi erano dedicati i tempietti che incontravamo lungo il sentiero nei boschi non c'erano abeti e larici ma strani alberi contorti che non seppi riconoscere finché un uomo non mi disse che erano rododendri rododendri la pianta prediletta da mia madre perché fioriva solo per pochi giorni all'inizio dell'estate tingendo la montagna di rosa lilla violetto in Nepal dava alberi di 5 o 6 metri dalla corteccia nera che si staccava in scaglie e le foglie oleose come l'alloro e in alto quando il bosco finì non comparvero il salice il ginepro ma un canneto di bambù bambù pensai il bambù a 3000 metri c'erano ragazzi che passavano portando in spalla fasci di canne ondeggianti nei villaggi ci costruivano i tetti tagliandole per il lungo e sovrapponendo le due metà alternate una concava e una combessa per far scorrere giù la pioggia nella stagione dei monsoni i muri erano di pietra intonacati di fango delle loro case sapevo già tutto i portatori posavano un sassolino o un germoglio raccolto nel bosco in ognuno di quei tempietti e mi consigliarono di fare altrettanto entravamo in terra consacrata e per questo dall'insù era proibito uccidere e mangiare animali allora non vedi più galline intorno alle case né capre al pascolo ce n'erano altre selvatiche che brucavano sui dirupi avevano il pelo lungo fino a terra e mi dissero che erano le pecore azzurre dell'Himalaya una montagna dalle pecore azzurre scimmie simili a babbuini che intravedevo nel bambù e contro il cielo lente le sagome lugubri degli avvoltoi eppure mi sentivo a casa anche qui mi dissi dove il bosco finisce e non restano che prati e pietraie io sono a casa è la quota a cui appartengo e che mi fa stare bene pensavo a questo quando calpestai la prima neve tornai a grana l'anno successivo con una fila di panni di preghiera che appesi tra i due larici e che potevo vedere dalla finestra di casa erano blu bianchi rossi verdi e gialli il blu per l'etere il bianco per l'aria il rosso per il fuoco il verde per l'acqua il giallo per la terra e risaltavano nell'ombra del bosco li osservavo spesso nel pomeriggio mentre facevano amicizia col vento delle alpi e danzavano tra i rami degli alberi il ricordo che avevo del Nepal assomigliava a quei panni vivido caloroso e quella volta le mie vecchie montagne mi sembrarono più desolate che mai me ne andavo a camminare e non vedevo che ruderi e rovine eppure qualcosa di nuovo c'era anche a grana Bruno e Lara stavano insieme da un pezzo ormai non ebbero bisogno di raccontarmi com'era andata lui mi sembrò più serio di prima come diventano a volte gli uomini quando arriva una donna nella loro vita lei al contrario si era felicemente trasformata scrollandosi via la polvere della città insieme a un senso di delusione che ricordavo e di cui non vedevo più traccia aveva una risata squillante e la pelle arrossata dalla vita all'aria aperta Bruno la adorava ecco un'altra versione del mio amico che non conoscevo a tavola la prima sera mentre raccontavo del mio viaggio non smetteva di toccarla accarezzarla cogliere ogni occasione per posarle una mano sulla gamba o sulla spalla e anche parlando con me era in continuo contatto fisico con lei l'ara sembrava meno ansiosa meno incerta della presenza di lui le bastava un gesto o uno sguardo per rassicurarlo ed era tutto un ci sei ci sono ma davvero ti ho detto di sì gli innamorati pensai è bello che esistano al mondo ma dentro una stanza ti fanno sempre sentire di troppo nell'inverno era caduta poca neve così Bruno stabilì di salire in alpeggio o in montagna come diceva lui il primo sabato di giugno gli diedi una mano anch'io quel giorno aveva comprato 28 mucche da latte tutte bestie già gravide che furono scaricate nel piazzale di grana da un camion per il trasporto animali erano innerrosite dal viaggio e corsero giù dagli scivoli mugendo e scornandosi tra loro sarebbero scappate chissà dove se Bruno sua madre Lara e io disposti tutto intorno nel piazzale non le avessimo contenute placate il camion ripartì insieme a due cani neri della dinastia dei pastori di grana cominciammo a risalire la mulattiera Bruno in testa a chiamare oh 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 e e e sua madre e Lara lungo la fila io in coda a far niente e a godermi lo spettacolo i cani conoscevano il lavoro alla perfezione e correvano a riprendere le mucche che si attardavano abbaiando e mordendole ai fianchi finché non rientravano in gruppo i latrati dei cani i mugiti di protesta delle mucche il frastuono dei campanacci coprivano ogni altro suono e a me sembrava di assistere a una parata di carnevale o a una resurrezione la mandria risaliva la valle superando le baite diroccate i muretti sconnessi dai rovi i ceppi grigi dei larici abbattuti come sangue che riprendesse a circolare nelle vene di un corpo riportandolo in vita mi chiedevo se le volpi e i caprioli che di certo ci scrutavano dal bosco riuscissero a modo loro a partecipare al senso di festa che provavo io a un certo punto della salita Lara mi si avvicinò non avevamo ancora avuto occasione di parlare da soli io e lei ma credo pensassimo entrambi che avremmo dovuto non so perché scelse proprio quel momento in cui le parole andavano gridate nel polverone che avevamo intorno mi sorrise e disse chi l'avrebbe detto un anno fa un anno fa dove eravamo pensai ah già forse in un bar di Torino o nel letto di casa tua tu sei contenta le chiesi molto disse lei sorrise di nuovo allora sono contento anch'io dissi e sapevo che non saremmo più tornati sull'argomento nei prati in quei giorni fioriva il tarassaco i fiori si aprivano tutti insieme la mattina presto e allora una mano di giallo acceso passava sulla montagna come se a inondarla fosse il sole stesso le mucche adoravano quei fiori dolci quando arrivavano su si sparpagliavano per il pascolo come davanti a un banchetto in autunno Bruno aveva estirpato tutti gli arbusti che lo infestavano e ora aveva di nuovo l'aspetto di un bel giardino non metti il filo chiese sua madre il filo domani disse lui oggi le lascio far festa ma rovinano l'erba protestò lei ma no disse Bruno non rovinano niente non ti preoccupare sua madre scosse la testa le avevo sentito pronunciare più parole quel giorno che in tanti anni che la conoscevo era salita zoppicando con una gamba rigida che un po' trascinava ma di buon passo non riuscivo a capire quanto fosse magra scompariva nei suoi abiti larghi e guardava tutto controllava tutto consigliava e criticava perché ogni cosa fosse fatta nel modo giusto le tre baite sembravano tornate a un'altra età della vita una casa una stalla e una cantina con i muri e i tetti in pietra ricostruite a regola d'arte benché contenessero i locali di un'azienda moderna Bruno entrò nella cantina e tornò con una bottiglia di bianco e io mi ricordai dello stesso gesto che suo zio aveva fatto tanti anni prima era lui il padrone di casa adesso non avevamo niente su cui sederci Lara disse che avremmo costruito un bel tavolo per pranzare all'aperto ma per il momento brindammo in piedi davanti al portone della stalla osservando le mucche che si abituavano alla montagna 10 Bruno si ostinava a mungere le mucche a mano per lui era l'unico modo adatto a quelle bestie delicate che si nervosivano e spaventavano per un non nulla impiegava circa cinque minuti a ottenere cinque litri di latte da ciascuna era un buon tempo ma significava pur sempre dodici mucche all'ora o due ore e mezza di lavoro per tutta la mungitura quella del mattino lo tirava giù dal letto che fuori era ancora buio non c'erano sabati né domeniche né al peggio e lui non ricordava più cosa fosse il piacere di dormire fino a tardi o di starsene tra le lenzuola con la sua ragazza eppure amava quel rito non l'avrebbe lasciato ad altri attraversava le ore tra la notte e il giorno nel tepore della stalla snebbiandosi la mente dal sonno mentre lavorava e mungere le mucche era come svegliarle accarezzandole una per una finché quelle sentivano il profumo dei prati e il canto degli uccelli e cominciavano a scalpitare Lara lo raggiungeva alle sette con una tazza di caffè e qualche biscotto era lei a portare la mandri al pascolo due volte al giorno lui versava i centocinquanta litri di latte insieme ai centocinquanta della sera prima scremati dalla panna affiorata durante la notte accendeva il fuoco sotto la caldaia e aggiungeva il caglio e verso le nove l'impasto era pronto per essere scolato nei teli e passato negli stampi di legno cinque o sei forme in tutto dai trecento litri di latte sarebbero usciti non più di trenta chili di toma quello era il passaggio misterioso per Bruno perché non era mai sicuro di come sarebbe andato che la toma venisse o no e che venisse buona o cattiva gli sembrava un'alchimia su cui non aveva alcun potere lui sapeva solo trattare bene le mucche e compiere ogni gesto come gliel'avevano insegnato con la panna faceva il burro e poi lavava la caldaia i bidoni i secchi il locale di lavorazione e infine anche la stalla spalancando le finestre e facendo defluire il letame negli scoli a questo punto era ormai mezzogiorno mangiava qualcosa poi si buttava al letto per un'ora sognava di erba che non cresceva o di mucche che non davano il latte o di latte che non cagliava si alzava col pensiero di costruire uno steccato per i vitelli o scavare un canale dove le piogge impantanavano il pascolo alle quattro le mucche andavano portate in stalla per la seconda mungitura alle sette Lara le riportava fuori e a quel punto se ne occupava lei non c'erano altri lavori da fare la vita in alpeggio rallentava ed entrava nella quieta della sera era allora che Bruno mi raccontava queste cose ci sedevamo fuori e aspettavamo il tramonto con un mezzo litro di vino rosso a farci compagnia osservavamo quei pascoli magri sull'inverso dove una volta eravamo andati a cercare le capre all'imbrunire si alzava una brezza dal fondo valle subito più fredda di qualche grado portava odore di muschio e terra umida e forse quello di un capriolo che si aggirava al limite del bosco uno dei canni lo fiuttava e abbandonava la mandria per corrergli dietro solo uno dei due e non sempre lo stesso come se avessero un accordo tra di loro sui turni di caccia e di guardia le mucche erano calme adesso il suono dei campanacci ci arrivava più rado scendeva verso i toni gravi bruno con me non aveva voglia di pensare ai problemi pratici non mi parlava mai di debiti bollette tasse rate di mutui preferiva raccontarmi dei suoi sogni e del senso di intimità fisica che provava mungendo o del mistero del caglio il caglio è un pezzetto di stomaco di vitello mi spiegò pensa quello stomaco che serve al vitello per digerire il latte della madre noi lo prendiamo e lo usiamo per fare il formaggio è giusto no ma è anche terribile senza quel pezzetto di stomaco il formaggio non viene chissà chi l'ha scoperto dissi io è stato l'uomo selvatico l'uomo selvatico per noi è un uomo antico che viveva nei boschi capelli lunghi barba tutto coperto di foglie ogni tanto faceva il giro dei villaggi e la gente lo temeva ma gli lasciavano lo stesso fuori qualcosa da mangiare per ringraziarlo di averci insegnato a usare il caglio un uomo che sembra un albero un po' bestia un po' uomo e un po' albero e in diletto come si chiama uomo servazzo venivano le nove di sera nel pascolo le mucche erano ormai poco più che ombre anche Lara era un'ombra avvolta in una mantella di lana stava in piedi immobile a sorvegliare la mandria se una mucca si allontanava troppo lei la chiamava per nome e il cane scattava a riprenderla senza bisogno di ordini esiste anche la donna selvatica chiesi Bruno mi lesse nel pensiero è brava disse è forte non si stanca mai sai che cosa mi dispiace non aver tempo di stare insieme come vorrei c'è troppo lavoro mi alzo alle 4 di mattina la sera mi addormento con la testa nel piatto l'amore è per l'inverno dissi Bruno rise è proprio così di montanari in primavera non ne nascono mica tanti nasciamo tutti in autunno come i vitelli era l'unico accenno al sesso che gli avessi mai sentito fare e quando è che te la sposi chiesi ah fosse per me anche subito è lei che non vuole saperne di matrimonio né in chiesa né in comune né niente sono le vostre idee di città vale a capire finivamo il vino poi ci alzavamo per andare in stalla prima che fosse del tutto buio Lara radunava la mandria con l'aiuto del cane e tornava anche l'altro spuntando da chissà dove richiamato al dovere dal suono dei campanacci senza fretta le mucche formavano una fila che risaliva il pascolo e sostava all'abbeveratoio in stalla ognuno di loro raggiungeva il proprio posto per la notte Bruno incatenava i collari e io legavo le code a uno spago alto perché coricandosi non si sporcassero troppo c'era un nodo che avevo imparato a fare con un rapido giro delle dita chiudevamo il portone e ce ne andavamo a cena mentre le mucche cominciavano a ruminare nel buio più tardi tornavo alla barma alla luce di una pila frontale c'era posto anche per me in alpeggio e Bruno e Lara mi invitavano sempre a fermarmi lì ma qualcosa mi spingeva a salutarli e a prendere il sentiero per il lago era come se cercassi la distanza giusta da quella famigliola e allontanarmi fosse un modo per rispettare loro e proteggere me quel che dovevo proteggere in me era la capacità di stare solo c'era voluto del tempo per abituarmi alla solitudine farne un luogo in cui potevo accomodarmi e stare bene eppure sentivo che tra noi il rapporto era sempre difficile così me ne andavo verso casa come riprendendo confidenza con lei se il cielo non era coperto ben presto spegnevo la frontale bastavano un quarto di luna e le stelle per intuire il sentiero tra i larici niente si muoveva a quell'ora tranne i miei passi e il torrente che continuava a scrosciare e gorgogliare mentre il bosco dormiva nel silenzio la sua voce era chiara e potevo distinguere i toni di ogni ansa rapida cascata attutite dal folto della vegetazione e via via più nitidi sulla pietraia in alto anche il torrente taceva era il punto in cui spariva tra le rocce e scorreva sotterraneo cominciavo a sentire un suono molto più basso quello del vento che soffiava nella conca il lago era un cielo notturno in movimento il vento spingeva da una riva all'altra folate di piccole onde bagliori di stelle che si disponevano sull'acqua nera lungo linee di forza si spegnevano e si riaccendevano cambiavano di colpo direzione restavo immobile a osservare quei disegni mi sembrava di riuscire a cogliere la vita della montagna quando l'uomo non c'era io non la disturbavo ero un ospite ben accetto allora sapevo di nuovo che in sua compagnia non mi sarei sentito solo una mattina di fine luglio scesi in paese con Lara io tornavo per un po' a Torino lei portava giù le prime tome dopo sei settimane di stagionatura c'era un mulo che Bruno aveva preso apposta con il maschio grigio con cui trasportavo il cemento anni prima ma una femmina dal pelo folto e scuro più piccola e adatta alla vita dal peggio le aveva costruito un basto di legno su cui impilò dodici forme una sessantina di chili in tutto il primo prezioso carico che veniva spedito a valle era un momento storico per lui e per noi dopo aver fissato bene il basto diede un bacio a Lara una pacca sul fianco alla mula e rivolse un cenno a me dicendo Berio tu la strada la conosci ci salutò e andò a lavare la stalla come ai tempi del cantiere aveva deciso che il trasporto non era compito suo il montanaro sta in montagna la donna del montanaro va su e giù con la roba lui non sarebbe sceso fino al momento di lasciare l'alpeggio per l'inverno imboccammo il sentiero in fila indiana io davanti Lara dietro con la mula ultimo quello dei due cani che la seguiva dappertutto all'inizio la mula doveva abituarsi al carico e procedeva incerta occorreva più prudenza in discesa che in salita con lei perché il basto la sbilanciava sulle zampe anteriori e sul ripido bisognava aiutarla tenendo ben salda la corda che portava il collo ma poi in fondo al pascolo il sentiero attraversava il torrente e si addolciva era il punto in cui una volta avevo guardato Bruno sparire sulla sua moto prima di perderlo di vista per tutti quegli anni da lì io e Lara potemmo proseguire fianco a fianco con il cane che entrava e usciva dal bosco a caccia di selvatici e la mula che ci seguiva a un passo il suo fiato e il rumore dei suoi zoccoli diventarono una presenza tranquilla alle nostre spalle cosa vuole dirti quando ti chiama così disse Lara così come Berio ah vuole ricordarmi qualcosa credo è il nome che mi aveva dato da ragazzino e di cosa ti devi ricordare di questa strada quante volte l'ho fatta su e giù porca miseria in agosto venivo su da grana tutti i giorni e lui lasciava il pascolo per scappare con me poi prendeva un sacco di botte da suo zio ma se ne fregava vent'anni fa e adesso siamo qui a portare giù le sue tome è cambiato tutto e non è cambiato nulla cos'è cambiato di più? l'alpeggio di sicuro e il torrente era molto diverso una volta noi giocavamo la sotto lo sai? sì disse Lara il gioco del torrente resta in silenzio per un po' pensando al sentiero mi era venuta in mente quella prima volta con mio padre quando eravamo andati a conoscere lo zio di Bruno così mentre io e Lara scendevamo pensai di veder salire dal passato un ragazzino che camminava davanti a suo padre il padre aveva un maglione rosso e pantaloni alla zuava sbuffava come un mantice e spronava il figlio salute immaginai di dirgli corre il ragazzino chissà se mio padre si sarebbe fermato a salutare quest'uomo che scendeva dal futuro con una ragazza una mula un cane un carico di Tome Bruno è un po' preoccupato per te disse Lara per me dice che sei sempre solo pensa che non stai bene mi misi a ridere parlate di questo tra di voi ogni tanto e tu cosa pensi non lo so ci riflette poi diede un'altra risposta che te lo sei scelto e che prima o poi ti stancherai di star da solo e ti troverai qualcuno ma l'hai scelto tu di vivere così quindi va bene giusto dissi poi per buttarla sul ridere aggiunsi e invece sai che cosa ha raccontato a me che ti ha chiesto di sposarlo ma tu non ne vuoi sapere quel matto rispose lei ridendo mai nella vita e perché ma chi se lo sposa uno che non vuole scendere dalla montagna uno che ha speso tutto quello che aveva per starse nella sua fare il formaggio è tanto grave chiesi vedi tu lavoriamo da un mese e mezzo e questo è tutto quello che abbiamo disse accennando alle nostre spalle divenne seria per un bel pezzo restò in silenzio a pensare a ciò che la preoccupava eravamo quasi arrivati quando disse a me piace molto quello che stiamo facendo anche quando piove tutto il giorno e me ne sto a pascolare le mucche sotto l'acqua mi mette molta calma mi sembra di poter pensare bene alle cose e che tante non abbiano più importanza se uno guarda i soldi è una follia ma non vorrei un'altra vita adesso voglio questa c'era un furgoncino bianco nel piazzale di grana tra un trattore una betoniera e la mia macchina lì ferma da un mese due operai scavavano a un fossato accanto alla strada un uomo che non avevo mai visto ci aspettava aveva una cinquantina d'anni e niente di speciale nell'aspetto se non che era strano vedere macchine motori asfalto e vestiti puliti dopo tutti quei giorni in montagna con il bestiame aiutai Lara a scaricare le tome dal basto e l'uomo le controllò una per una tastando la crosta annusando dando qualche colpetto con le nocche per sentire se dentro c'erano bolle d'aria le sembrò soddisfatto nel furgone aveva una bilancia e caricando le tome le pesò annotò il peso su un registro e una cifra su una ricevuta che consegnò a Lara lì sopra c'erano segnati i loro primi guadagni la spiai mentre osservava quel numero ma non riuscì a cogliere nessuna reazione mi salutò dal finestrino poi si avviò per il sentiero con la mula e il cane sparirono nel bosco o il bosco se li riprese come sue creature a Torino liberai l'appartamento in cui avevo abitato negli ultimi dieci anni era diventato superfluo per il poco che lo usavo eppure nel lasciarlo provai una certa malinconia mi ricordavo bene di quel che aveva significato andarci a vivere quando la città mi sembrava gravida di promesse per il futuro non sapevo se fossi stato io a illudermi o lei a non averle mantenute ma svuotare in un giorno una casa riempita in tanti anni portar fuori alla rinfusa gli oggetti che avevo portato dentro uno per uno era come riprendersi indietro un anello di fidanzamento rassegnarsi alla ritirata un amico mi affittava una stanza a poco prezzo per i miei periodi torinesi altri scatoloni li caricai in macchina e li portai da mia madre a Milano dall'autostrada al Monte Rosa emergeva sopra la foschia come un miraggio in città il caldo fondeva l'asfalto e a me sembrò di spostare inutilmente roba da un posto all'altro andare su e giù per scale di palazzi scontando chissà quale colpa che avevo commesso in passato mia madre era a grana in quel periodo così passai più di un mese da solo nel vecchio appartamento di giorno a girare gli uffici dei produttori con cui lavoravo di sera a osservare il traffico dalla finestra immaginando il fiume esangue sepolto sotto il viale non c'era niente che mi appartenesse niente a cui sentirsi di appartenere cercavo di farmi produrre una serie di documentari sull'Himalaya che mi avrebbe tenuto lontano per molto tempo mi ci vollero un mucchio di appuntamenti a vuoto prima di trovare qualcuno disposto a darmi fiducia alla fine ottenne una somma con cui mi sarei pagato il viaggio e poco altro ma mi bastava quando salì di nuovo a grana in settembre tirava un'aria fredda e qualche cammino in paese fumava sceso dall'auto mi sentivo addosso un odore che non mi piaceva così all'inizio del sentiero mi lavai la faccia e il collo nel torrente nel bosco mi strofinai le mani con un rametto verde di larice erano i miei soliti riti ma sapevo che sarebbe servito qualche giorno per levarmi davvero la città di dosso lungo il vallone i pascoli cominciavano a ingiallire sui terreni di Bruno oltre il ponte di tavole la riva del torrente era tutta calpestata dagli zoccoli della mandria da lì in su l'erba era finita rasa a zero e già concimata e restavano zone di terra smossa dove qualche mucca raspava nei giorni di maltempo quando l'odore dei temporali le agitava lo sentivo anche adesso nell'aria insieme a quello forte dell'etame e al fumo di legna che si alzava dalla baita di Bruno era l'ora in cui lui faceva il formaggio così decisi di tirare dritto e scendere a trovarlo un'altra volta superata alla stalla senti il suono dei campanacci e vidi Lara che pascolava in alto lontano dal sentiero sui pendii dove restava l'ultima erba la salutai con un cenno e lei che mi aveva già visto da un pezzo ricambiò alzando l'ombrello chiuso cadevano le prime gocce e dopo tutte quelle notti disturbate dal caldo e da sogni agitati mi sentivo invaso dalla stanchezza volevo soltanto arrivare su alla barma accendermi la stufa e dormire non c'era niente come un lungo sonno nella mia tana dentro la montagna per rimettermi a nuovo vennero tre giorni di nebbia in cui mi allontanai poco di casa restavo alla finestra a osservare il modo in cui le nuvole si alzavano dal vallone e si insinuavano nel bosco passando tra i rami dei larici e sbiadendo i colori dei miei panni di preghiera fino a inghiottirli del tutto in casa la bassa pressione spegneva il fuoco nella stufa mi affumicava mentre leggevo e scrivevo allora uscivo nella nebbia e mi sgranchivo le gambe scendendo fino al lago lanciavo un sasso che scompariva nel nulla molto prima di produrre al suo tonfo invisibile e immaginavo branchi di pesciolini curiosi nuotarli tutti intorno di sera ascoltavo qualche radio svizzera pensando all'anno che mi aspettava era uno stato di incubazione adatto alle grandi imprese il terzo giorno bussarono alla porta ed era Bruno disse allora è vero che sei tornato vieni montagna adesso? domandai dato che fuori era tutto bianco sarà stato mezzogiorno ma poteva essere qualunque ora dai ti faccio vedere una cosa e le mucche? lasciale lì le mucche non muoiono mica così partimmo risalendo il pendio lungo il sentiero che portava al lago superiore Bruno aveva gli stivali di gomma ed era sporco di letame fino alla coscia e camminando mi raccontò che aveva dovuto immergersi nell'etamaio per tirar fuori una mucca che c'era caduta nella nebbia rise andava su di corsa tanto che faticavo a stargli dietro la vipera gli aveva morso un cane disse se n'era accorto perché lo vedeva sempre vicino all'acqua a bere in continuazione per l'arsura e controllandolo gli aveva trovato i buchi della vipera nella pancia gonfia si trascinava da far pena e Lara stava già per caricarlo sulla mula e portarlo da un dottore ma poi sua madre aveva detto di dargli latte a volontà solo latte niente acqua né cibo e adesso era guarito e piano piano riprendeva le forze con le bestie ne impari sempre una nuova disse scosse la testa poi riprese a salire con quel suo passo che mi stroncava fino all'altro lago andò avanti a raccontarmi di mucche latte letame erba perché durante la mia assenza erano successe un sacco di cose di cui dovevo essere informato stava pensando per il futuro di portare su qualche coniglio e gallina ma doveva costruire dei bei recinti perché c'erano volpi in giro e aquile uno non ci crederebbe disse ma l'aquila è anche più feroce della volpe con gli animali da cortile non mi chiese come era andata a Torino o a Milano non volle sapere che cosa avevo combinato in tutto il mese parlava di volpi e aquile e conigli e galline e fingeva che la città non esistesse come sempre e che io non avessi un'altra vita lontana da lì la nostra amicizia abitava su quella montagna e ciò che succedeva a valle non la doveva sfiorare e l'azienda come va chiesi mentre riprendevamo fiato in riva al lago piccolo Bruno scrollò le spalle bene disse i conti vanno bene fece una smorfia mi guardò come se avessi sollevato una questione fastidiosa solo per il piacere di rovinargli la giornata poi disse ai conti ci pensa Lara io ci ho provato a tenerli ma mi sa che non sono buono salimmo per la pietraia nella nebbia fitta senza sentiero camminavamo ognuno per la sua strada non si vedeva abbastanza per seguire gli ometti e infatti li perdemmo quasi subito e seguimmo piuttosto la pendenza l'istinto le linee che la pietraia stessa suggeriva salivamo alla cieca e ogni tanto sentivo il rumore dei sassi che Bruno smuoveva sopra o sotto di me scorgevo la sua sagoma e le andavo dietro se ci allontanavamo troppo uno chiamava oh e l'altro rispondeva oh aggiustavamo la rotta come due barche nella nebbia finché a un certo punto mi accorsi che la luce cambiava ora produceva delle ombre sulle rocce davanti a me alzai gli occhi e vidi un tono d'azzurro negli sbuffi di umidità sempre più rada e dopo pochi passi ne ero fuori mi ritrovai di colpo a guardarmi intorno in pieno sole con il cielo di settembre sopra la testa e il bianco compatto delle nuvole sotto i piedi eravamo ben oltre i 2500 metri poche cime emergevano a quella quota come catene di isole affioramenti di dorsali sommerse vidi anche che eravamo fuori strada per la vetta del grenon o almeno fuori dalla via normale ma invece di attraversare la pietraia puntando alla forcella pensai di raggiungere la cresta sopra di me e provare quella mi accorsi che non era difficile arrampicando coltivai la fantasia di una prima assoluta da registrare negli archivi del cai insieme al suo autore cresta nord-ovest del grenon prima ascensione solitaria pietro guasti 2008 ma poco più in là su un terrazzino trovai delle scatole arrugginite di carne o forse di sardine di quelle che tanti anni prima in montagna non ci sicurava di riportare a valle così seppi ancora una volta di essere stato preceduto un canalone separava la mia cresta da quella della via normale sempre più scosceso via via che andava su Bruno aveva preso quello e vedi che sul ripido aveva elaborato una tecnica tutta sua metteva giù anche le mani e saliva a quattro zampe in velocità scegliendo gli appoggi distinto e senza mai caricare il peso a volte il terreno gli cedeva sotto i piedi o le mani ma lui era già oltre e quei crolli di sassi proseguivano come piccole frane in ricordo del suo passaggio homo servazzo pensai arrivai su prima di lui e feci in tempo ad ammirare dalla vetta il suo nuovo stile da chi ha imparato a salire in quel modo gli chiesi dai camosci una volta li guardavo e mi son detto adesso ci provo anch'io e funziona ma lo devo ancora mettere un po' a posto tu lo sapevi che si usciva dalle nuvole ci speravo ci sedemmo contro il mucchio di sassi in cui una volta avevo trovato le parole di mio padre il sole ne scolpiva ogni spigolo e intaglio e lo stesso faceva sul volto di Bruno aveva rughe nuove intorno agli occhi ombre sotto gli zigomi solchi che non ricordavo la sua prima stagione dal peggio doveva essere stata dura quello mi sembrò il momento giusto per parlargli del mio viaggio gli dissi che a Milano avevo raccolto finanziamenti per stare via almeno un anno volevo girare le regioni del Nepal e raccontare le popolazioni di quelle montagne ce n'erano moltissime nelle valli himalaiane tutte diverse tra loro sarei partito in ottobre appena finita la stagione dei monsoni avevo pochi soldi ma molti contatti con gente che lavorava là e che mi avrebbe aiutato e ospitato gli confessai che avevo lasciato la casa di Torino che non ne avevo più una adesso né la volevo e se le cose in Nepal mi fossero andate bene avrei potuto restarci anche di più Bruno mi ascoltò in silenzio quando finì di parlare restò un po' a riflettere sulle implicazioni del mio discorso guardava al Monte Rose e disse ti ricordi quella volta con tuo padre certo che mi ricordo io ci penso ogni tanto sai il ghiacciaio di quel giorno sarà arrivato in fondo non credo deve essere ancora a metà strada anche secondo me poi chiese l'Himalaya ci assomiglia un po' no risposi per niente era difficile spiegargli perché ma volevo provarci e aggiunsi sai quegli enormi monumenti crollati come a Roma ad Atene quei templi antichi di cui rimane solo qualche colonna e per terra le pietre che erano i muri ecco l'Himalaya è come il tempio originale come poterlo vedere tutto intero dopo che per una vita hai visto solo rovine mi pentì subito di aver parlato in quel modo Bruno osservava i ghiacciai sopra le nuvole e pensai che per i mesi a venire me lo sarei ricordato così come il custode di quel mucchio di macerie poi si alzò ora di mungere disse scendi anche tu mi sa che resto qui ancora un po' risposi fai bene e chi ha voglia di tornare là sotto imboccò il canalone per cui era salito e sparì tra le rocce lo rividi dopo pochi minuti un centinaio di metri più in basso c'era una lingua di neve laggiù tutta spostata verso nord e lui aveva attraversato la pietraia per raggiungerla in cima a quel piccolo nevaio ne tastò la consistenza con un piede alzò lo sguardo verso di me e mi salutò e io ricambiai con un gesto ampio che si vedesse da lontano la neve doveva essere bella ghiacciata perché Bruno ci saltò sopra e prese subito velocità andò giù a piedi larghi sciando sui suoi stivali da lavoro mulinando le braccia per mantenere l'equilibrio e in un attimo fu inghiottito dalla nebbia undici Anita nacque in autunno come i montanari io non c'ero quell'anno in Nepal ero entrato in contatto col mondo delle organizzazioni non governative e collaboravo con alcune di loro giravo documentari nei villaggi dove si costruivano scuole o ospedali si avviavano progetti agricoli o di lavoro femminile e a volte si allestivano campi per i profughi tibetani non tutto quello che vedevo mi piaceva i dirigenti di Kathmandu non erano altro che politici in carriera ma in montagna invece incontravo gente di tutti i tipi dai vecchi hippie agli studenti del servizio civile internazionale dai medici volontari agli alpinisti che tra una spedizione e l'altra si fermavano a fare i muratori nemmeno quella era un'umanità immune da ambizione e i conflitti di potere ma ciò che non le mancava era l'idealismo e io tra gli idealisti mi trovavo bene ero nel Mustang in giugno un altopiano arido al confine col Tibet fatto di casette bianche arroccate sulla roccia rossa quando mia madre mi scrisse per dirmi che era appena salita a grana e aveva scoperto che Lara era incinta di 5 mesi si sentì subito chiamata al dovere durante l'estate mi mandò resoconti che assomigliavano a bollettini medici in giugno Lara si era distorta una caviglia mentre era al pascolo e aveva continuato a zoppicare per giorni in luglio lei con quella pelle bianchissima si era presa una febbre da insolazione facendo i fieni in agosto ormai con le gambe gonfie e il mal di schiena portava ancora giù le tome con la mula due volte alla settimana mia madre le ordinava di riposarsi Lara non ne voleva sapere quando Bruno propose di assumere un lavorante al posto suo lei protestò dicendo che anche le mucche erano tutte gravide e non facevano mica tante storie anzi vedendole così tranquille si rilassava anche lei io ero a Kathmandu adesso nel pieno della stagione dei monsoni ogni pomeriggio la città era flagellata da un temporale allora il suo folle traffico di moto e biciclette si fermava i suoi branchi di cani randaggi si rifugiavano sotto le tettoie le sue strade si trasformavano in fiumi di fango e spazzatura e io mi chiedevo in qualche posto telefonico davanti a un computer vettusto a leggere le novità mia madre mi sorprendeva non sapevo se essere più ammirato da Lara che stava facendo il suo primo figlio in alpeggio o da quest'altra donna di 70 anni che saliva a piedi a trovarla e una volta al mese l'accompagnava in ospedale l'ecografia d'agosto stabilì senza più dubbi che il bambino era una bambina Lara continuò a uscire al pascolo anche dopo con la pancia che ormai le impediva qualsiasi movimento che non fosse camminare davanti alla mandria e sedersi sotto un albero a guardarla poi l'ultima domenica di settembre con il pelo spazzolato e lucido i collari di cuoio intarsiato i campanacci da cerimonia le mucche scesero a valle in una solenne parata di fine stagione Bruno le sistemò nella stalla che affittava per l'inverno e a quel punto non restava che aspettare doveva aver fatto qualche calcolo da Montanaro perché Lara partorì poco dopo come fosse anche quello un lavoro stagionale mi ricordo dov'ero quando mia madre mi diede la notizia nel basso dolpo in riva a un lago che assomigliava incredibilmente a un lago alpino circondato da boschi di abete rosso e tempiette buddhisti insieme a una ragazza che avevo conosciuto a Kathmandu lei in città lavorava in un orfanotrofio ma in quei giorni ci eravamo presi una vacanza per andarcene in montagna da soli in un rifugio senza stufa a 3500 metri le cui pareti non erano altro che assicelle di legno dipinte d'azzurro avevamo unito i due sacchi a pelo e ci eravamo stretti lì dentro dalla finestra osservavo il cielo stellato e le punte degli abeti mentre lei dormiva vidi sorgere la luna a un certo punto restai sveglio a lungo a pensare al mio amico Bruno che era diventato padre quando tornai in Italia nel 2010 la trovai sprofondata in una crisi economica grottesca Milano l'annunciava fin dal suo aeroporto in dismissione con quattro aerei su chilometri di piste da terraggio e le vetrine delle case d'alta moda che luccicavano nei saloni vuoti dal treno che mi portava in città gelido d'aria condizionata nella sera di luglio vidi ovunque spianate cantieri altissime grusso spese grattacieli dai profili bizzarri che prendevano forma all'orizzonte non capivo come mai tutti i giornali scrivessero che erano finiti i soldi e a Milano come a Torino notassi una frenesia edilizia da anni d'oro andare in cerca dei vecchi amici fu come fare il giro delle corsie d'ospedale le case di produzione le agenzie pubblicitarie e i canali televisivi con cui io stesso avevo lavorato chiudevano per fallimento e molti di loro erano sul divano a far niente a 40 anni o quasi si riducevano ai lavoretti di un giorno e ad accettare soldi dai genitori in pensione ma guarda fuori mi disse uno non vedi che spuntano palazzi dappertutto chi si sta rubando quello che ci spettava ovunque andassi respiravo quest'aria di delusione di rabbia questo senso di torto generazionale era un sollievo avere già in tasca il biglietto con cui sarei ripartito pochi giorni dopo salì su un pullman per la montagna ne presi un altro all'imbocco della valle scesi davanti al bar dove una volta io e mia madre andavamo a telefonare benché la nostra cabina rossa non esistesse più da un pezzo feci il sentiero a piedi come allora la vecchia mulattiera tagliava i tornanti della strada asfaltata e subito veniva inghiottita dai rovi e dal fogliame così più che seguire lei andai su a memoria nel bosco quando ne emersi scoprì che accanto alle rovine della torre era spuntato un ripetitore per cellulari e giù nella gola una diga di cemento interrompeva il corso del torrente il piccolo invaso artificiale era colmo del fango del disgelo un escavatore lo stava pescando dall'acqua e scaricando sulla riva distruggendo con solchi di cingoli e sabbia melmosa i prati dove Bruno pascolava da ragazzino poi come sempre superai grana e mi sembrò di lasciarmi ogni veleno alle spalle era come all'annapurna entrare nella valle sacra solo che qui non c'era alcun precetto religioso era l'oblio a mantenere ogni cosa intatta ritrovai lo spiazzo che io e Bruno da ragazzini chiamavamo la segheria perché restavano due binarie e un carrello che chissà quando erano stati usati per tagliare le tavole da costruzione lì accanto partiva una teleferica per spedire quelle tavole agli alpeggi con il cavo d'acciaio avvolto intorno a un larice e ormai inghiottito dalla corteccia se l'erano dimenticata perché non valeva niente la mia montagna d'infanzia e questa era la sua fortuna rallentai il passo come sussurravano i portatori nepalesi in alta quota di stare di stare non volevo che finisse troppo in fretta ogni volta che tornavo lassù mi sembrava di tornare a me stesso al luogo in cui ero io e stavo bene in alpeggio mi aspettavano per pranzo Bruno Lara la piccola Anita che a meno di un anno giocava su una coperta in mezzo al pascolo mia madre che non la perdeva d'occhio un istante disse c'è lo zio Pietro Anita guarda e subito me la portò perché facessimo amicizia la bambina mi studiò sospettosa si incuriosì dalla mia barba la tirò ed emise un suono che non capì rise della scoperta mia madre sembrava un'altra rispetto all'anziana donna che avevo salutato partendo ma non solo lei tutto l'alpeggio era più vivace di come lo ricordavo c'erano galline conigli la mula le mucche i cani un fuoco su cui andavano la polenta e uno stufato la tavola apparecchiata all'aperto Bruno era così contento di vedermi che mi abbracciò era insolito per noi quel gesto così mentre mi stringeva pensai è cambiato qualcosa quando ci staccammo lo guardai bene in faccia cercando le rughe i capelli grigi la pesantezza dell'età nei lineamenti ebbi la sensazione che lui cercasse gli stessi segni su di me eravamo sempre noi poi mi fece sedere a capotavola e versò da bere quattro bicchieri colmi di vino rosso per brindare al mio ritorno non ero più abituato al vino né alla carne e presto mi sentì ubriaco di entrambi parlavo a ruota libera Lara e mia madre si alzavano a turno per badare ad Anita finché la bambina cominciò ad avere sonno e ci fu un cenno credo o un accordo silenzioso tra di loro e mia madre se la presi in braccio e si allontanò cullandola avevo portato in regalo una teiera le tazzine e una busta di tè nero così dopo pranzo lo preparai alla tibetana con burro e sale anche se il burro dal peggio non era forte e rancido come quello di Yak mentre mescolavo raccontai che in tibet il burro lo usavano in tutti i modi lo bruciavano nelle lampade lo spalmavano come un guento sui capelli delle donne lo impastavano alle ossa nelle sepolture celesti cosa? disse Bruno allora spiegai che sugli altipiani non c'era abbastanza legna per cremare i cadaveri il morto veniva scuoiato e lasciato in cima a una collina perché lo divorassero gli avvoltoi dopo qualche giorno si tornava su e c'erano solo le ossa il teschio e lo scheletro venivano frantumati e impastati con burro e farina così anche quelli diventavano cibo per uccelli che orrore disse Lara perché? chiese Bruno ma te lo immagini il morto lì per terra e gli avvoltoi che se lo sbranano un pezzo alla volta beh ma stare in un buco non è mica tanto diverso dissi qualcuno ti mangia in ogni caso sì ma almeno non lo vedi disse Lara e invece è bello disse Bruno cibo per gli uccelli il tè in compenso lo disgustò allora vuotò la sua tazzina e anche le nostre e le riempì di grappa da un bottiglione eravamo tutti e tre un po' ubriachi a quel punto cinse alle spalle di Lara disse e le ragazze dell'Himalaya come sono belle come quelle delle Alpi mi sa che senza volerlo divenni serio mi ascicai qualche risposta non farai mica il monaco buddista eh disse Bruno ma Lara aveva colto il senso della mia reticenza e rispose al posto mio no no qualcuna che gli tiene compagnia c'è allora Bruno mi guardò in faccia e rise perché vide che era vero e io distinto cercai con gli occhi mia madre troppo lontana per sentire più tardi andai a stendermi sotto un vecchio larice un albero solitario che dominava i prati sopra le case restai sdraiato con gli occhi socchiusi e le mani dietro la nuca a guardare le cime e le creste del grenon tra i rami e lasciarmi invadere dal sonno quella vista mi riportava sempre mio padre pensai che in qualche modo senza saperlo la strana famiglia tra cui mi trovavo l'aveva fondata lui chissà che cosa avrebbe pensato vedendoci tutti insieme per pranzo sua moglie suo figlio l'altro suo figlio di montagna una giovane donna e una bambina se fossimo stati fratelli pensai Bruno sarebbe stato senz'altro il primo genito era lui quello che costruiva il costruttore di case di famiglie di imprese il fratello maggiore con i suoi terreni il suo bestiame la sua prole io ero il fratellino che dilapidava quello che non si sposa non fa bambini e se ne va per il mondo senza mandare notizie per mesi salvo poi capitare a casa il giorno della festa e proprio all'ora di pranzo chi l'avrebbe detto eh papà con queste fantasie alcoliche mi addormentai al sole passai con loro un paio di settimane quell'estate non abbastanza da smettere di sentirmi in visita ma nemmeno così poco da starmene senza far niente su alla barma due anni d'assenza avevano lasciato più di un segno tanto che quando rividi la casetta mi venne da chiederle scusa le erbe infestanti avevano già cominciato ad assediarla diverse tavole del tetto erano imbarcate sconnesse e andando via mi ero dimenticato di togliere il pezzo di canna fumaria che sporgeva dal muro così la neve me l'aveva spezzata facendo danni fin dentro casa sarebbe bastato qualche altro anno alla montagna per riprendersela e ridurla di nuovo al mucchio di sassi che era stata così decisi di spendere quei giorni per occuparmi di lei prepararla alla mia nuova partenza stando con Bruno e Lara scoprì che qualcos'altro aveva cominciato a guastarsi mentre ero via quando mia madre non c'era e Anita era stata messa a letto la fattoria felice tornava a un'azienda con i conti in rosso e i miei amici due soci litigiosi Lara non parlava d'altro mi disse che i guadagni delle tome non bastavano a pagare le rate del mutuo i soldi entravano e uscivano senza che a loro rimanesse in tasca niente e intanto il debito con la banca era intatto ma d'estate vivendo lassù riuscivano ad essere autosufficienti o quasi era d'inverno con l'affitto della stalla e le altre spese che non ce la facevano avevano dovuto chiedere un altro prestito debiti nuovi per pagare i debiti vecchi Lara quell'estate aveva deciso di saltare un passaggio eliminando il grossista che avevo incontrato anch'io e vendendo direttamente ai negozianti anche se questo significava un mucchio di lavoro in più per lei due volte alla settimana lasciava la bambina a grana da mia madre e partiva in macchina per fare il giro delle consegne e intanto a Bruno in alpeggio toccava arrangiarsi da solo avrebbero dovuto assumere qualcuno e sarebbero stati punto e a capo lui sbuffava dopo un po' che lei mi raccontava queste cose una sera disse non possiamo cambiare discorso Pietro non lo vediamo mai dobbiamo sempre star qui a parlare di soldi Lara si offese allora di cosa parliamo? disse non so di Jack che ne dici Pietro non potremmo mettere in piedi un bel allevamento di Jack è un'idea commentò Bruno ma lo senti? mi disse Lara lui vive in cima alla montagna non ha mica i problemi di noi comuni mortali e poi è lui però sei tu che ti sei cacciato in questo guaio infatti disse Bruno sono i miei debiti non te li prendere troppo a cuore a queste parole lei lo fissò rabbiosa si alzò di colpo e se ne andò di là lui si pentì subito di averle risposto male ha ragione lei mi disse quando restiamo soli ma cosa devo farci lavorare di più non posso e a pensare sempre i soldi non è che risolvi niente allora tanto vale pensare a qualcosa di meglio no? ma quanto vi serve? chiesi lascio aperterle se te lo dico ti spaventi posso aiutarti io? posso fermarmi qui a lavorare fino a fine stagione? no grazie mi devi pagare lo faccio con piacere no disse Bruno secco nei giorni che mancavano alla mia partenza non tornamo più sull'argomento Lara stava per conto suo offesa preoccupata indaffarata intorno alla bambina Bruno fingeva che non fosse successo niente io andavo su e giù da grana a procurarmi il materiale per sistemare la casetta avevo ridato il cemento dove si era rovinato tappato il tubo della canna fumaria pulito il terreno intorno dalle erbacce mi ero fatto tagliare delle tavole di larice uguali a quelle vecchie ed ero sul tetto a sostituirle quando Bruno venne a salutarmi forse voleva andare in montagna ma vedendomi lassù cambiò idea e salì sul tetto con me era un lavoro che avevamo già fatto sei anni prima ritrovammo in fretta il nostro antico ritmo Bruno toglieva i chiodi dall'asse vecchia e io la gettavo nel prato poi posavo l'asse nuova e la tenevo ferma mentre lui la inchiodava non c'era bisogno di chiedersi niente per un'ora sembrò di essere tornati a quell'estate quando le nostre vite dovevano ancora prendere una direzione e non avevamo altri problemi che un muro da costruire o un trave da hissare durò troppo poco il tetto alla fine era come nuovo e io andai alla fontana a prendere due birre che tenevo in fresco nell'acqua gelida quella mattina avevo tirato giù i panni di preghiera stinti e sbrindellati dal vento e li avevo bruciati nella stufa poi ne avevo appesi di nuovi non più tenendoli tra due tronchi ma tra la parete di roccia e uno spigolo della casa pensando agli stupa che avevo visto in nepal ora si agitavano al vento sopra l'epitaffio di mio padre e sembravano benedirlo bruno li stava osservando quando tornai di sopra sulla stoffa che c'è scritto domandò sono preghiere che chiedono fortuna dissi prosperità pace armonia e tu ci credi a che cosa alla fortuna no alle preghiere non lo so però mi mettono di buon umore è già tanto no sì hai ragione mi venne in mente il nostro di portafortuna e lo cercai per vedere come stava il piccolo pino cembro era ancora lì gracile storto come quando l'avevo trapiantato ma vivo andava verso il suo settimo inverno ormai anche lui ondeggiava il vento ma non ispirava pace né armonia ostinazione piuttosto attaccamento alla vita pensai che quelle non erano virtù in nepal ma forse sulle alpi sì stappai le birre passandone una a bruno gli chiesi allora com'è fare il padre com'è disse eh vorrei saperlo anch'io alzò gli occhi al cielo e poi aggiunse per adesso è facile la prendo in braccio e me la carezzo come se fosse un coniglietto o un gattino quello lo so fare l'ho sempre fatto il difficile verrà quando dovrò raccontarle qualcosa ma perché ma che ne so io ho visto solo questo nella vita disse questo e fece un gesto con la mano che doveva comprendere il lago il bosco i prati e le pietraie che avevamo davanti non sapevo se si fosse mai allontanato da lì né di quanto non gliel'avevo mai chiesto in parte per non offenderlo in parte perché la risposta non avrebbe cambiato le cose disse io so mungere una mucca so fare il formaggio so tagliare un albero so costruire una casa saprei anche sparare a una bestia mangiarmela se stessi morendo di fame queste cose me le hanno insegnate fin da piccolo ma chi mi ha insegnato a fare il padre il mio no di sicuro alla fine ho dovuto pestarlo perché mi lasciasse in pace te l'ho mai raccontato no dissi è così lavoravo tutto il giorno in cantiere ero più forte io di lui mi sa che gli ho fatto male perché non l'ho più rivisto poveraccio guardò di nuovo in cielo lo stesso vento che agitava i miei panni di preghiera spingeva le nuvole oltre le creste disse allora ringrazio almeno che Anita sia femmina così posso volerle bene e basta non l'avevo mai visto tanto abbattuto le cose proprio non gli stavano andando come aveva sperato avevo la stessa sensazione di impotenza di quando eravamo ragazzini e lui non parlava per un giorno intero sprofondato in uno sconforto che mi pareva assoluto e irrimediabile avrei voluto conoscere un trucco da vecchio amico per tirargli su il morale prima che andasse via mi venne in mente la storia delle otto montagne e pensai che quella gli sarebbe piaciuta gliela raccontai cercando di ricordare ogni parola e ogni gesto del mio portatore di galline disegnai il mandala con un chiodo su una tavola di legno perciò tu saresti quello che va per le otto montagne e io quello che sale sul monte Sumeru mi chiese alla fine pare proprio di sì e chiede i due che combina qualcosa di buono tu risposi non solo per fargli coraggio ma perché ci credevo penso che questo lo sapesse anche lui Bruno non disse niente guardò il disegno un'altra volta per ricordarselo poi mi diede una pacca sulla spalla e saltò giù dal tetto senza averlo progettato in alcun modo in Nepal mi ritrovai a occuparmi di bambini anch'io non in montagna però ma nella periferia di Kathmandu che si estendeva per tutta la sua valle e ormai assomigliava a una delle tante baraccopoli del mondo erano figli di gente scese in città a cercare fortuna a volte avevano perso uno dei genitori e a volte entrambi ma più spesso il padre o la madre vivevano in una baracca lavoravano da schiavi in qualche altro buco di quel formicaio e li lasciavano allevare alla strada così a questi figli era toccato un destino che in montagna non esisteva a Kathmandu i mendicanti bambini le piccole bande dedicate a qualche traffico i ragazzini intontiti e sporchi che frugavano nella spazzatura facevano parte del paesaggio urbano quanto le scimmie dei templi buddisti e i cani randagi c'erano delle organizzazioni che cercavano di occuparsene e la ragazza con cui stavo lavorava in una di queste fu inevitabile a causa di quello che vedevo per strada e sentivo raccontare da lei cominciare a darle una mano uno trova il proprio posto nel mondo in modi meno imprevedibili di quanto creda dopo tanto girare ero finito in una grande città ai piedi delle montagne con una donna che in fondo faceva il lavoro di mia madre e con cui appena possibile scappavo in alto a ritrovare le forze che la città ci portava via camminando su quei sentieri pensavo spesso a Bruno non erano tanto i boschi e i fiumi quanto i ragazzini a farmelo venire in mente mi ricordavo di lui alla loro età cresciuto in quel che restava del suo paese in agonia con i ruderi in cui giocare da solo e una scuola trasformata in cantina c'era molto da fare in Nepal per uno con i suoi talenti noi insegnavamo l'inglese e l'aritmetica dei libri ma forse avremmo dovuto mostrare a quei figli di emigranti come coltivare un orto costruire una stalla allevare le capre e così ogni tanto fantasticavo sull'idea di trascinarlo lì via dalla sua montagna morente a educare nuovi montanari avremmo potuto fare grandi cose in quella parte del mondo eppure fosse stato per noi non ci saremmo sentiti per anni come se la nostra amicizia non avesse bisogno di cure era mia madre a darci notizie uno dell'altro abituata a vivere tra uomini che non si parlavano mi scriveva di Anita del suo carattere che prendeva forma del modo in cui cresceva selvatica e senza paure si era affezionata a quella bambina e la preoccupava a vedere i suoi genitori sempre più in crisi lavoravano troppo e continuavano a inventarsi modi di lavorare ancora di più tanto che spesso in estate mia madre teneva Anita con sé a grana per liberarli almeno da quel pensiero Lara era esasperata dai debiti Bruno si era rintanato nel mutismo e nel lavoro mia madre non diceva apertamente quel che temeva ma non era difficile leggere tra le righe sia lei che io cominciavamo a capire come sarebbe finita tirarono avanti in quel modo ancora per poco nell'autunno del 2013 Bruno dichiarò fallimento chiuse l'azienda agricola e consegnò le chiavi dell'alpeggio all'ufficiale giudiziario e Lara andò a stare dai suoi genitori con la bambina anche se secondo mia madre le cose erano successe nell'ordine opposto lei aveva deciso di lasciarlo e lui si era arreso rassegnandosi a fallire non aveva importanza il tono della lettera in cui mi diede queste notizie non era solo triste ma allarmato e capì che mia madre aveva paura di quello che adesso poteva succedere a Bruno ha perso tutto mi scrisse ed è rimasto solo tu puoi fare qualcosa la rilessi due volte prima di fare quello che in Nepal non avevo mai fatto mi alzai dal computer chiesi di usare un telefono entrai in una delle cabine e composi il prefisso dell'Italia e il numero di Bruno era uno di quei posti di Kathmandu in cui la gente sembra sempre ammazzare il tempo il proprietario stava consumando il suo pasto di riso e lenticchie un vecchio seduto accanto lo guardava e due ragazzini spiavano nella cabina per vedere che cosa facevo ci furono cinque o sei squilli durante i quali cominciai a pensare che Bruno non avrebbe risposto conoscendolo poteva aver buttato il telefono nel bosco e deciso di non sentire più nessuno invece poi ci fu uno scatto un tramestio lontano e una voce disturbata che diceva pronto? Bruno! gridai sono Pietro! i ragazzini scoppiarono a ridere sentendomi gridare in italiano mi incollai la cornetta all'orecchio il ritardo delle chiamate intercontinentali si sommò a un altro tipo di esitazione poi Bruno disse sì ci speravo che fossi tu non aveva voglia di parlare di quello che era successo con Lara ma tanto me lo potevo immaginare anche da solo gli chiesi come stava lui e cosa pensava di fare rispose sto bene sono solo stanco mi hanno portato via all'alpeggio sai sì e con le mucche cosa hai fatto? ah le ho date via e Anita? Anita è con Lara dai suoi ne hanno diposto lì le ho sentite stanno bene poi aggiunse senti volevo chiederti una cosa dimmi se posso usare la casa suola barma perché adesso non so bene dove stare ma vuoi andartene lassù? non ho voglia di vedere gente sai com'è me la sto un po' in montagna disse proprio così in montagna era stranissimo sentire la sua voce dentro un telefono di Kathmandu una voce che arrivava roca e distorta e faticavo a riconoscere ma in quel momento seppi che era lui era Bruno il mio vecchio amico dissi certo stacci quanto vuoi è casa tua grazie c'era un'altra cosa che dovevo dire ma era difficile tra noi non eravamo abituati né a chiedere aiuto né a offrirlo senza tanti giri di parole domandai senti vuoi che venga lì? Bruno in altri tempi mi avrebbe risposto subito di restarmene dove ero invece questa volta tacque quando poi rispose lo fece con un tono che non gli avevo mai sentito ironico in parte in parte disarmato disse eh sarebbe bello allora sistemo un po' di cose e arrivo va bene? va bene era un tardo pomeriggio di ottobre uscì dal posto telefonico mentre sulla città calava il buio in quella parte del mondo le strade non sono illuminate e al tramonto la gente torna a casa di fretta e si avverte come un'ansia per la notte in arrivo fuori c'erano cani polvere motorini una mucca sdraiata in mezzo alla strada che rallentava il traffico i turisti diretti a ristoranti e alberchi l'aria di una sera di fine estate a grana invece cominciava l'inverno e io pensai che non ne avevo mai visto uno 12 il vallone di grana a metà novembre era bruciato dalla siccità e dal gelo aveva il colore dell'ocra della sabbia della terracotta come se nei pascoli un incendio fosse già passato e spento nei boschi divampava ancora sui fianchi delle montagne le fiamme d'oro e di bronzo dei larici illuminavano il verde cupo degli abiti e ad alzare gli occhi al cielo scaldavano l'anima giù in paese invece regnava l'ombra il sole non arrivava nel fondo del vallone e la terra era dura sotto i piedi coperta qua e là da una crosta di brina al ponticello di tavole quando mi chinai per bere vedi che l'autunno stava compiendo un incantesimo sul mio torrente il ghiaccio formava scivoli e gallerie vetrava i massi umidi intrappolava i ciuffi d'erba secca trasformandoli in sculture salendo verso l'alpeggio di bruno incrociai un gruppo di cacciatori avevano giacche mimetiche e binocoli al collo ma niente fucili non mi sembrarono gente del posto ma forse d'autunno anche le facce cambiavano ed ero io l'intruso discutevano in dialetto e come mi videro si azzittirono mi valutarono con un'occhiata mi ignorarono e passarono oltre scoprì poco dopo dove si erano appostati su in alpeggio vicino alla panca dove io e bruno ci sedevamo la sera trovai mozziconi spenti e un pacchetto di sigarette accartocciato dovevano essere saliti la mattina presto a studiare i boschi da quel punto speciale di osservazione bruno aveva lasciato tutto in ordine andando via sprangato il portone della stalla chiuso le imposte accatastato la legna su un lato della casa ribaltato gli abbeveratoi lungo il muro aveva perfino sparso il letame che adesso era secco e in odore nei pascoli ingelliti mi sembrò solo un alpeggio preparato per l'inverno e restai per un po' a ricordarmi com'era pieno di suoni e di vita l'ultima volta che ero venuto in visita fu in quel silenzio che si alzò un bramito dall'altro versante del vallone l'avevo sentito poche altre volte ma una sola è sufficiente a riconoscerlo per sempre è un verso potente gutturale rabbioso con cui il maschio del cervo mette paura ai rivali in amore anche se ormai era tardi per la riproduzione forse questo cervo era infuriato e basta allora seppi anche che cosa erano venuti a cercare quei cacciatori mi successe qualcosa di simile poco più tardi su al lago il sole spuntava appena sopra le creste del grenon e intiepidiva le pietraie rivolte a mezzogiorno ma l'insennatura ai piedi del pendio restava in ombra anche a quell'ora sull'acqua si era formato uno strato di ghiaccio una mezzaluna lucida e scura quando lo tastai con il bastone il ghiaccio era tanto sottile che si spezzò ne raccolsi un frammento dall'acqua e lo alzai per guardarci attraverso e in quel momento sentii una motosega a partire due colpi di acceleratore e poi lo stridio della lama che mordeva il legno guardai in su per capire da dove veniva c'era un gruppetto di larici a metà del pendio poco più in alto della barma cresciuti sopra una specie di terrazzino il tronco di un albero morto risaltava nudo e grigio in mezzo alle chiome gialle degli altri sentii la motosega affondare due volte nel legno ci fu la pausa necessaria a girare intorno alla pianta poi di nuovo lo stridio aumentò di volume la punta dell'arice morto ondeggiò lo vidi inclinarsi lentamente infine cedere di schianto col fragore dei rami che si spezzano nella caduta cosa vuoi che ti dica pietro è andata male mi disse bruno quella sera scrollò le spalle per farmi sapere che non aveva altro da aggiungere sull'argomento beveva un caffè riscaldato sulla stufa e guardava fuori dove alle 5 ormai veniva buio in casa andavamo a candele adesso che il nostro piccolo mulino era fermo per siccità ne avevo visti due pacchi interi di là di candele bianche insieme ai sacchi di farina di mais qualche toma superstite dall'ultima produzione una riserva di scatolette le patate i cartoni di vino non era la cantina di uno che avesse intenzione di scendere tanto in fretta durante il mese trascorso dalla nostra telefonata Bruno aveva fatto scorta ed elaborato il lutto a modo suo l'impresa dell'alpeggio era andata male la storia con Lara era andata male e lui ne parlava o meglio evitava di parlarne come se fosse già un'epoca remota nel tempo e nei suoi pensieri più che ricordarla sembrava aver voglia di dimenticarsene del tutto passammo quei giorni di novembre a far legna per l'inverno di mattina studiavamo il pendio in cerca di un albero morto salivamo ad abbatterlo lo pulivamo dai rami Bruno ne arrotondava la testa con la motosega poi spendevamo ore e ore nello sforzo di trascinarlo a casa lo legavamo con una corda robusta e lo tiravamo giù a forza di braccia avevamo costruito degli scivoli attraverso il bosco usando vecchie tavole come traversine e delle sponde di rami accatastati dove il tronco rischiava di scapparci per la pendenza ma comunque prima o poi succedeva che si incagliasse in un ostacolo e allora ci toccava il lavoraccio di smuoverlo da lì Bruno lo insultava maneggiava un piccone come fosse uno di quegli zappini da boscaiolo facendo leva sul tronco per ruotarlo di un mezzo giro provava da una parte e poi dall'altra bestemmiava alla fine gettava via il piccone e andava a riprendere la motosega avevo sempre ammirato il modo in cui lavorava la grazia che riusciva a esprimere usando qualsiasi attrezzo ma non ce n'era più traccia adesso avviava la motosega con rabbia la ingolfava dava di gas a volte finiva la benzina lì per lì e gli veniva voglia di scagliare via pure quella infine faceva pezzi il tronco e così la questione era risolta anche se a quel punto ci toccavano i viaggi per portarlo a casa poi ci mettevamo a spaccarlo con mazza e cunei fino a sera i rintocchi del ferro sul ferro vibravano per la montagna più secchi squillanti cattivi quando batteva Bruno più incerti e stonati quando gli davo il cambio io finché arrivava un rintocco fesso e il tronco si apriva e finivamo il lavoro con la scure non c'era ancora molta neve sul grenon quella che c'era lasciava distinguere le pietraie gli arbusti le cenge i balzi di roccia come fosse poco più che uno strato di brina però verso la fine del mese venne un'ondata di freddo la temperatura scese di colpo e in una notte il lago gelò la mattina dopo andai giù a vedere il ghiaccio vicino alla riva era reso opaco e grigiastro da una miriade di bollicine intrappolate e diventava più lucido e nero via via che lo sguardo si allontanava col bastone non riuscivo nemmeno a scalfirlo così mi arrischiai a camminarci sopra e vidi che mi teneva mi ero allontanato solo di pochi passi quando sentii un rimbombo dalle profondità del lago che mi fece scappare subito a riva una volta al sicuro lo sentii di nuovo era un rimbombo cupo vibrante come un colpo di gran cassa e si ripeteva a un ritmo lentissimo forse un colpo al minuto forse anche meno non poteva essere altro che l'acqua che da sotto batteva contro il ghiaccio con l'arrivo del giorno il gelo doveva aver alentato la morsa e l'acqua sembrava voler sfondare a spallate la tomba in cui si era ritrovata rinchiusa al tramonto cominciavamo le nostre interminabili serate l'orizzonte in fondo al vallone si arrossava per qualche minuto appena prima che calasse il buio poi fino all'ora di andare a dormire la luce non cambiava più erano le sei le sette le otto e noi le attraversavamo in silenzio davanti alla stufa con una candela a testa per leggere il bagliore del fuoco il vino che dovevamo farci durare l'unico diversivo della cena cucinai le patate in tutti i modi possibili in quei giorni bollite arrosto alla brace fritte nel burro passate al forno con la toma avvicinando la candela alla padella per vedere se erano cotte le mangiavamo in dieci minuti e poi ci toccavano altre due o tre ore di veglia silenziosa il fatto è che aspettavo qualcosa non sapevo neanche cosa che non stava succedendo ero venuto dal Nepal in soccorso del mio amico e ora il mio amico non sembrava avere nessun bisogno di me se gli facevo una domanda lui la lasciava cadere con quelle sue risposte vaghe che spegnevano sul nascere ogni possibilità di conversazione riusciva a passare un'ora guardando il fuoco e solo ogni tanto quando non me l'aspettavo più parlava ma come cominciando il discorso da metà o seguendo ad alta voce il filo dei suoi pensieri una sera disse io ci sono stato una volta a Milano ah sì? dissi io ma era tanto tempo fa avrò avuto vent'anni un giorno ho litigato col capo e mi sono licenziato dal cantiere avevo tutto il pomeriggio libero e ho detto adesso ci vado ho preso la macchina ho fatto l'autostrada sono arrivato che era sera volevo bere una birra a Milano sono sceso al primo bar e l'ho bevuta e poi me ne sono tornato indietro e com'era Milano? ma troppo gente e poi aggiunse e anche al mare sono stato dopo tutti quei libri che avevo letto una volta sono andato a Genova e l'ho visto avevo una coperta in macchina ho dormito lì tanto a casa non mi aspettava nessuno e il mare com'era? un grande lago erano discorsi così che potevano essere veri oppure no e non portavano da nessuna parte le persone che conoscevamo ne restavano sempre fuori solo una volta di punto in bianco disse era bello eh quando ci sedevamo la sera davanti alla stalla allora posai il libro che stavo leggendo e risposi sì molto il modo in cui arrivava la notte in luglio scendeva una calma ti ricordi? era l'ora che mi piaceva di più e poi quando mi alzavo per mungere che era ancora buio loro due dormivano e io mi sentivo come se vegliassi su tutto quanto come se loro potessero dormire tranquille perché tanto c'ero io aggiunse è stupido eh ma è così che mi sentivo non ci vedo niente di stupido è stupido perché nessuno può occuparsi degli altri occuparsi di se stessi è già un'impresa un uomo è fatto per cavarsela sempre se è bravo ma se si crede troppo bravo finisce che va in rovina troppo bravo vuol dire mettere su famiglia? per qualcuno forse sì allora quel qualcuno non dovrebbe nemmeno fare figli no infatti disse Bruno lo guardai nella semioscurità cercando di capire che cosa aveva in testa una metà del volto giallastra alla luce della stufa l'altra del tutto buia ma a cosa dici? chiesi e non rispose guardavo il fuoco come se io non fossi più lì sentì salire un'insofferenza che mi spinse a uscire nella notte rimpiangendo la sigaretta che mi avrebbe tenuto compagnia restai là fuori a cercare le stelle che non c'erano e chiedermi che cosa ero venuto a fare fin quando mi ritrovai a battere i denti allora rientrai nella stanza calda buia e fumosa Bruno non si era mosso mi scaldai in piedi davanti alla stufa poi andai di sopra a chiudermi nel sacco a pelo la mattina dopo mi alzai per primo non avevo voglia di condividere quella stanzetta alla luce così saltai il caffè e andai a fare un giro scesi a vedere il lago e lo trovai velato di una brina notturna che il vento spazzava qua e là la sollevava in folate sbuffi e mulinelli che nascevano e si estinguevano in pochi istanti come spiriti irrequieti sotto la brina il ghiaccio era nero e sembrava di pietra uno sparo e cheggio nel vallone mentre io ero lì a guardare il suono rimbalzò da un versante all'altro ed era difficile capire da dove fosse partito se in basso nei boschi o in alto sulle creste ma a me venne l'istinto di cercare lassù scorrere la pietraia i dirupi per cogliere un movimento quando tornai alla barma vidi che due cacciatori erano venuti a parlare con Bruno avevano armi moderne mirini ad alta precisione a un certo punto uno dei due aprì lo zaino e depositò un sacco nero ai piedi di Bruno l'altro si accorsa di me e mi rivolse un cenno di saluto e allora collegai quel cenno a qualcos'altro di familiare e capì chi erano quei due i cugini da cui Bruno aveva comprato l'alpeggio non li vedevo da venticinque anni non sapevo che fossero in contatto con lui né come l'avessero scovato lassù ma chissà quante altre ce n'erano di cose di grana che io nemmeno immaginavo dal sacco nero dopo che se ne andarono spuntò un camoscio morto e già sventrato quando Bruno l'appese al ramo di un larice per le zampe posteriori vidi che era una femmina aveva il manto scuro dell'inverno una linea folta e nera che le correva al centro della schiena il collo sottile da cui pendeva il muso senza vita due corna piccole simili a uncini dallo squarcio della pancia si alzava ancora del vapore nel freddo del mattino Bruno andò in casa a prendere un coltello e lo affilò con cura prima di mettersi al lavoro poi fu preciso e metodico come se non avesse fatto altro nella vita incise la pelle intorno agli stinchi posteriori e proseguì lungo l'interno delle cosce giù fino all'inguine dove i due tagli si univano tornò su staccò un lembo di pelle dallo stinco posò il coltello e prese quel lembo con le mani lo tirò giù stratonando forte e mise a nudo prima una coscia e poi l'altra sotto la pelle c'era uno strato bianco e viscido il grasso che la camoscia aveva accumulato per l'inverno e sotto al grasso si intravedeva la rosa della carne Bruno riprese il coltello fece un'incisione sul petto e altre due lungo le zampe anteriori afferrò di nuovo il manto che ora penzolava a metà schiena e lo tirò giù con forza ne serviva parecchia di forza per strappare la pelle dalla carne ma lui ce ne mise anche di più ci mise quella rabbia che aveva addosso da quando ero lì con lui la pelle venne via tutta insieme proprio come un vestito poi afferrò un corno della camoscia con la mano sinistra armeggiò quel coltello tra le vertebre cervicali e sentì lo schiocco di una frattura la testa si staccò dal collo insieme al manto che Bruno stese sull'erba con il pelo rivolto verso il terreno e la pelle in su la camoscia sembrava molto più piccola adesso scuoiata e decapitata non sembrava nemmeno più una camoscia ma solo carne osse e cartilagini una di quelle carcasse appese nelle celle frigorifere dei supermercati Bruno infilò le mani nel torace e staccò per primi il cuore e i polmoni quindi voltò la carcassa sulla schiena si aiutò con le dita per trovare le venature dei muscoli lungo la spina dorsale li separò con una leggera incisione e poi la ripassò affondando il coltello la carne che allora si aprì era di un rosso scuro ne tagliò via due filetti lunghi scuri e insanguinati anche le sue braccia erano imbrattate di sangue io ne avevo abbastanza e non restai a guardare il resto della macellazione vidi solo alla fine lo scheletro della camoscia che penzolava dal ramo dell'albero ridotto ormai a poca cosa Bruno lo staccò da lì buttò quel mucchietto d'ossa sulla pelle stesa a terra ne fece un fagotto che portò nel bosco per seppellirlo o nasconderlo in qualche buco poche ore dopo gli dissi che me ne andavo a tavola avevo provato a proseguire la conversazione del giorno prima ma questa volta in modo più diretto gli avevo chiesto che cosa pensasse di fare con Anita come era rimasto d'accordo con Lara riguardo alla bambina e se aveva intenzione di andare a trovarle per Natale per Natale non credo rispose e allora quando non so magari in primavera ma sì o magari in estate senti ma che differenza fa è meglio che stia con sua madre no o vuoi che la porti qui a fare questa vita con me disse qui come l'aveva detto sempre come se ai piedi della sua valle ci fosse un confine invisibile un muro eretto solo per lui che gli impediva l'accesso al resto del mondo magari potresti scendere tu dissi magari sei tu che devi cambiare vita io disse Bruno ma Berio ti ricordi di chi sono io sì me lo ricordavo era il pastore di mucche il muratore il montanaro e soprattutto il figlio di suo padre proprio come lui sarebbe scomparso dalla vita di sua figlia e basta guardai il piatto che avevo davanti Bruno aveva cucinato una prelibatezza da cacciatori il cuore e i polmoni della camoscia cotti nella cipolla e nel vino ma l'avevo assaggiata appena non mangi mi chiese sconsolato è troppo forte per me risposi allontanai il piatto e aggiunsi oggi scendo ho un po' di cose di lavoro da sistemare magari torno a salutarti prima di partire sì certo disse Bruno senza guardarmi non ci credeva neanche lui prese il mio piatto aprì la porta e gettò fuori il cibo avanzato per i corvi e le volpi che non avevano uno stomaco debole come il mio in dicembre decisi di andare a trovare Lara risalì la sua valle un giorno che nevicava appena all'inizio della stagione dello sci non era un paesaggio poi molto diverso da quello di Grana e guidando pensai che tutte le montagne in qualche modo si somigliano eppure non c'era niente lì a ricordarmi di me o di qualcuno a cui avevo voluto bene ed era questo a fare la differenza il modo in cui un luogo custodiva la tua storia come riuscivi a rileggerla ogni volta che ci tornavi poteva esisterne solo una di montagna così nella vita e in confronto a quella tutte le altre non erano che cime minori perfino se si trattava dell'Himalaya c'era un piccolo comprensorio sciistico alla testa della valle due o tre impianti in tutto di quelli che con la crisi economica e i cambiamenti climatici sopravvivevano sempre più a fatica Lara lavorava lì in un ristorante in stile alpino alla partenza delle seggiovie una baita finta tanto quanto le piste di neve artificiale venne ad abbracciarmi con un grembiule da cameriera addosso e un sorriso che non riusciva a nascondere la stanchezza era giovane Lara aveva poco più di trent'anni ma già da un pezzo faceva la vita di una donna adulta e si vedeva c'erano pochi sciatori in giro così chiese permesso all'altra sua collega e venne a sedersi al tavolo con me parlando mi mostrò una fotografia di Anita una bambina bionda magrolina sorridente che abbracciava un cane nero più grande di lei mi raccontò che l'aveva iscritta al primo anno d'asilo era stato difficile convincerla ad adeguarsi a certe regole all'inizio era una specie di bambina selvaggia o litigava con qualcuno o si metteva a urlare o si sedeva in un angolo e non parlava più per tutto il giorno ora forse piano piano si stava civilizzando Lara rise disse ma la cosa che le piace di più è quando la porto in qualche cascina lì sì che si sente a casa si fa lecare le mani dai vitelli sai con quella lingua ruvida che hanno e non ha nessuna paura e anche con le capre con i cavalli sta bene con tutti gli animali io spero che non cambi questa cosa che non se la dimentichi mai si fermò per bere un sorso di tè vidi che aveva le dita arrossate intorno alla tazza e le unghie tutte mangiate guardò in giro nel ristorante e disse lavoravo qui anche a sedici anni sai tutto l'inverno sabati e domeniche mentre i miei amici andavano a sciare che odio non è un brutto posto dissi sì che lo è non pensavo di doverci tornare ma come si dice certe volte per andare avanti bisogna fare un passo indietro sempre sei l'umiltà di riconoscerlo ora stava parlando di Bruno quando entrammo nel discorso ci andò giù dura con lui due o tre anni prima mi disse quando era chiaro che l'azienda non reggeva avrebbero ancora potuto trovare delle soluzioni vendere le mucche affittare l'alpeggio cercarsi entrambi un lavoro in paese Bruno l'avrebbero assunto subito in cantiere o in caseificio o perfino alle piste da sci Lara poteva fare la commessa o la cameriera era pronta a questa scelta pronta a fare una vita normale finché la situazione non fosse migliorata Bruno invece non ne aveva voluto sapere non esistevano altre vite possibili nella sua testa e Lara a un certo punto aveva capito questo che sia lei sia Anita sia quello che aveva creduto di costruire insieme a lui lassù per Bruno erano molto meno importanti della sua montagna qualunque cosa significasse davvero nel momento in cui l'aveva capito per lei la storia era finita dal giorno dopo aveva cominciato a immaginarsi un futuro lontano da lì insieme alla bambina e senza di lui disse a volte l'amore si consuma piano piano e a volte muore di colpo non è così ma io non ne so niente dell'amore risposi ah già dimenticavo sono andato a trovarlo è su alla barma adesso se ne sta là non vuole scendere lo so disse Lara l'ultimo montanaro non so come aiutarlo lascia perdere non puoi aiutare uno che non vuole essere aiutato lascialo lì dov'è dove vuole stare disse così e poi guardò l'orologio scambiò un'occhiata con la collega al banco e si alzò per tornare al lavoro Lara la cameriera mi ricordai di quando sorvegliava le mucche sotto la pioggia fiera immobile con il suo ombrello nero salutami Anita dissi viene a trovarla prima che abbia vent'anni disse lei e poi mi abbracciò un po' più forte di prima c'era qualcosa in quell'abbraccio che non c'era stato nelle sue parole una commozione forse o una nostalgia me ne andai mentre i primi sciatori arrivavano per pranzo con i caschi e le tute e gli scarponi di plastica come alieni la neve arrivò improvvisa ed abbondante alla fine di dicembre il giorno di Natale nevicava perfino a Milano dopo pranzo guardavo fuori dalla finestra il viale della mia infanzia con poche macchine che passavano incerte qualcuna che sbandava al semaforo si piantava in mezzo all'incrocio c'erano bambini che facevano palle di neve bambini egiziani che forse non l'avevano mai vista prima di lì a quattro giorni in aereo mi avrebbero riportato a Kathmandu però non stavo pensando al Nepal adesso stavo pensando a Bruno mi sembrava di essere l'unico a sapere che lui era lassù mia madre venne vicino a me alla finestra aveva invitato a pranzo le sue amiche che a tavola un po' brille chiacchieravano aspettando il dolce c'era una bella allegria in casa c'era il presepe che lei faceva ogni anno con il muschio che d'estate raccoglieva a grana la tovaglia rossa e lo spumante e la compagnia io avevo invidiato una volta di più quel suo talento per l'amicizia non aveva nessuna intenzione di invecchiare sola e triste disse secondo me ci devi riprovare lo so risposi però non so se serve a qualcosa aprì la finestra e allungai una mano fuori aspettai che un fiocco di neve mi si posasse sul palmo era bagnato e pesante si scioglieva subito a contatto con la pelle ma chissà come era stato duemila metri più in su così il giorno dopo comprai le catene in autostrada e un paio di ciaspole nel primo negozio della valle e mi accodai alla fila di auto che salivano da Milano a Torino quasi tutte avevano gli sci sul portapacchi dopo inverni di magra gli sciatori accorrevano alla montagna come alla riapertura di un luna park non una svoltava al bivio per grana mi bastarono pochi tornanti per non vedere più nessuno poi quando la strada piegò oltre la rupe entrai di nuovo nel mio vecchio mondo c'era neve ammucchiata contro le stalle e i fienili di tronchi neve sui trattori sulle lamiere delle baracche sulle carriole e i munchi di letame neve che riempiva i ruderi e quasi li nascondeva in paese qualcuno aveva sparato un vialetto tra le case forse gli stessi due uomini che vedi su un tetto a buttar giù neve anche da lì alzarono la testa e non mi degnerono di un saluto lasciai la macchina poco oltre dove lo spazzaneve si era fermato o forse arreso aveva liberato lo spazio sufficiente per girarsi e se n'era tornato indietro infilai i guanti perché da un po' di tempo le dita mi si congelavano come niente fissai le ciaspole agli scarponi scavalcai il muro di neve dura che chiudeva la strada e poi fui oltre nella neve fresca impiegai più di quattro ore a fare un sentiero che in estate me ne richiedeva meno di due anche con le ciaspole affondavo fin quasi al ginocchio andavo a memoria intuendo la linea delle forme dei dossi e dei pendii da un passaggio più evidente tra gli alberi carichi senza nessuna traccia da seguire né i miei punti di riferimento sul terreno la neve aveva sommerso i rottami delle teleferiche i muretti sconnessi i mucchi di pietre cavate dai pascoli i ceppi dei larici secolari del torrente non restava che un avvallamento tra le due gobbe moribonde delle rive lo attraversai in un punto qualunque con un balzo nella neve fresca caddi in avanti sulle braccia senza farmi alcun male dall'altra parte la pendenza aumentava e ogni tre o quattro passi scivolavo in giù portandomi dietro una piccola slavina allora dovevo usare anche le mani puntare bene le ciaspole come fossero ramponi riprovare più deciso solo all'alpeggio di Bruno riuscì a capire davvero quanta neve c'era le finestre della stalla ne emergevano per metà ma il giro del vento aveva spazzato il lato rivolto a monte formando una galleria larga a un passo dove mi fermai a prendere fiato l'erba in quel breve tratto era secca e morta grigia come i muri di pietra non c'era luce nessun colore se non il bianco il grigio e il nero e continuava a nevicare quando arrivai su scoprì che il lago era scomparso come tutto il resto era solo una conca innevata una distesa morbida ai piedi della montagna così per la prima volta in tanti anni al posto di girargli intorno lo attraversai in direzione della barma mi faceva uno strano effetto camminare sopra tutta quell'acqua ero quasi a metà strada quando mi sentii chiamare oh senti Berio alzai gli occhi e vidi Bruno molto in alto sul pendio una piccola figura oltre la quota degli alberi agitò il braccio e appena ricambia il saluto si buttò giù e allora capì che aveva degli sci ai piedi scendeva di traverso con le gambe larghe senza nessuno stile proprio come faceva d'estate sui nevai teneva anche le braccia larghe e il busto in avanti in equilibrio precario ma davanti ai primi larici lo vidi buttarsi da una parte sterzare deciso evitare il bosco attraversando in alto fino al canalone principale del Grenon e fermarsi lì d'estate in quel canalone scorreva un torrentello ma adesso era un ampio scivolo colmo di neve che veniva giù dritto senza ostacoli fino al lago Bruno valutò la pendenza del tratto che gli restava poi puntò gli sci verso di me e ripartì deciso nel canalone prese subito una gran velocità non so che cosa gli sarebbe successo se fosse inciampato o caduto lì in mezzo ma restò in piedi piombò nella conca e poco a poco ralentò sulla neve pianeggiante arrivando fino a me per forza d'inerzia era sudato e sorridente hai visto? disse con il fiatone alzò uno sci che poteva avere trenta o quarant'anni sembrava un residuato bellico disse ero andato giù a prendermi una pala e li ho trovati in cantina da mio zio è una vita che li vedevo lì non so nemmeno di chi fossero ma hai imparato adesso da una settimana sai qual è la cosa più difficile non devi mai guardare un albero quando ci stai andando addosso perché se no lo c'entri di sicuro sei matto dissi Bruno rise e mi batte una mano sulla spalla aveva la barba lunga grigia e gli occhi accesi dall'euforia doveva aver perso peso perché nei lineamenti mi sembrava più spigoloso che mai oh buon natale disse e poi vieni vieni come se ci fossimo incontrati per caso mentre passavo di lì e dovessimo brindare a questo colpo di fortuna levo gli sci e se li caricò in spalla e mi fece strada su per il pendio lungo una traccia che doveva aver battuto nei suoi esperimenti da sciatore mi fece quasi compassione la nostra casetta nella roccia quando la vidi circondata da muri di neve alti quanto lei Bruno aveva spalato il tetto e scavato una trincea che le girava intorno e si allargava in una piazzola davanti alla porta d'ingresso a entrare in casa mi sembrò di calarmi in una tana la trovai calda accogliente più piena e disordinata del solito la finestra era cieca adesso non c'era altro da osservare che gli strati di bianco oltre il vetro e quasi non fece in tempo a spogliarmi e a sedermi a tavola che qualcosa precipitò sulle tavole del tetto producendo un rumore sordo come un tonfo distinto guardai in su per paura che mi crollasse in testa Bruno si mise a ridere disse li hai fissati bene i travi quella volta ora vediamo se il tetto tiene eh di tonfi come quello ne arrivavano di continuo e lui non ci faceva nemmeno caso quando mi ci abituai anch'io cominciai a notare i cambiamenti nella stanza Bruno aveva messo delle mensole in più piantato dei chiodi alle pareti e l'aveva riempita dei suoi libri i suoi vestiti i suoi attrezzi dandole un aspetto che con me non aveva mai avuto quello di una casa abitata versò due bicchieri di vino mi disse ti devo chiedere scusa mi dispiace che sia andata così l'altra volta sono contento che sei tornato non ci speravo più siamo ancora amici vero certo dissi io mentre cominciavo a rilassarmi riattizzò il fuoco nella stufa uscì con un paiolo e lo riportò pieno di neve che mise a sciogliere per fare la polenta mi chiese se mi andava un po' di carne per cena io gli dissi che dopo quella scarpinata avrei mangiato qualunque cosa allora tirò fuori dei pezzi di camoscio che aveva tenuto sotto sale li pulì con cura e li mise in pentola con burro e vino quando l'acqua nel paiolo bollì ci buttò qualche pugno di farina gialla tirò un altro litro di rosso per tenerci compagnia intanto che aspettavamo e dopo i primi due bicchieri mentre in casa si diffondeva l'odore forte del selvatico cominciai a sentirmi bene anch'io bruno disse ero arrabbiato ed ero ancora più arrabbiato perché non potevo prendermela con nessuno il fatto è che ho sbagliato io mica mi ha fregato qualcun altro ma che cosa mi ero messo in testa di fare l'imprenditore io non so niente di soldi dovevo sistemarmi una casetta come questa portare su quattro mucche e vivere così fin dall'inizio restai ad ascoltarlo capivo che ci aveva riflettuto a lungo e che aveva trovato le risposte che cercava disse uno deve fare quello che la vita gli ha insegnato a fare forse quando è molto giovane chissà può ancora scegliere di cambiare strada ma a un certo punto uno dovrebbe fermarsi e dire bene questo sono capace di farlo quest'altro no così mi sono chiesto e io io sono capace di vivere in montagna mi metti quassù da solo e io me la cavo non è poco non credi ma si vede che dovevo arrivare a 40 anni per scoprire che valeva qualcosa ero esausto e mi stavo accomodando nel calore del vino e anche se non l'avrei ammesso mi piaceva sentirlo parlare così c'era qualcosa di assoluto in Bruno che mi aveva sempre affascinato qualcosa di integro e puro che fin da quando eravamo ragazzini ammiravo in lui e lì per lì nella casetta che avevamo costruito ero quasi disposto a credere che avesse ragione che il modo giusto di vivere per lui fosse quello da solo nel pieno dell'inverno senza niente se non un po' di cibo le sue mani e i suoi pensieri anche se sarebbe stato disumano per chiunque altro fu la montagna a svegliarmi da questa fantasia più tardi mentre camminavamo sentì un rumore diverso dai soliti tonfi sul tetto cominciò come il rombo di un aereo o un temporale lontano ma diventò subito pesante fragoroso un boato da far tremare i bicchieri sul tavolo io e Bruno ci guardammo e in quel momento vidi che non era più pronto di me non meno terrorizzato al boato si sommò un altro suono quello di uno schianto questa volta di qualcosa che si scontra ed esplode e subito dopo il fragore calò di intensità allora cominciamo a capire che la valanga non ci avrebbe travolti era passata vicino ma altrove crollò ancora del materiale si sentì qualche scarica più debole poi il silenzio tornò rapidamente così come era stato infranto quando tutto fu fermo uscimmo a cercare di capirci qualcosa ma era notte ormai non c'era luna niente da vedere se non il buio tornati in casa Bruno non aveva più voglia di parlare e io nemmeno ce ne andammo a dormire ma un'ora dopo lo sentì che si alzava buttava legna nella stufa si versava da bere emergendo dal buco al mattino ci ritrovammo nella luce che segue le lunghe nevicate alle nostre spalle splendeva il sole e la montagna di fronte abbagliava la conca vedemmo subito che cos'era successo il canalone principale del Grenon quello da cui Bruno era sceso poche ore prima aveva scaricato una slavina che partiva tre o quattrocento metri più in alto nel punto più ripido del pendio la neve precipitando aveva scavato in profondità tanto da denudare la roccia che c'era sotto e trascinare con sé terra e pietrisco il canalone sembrava una ferita scura adesso piombata nella conca dopo cinquecento metri di caduta la slavina aveva ormai tanta potenza da sfondare il ghiaccio del lago era quello il secondo rumore che avevamo sentito ora alla base del canalone non c'era più una distesa soffice ma un manto di neve sporca e blocchi di ghiaccio simile a una seraccata i corvi d'alta montagna ci volteggiavano sopra e si posavano lì intorno non riuscivo a capire che cosa li attirasse era uno spettacolo terribile e affascinante e non ci fu bisogno di dirci nulla per decidere di andare giù a guardare da vicino le prede che i corvi si stavano spartendo erano cadaveri di pesci piccole trote d'argento colte nel pieno dell'etargo invernale scaraventate fuori dall'acqua buia e densa in cui dormivano e poi su un letto di neve chissà se avevano avuto il tempo di accorgersi di qualcosa doveva essere stata una bomba dalle lastre rivoltate rotte vidi che il ghiaccio del lago era spesso più di mezzo metro sotto l'acqua aveva già ricominciato a gelare ma questo era ancora uno strato sottile trasparente scuro simile al ghiaccio che avevo visto in autunno alcuni corvi litigavano per una trota lì vicino e in quel momento ci trovai un'ingordigia insopportabile così con due passi e un calcio li feci volare via sulla neve ormai non restava che una poltiglia rosa sepoltura celeste disse Bruno tu l'hai mai vista una cosa del genere chiesi no io no rispose sembrava ammirato sentì avvicinarsi il rumore di un elicottero in cielo non c'era una nuvola quella mattina al primo calore del sole da ogni sporgenza del grenon crollavano cornici di neve e da ogni colatoio si staccavano piccole slavine era come se la montagna cominciasse a liberarsi di quella lunga nevicata l'elicottero ci volò sopra alla testa non si accorse di noi e passò oltre e allora mi venne in mente che eravamo ad appena qualche chilometro dalle piste del monte rosa il 27 dicembre in una mattinata di sole e neve fresca era un giorno perfetto per lo sci forse da lassù stavano controllando il traffico mi immaginai dall'alto le file di automobili i parcheggi affollati gli impianti che giravano senza sosta e appena al di là di un crinale sul lato all'ombra due uomini fermi ai piedi di una slavina tra i pesci morti io me ne vado dissi per la seconda volta in poche settimane due volte ci avevo provato e due volte mi ero arreso sì mi pare giusto disse Bruno tu dovresti scendere con me ancora lo guardai gli era venuto in mente qualcosa che lo faceva sorridere disse da quanto tempo è che siamo amici mi sa che sono trent'anni l'anno prossimo risposi e non sono trent'anni che provi a farmi scendere da qui poi aggiunse non ti devi preoccupare per me questa montagna non mi ha mai fatto male mi ricordo poco altro di quella mattina ero scosso e troppo triste per pensare con lucidità mi ricordo che non vedevo l'ora di lasciarmi il lago e la slavina alle spalle ma che più tardi nel vallone cominciai a godermi la discesa ritrovai la mia traccia dal giorno prima e scoprì che con le ciaspole potevo andare giù a grandi balzi anche nei tratti più ripidi tanto che la neve fresca mi teneva anzi più ripido era il pendio più potevo buttarmi e lasciarmi andare mi fermai solo una volta attraversando il torrente perché avevo pensato una cosa e volevo vedere se era vera scesi tra le due sponde innevate e scavai nella neve con i guanti appena sotto trovai del ghiaccio un ghiaccio sottile trasparente che ruppi senza sforzo scoprì che quella crosta proteggeva una vena d'acqua non si vedeva né sentiva dal sentiero ma era ancora il mio torrente che scorreva sotto la neve l'inverno del 2014 si rivelò poi sulle alpi occidentali tra i più nevosi dell'ultimo mezzo secolo nelle stazioni scistiche in quota si misurarono tre metri di neve alla fine di dicembre sei alla fine di gennaio otto alla fine di febbraio dal Nepal leggendo questi dati non riuscivo a immaginare che aspetto avessero otto metri di neve in alta montagna erano abbastanza da seppellire i boschi molti più di quelli che servono per seppellire una casa un giorno di marzo Lara mi scrisse di telefonarle appena potevo mi disse poi a voce che Bruno non si trovava più i suoi cugini erano andati su a vedere se stava bene ma alla barma nessuno aveva più spalato da parecchio tempo la casetta era scomparsa sotto la neve e anche la parete di roccia si distingueva a fatica i cugini avevano chiamato aiuto e una squadra di soccorso portata dall'elicottero aveva scavato fino a raggiungere il tetto avevano fatto un buco nelle tavole e a quel punto si aspettavano come a volte succedeva con i vecchi montanari di trovare Bruno nel suo letto colto da un malore o morto congelato solo che in casa non c'era nessuno né lì intorno dopo le ultime nevicate si vedevano tracce di passaggio Lara mi chiese se avevo qualche idea dato che ero l'ultimo ad averlo visto e io dissi di guardare se in cantina si trovavano dei vecchi sci no non c'erano nemmeno quelli il soccorso alpino cominciò a battere la zona con i cani così per una settimana la chiamai ogni giorno per avere notizie ma c'era troppa neve sul Grenon e con la primavera si entrava nella stagione peggiore per le slavine in marzo le alpine furono martoriate e dopo tutti gli incidenti di quell'inverno in cui i morti sui versanti italiani arrivarono a 22 a nessuno interessò più molto di un montanaro disperso in un ballone sopra a casa sua né a me né a Lara a quel punto sembrò importante insistere perché continuassero a cercare Bruno l'avrebbero trovato col disgelo sarebbe spuntato in qualche canalone in piena estate e sarebbero stati i corvi a scoprirlo per primi secondo te era quello che voleva mi chiese Lara al telefono no non credo menti tu riuscivi a capirlo vero voi due vi capivate spero di sì perché a me certe volte sembrava di non averlo nemmeno conosciuto e allora mi chiesi chi l'aveva conosciuto oltre a me sulla terra e chi mi aveva conosciuto oltre a Bruno se era segreto a chiunque altro quello che noi avevamo condiviso che cosa ne restava adesso che uno dei due non c'era più quando quei giorni finirono la città mi divenne insopportabile e decisi di andare a fare un giro da solo in montagna è una stagione splendida la primavera in Himalaya il verde delle risaie domina i fianchi delle valli un po' più in alto fioriscono i boschi di rododendri ma non volevo tornare in qualche posto conosciuto né risalire il corso di nessun ricordo così scelsi una zona in cui non ero mai stato comprai una mappa e partii da tanto tempo non provavo la libertà e la gioia dell'esplorazione mi capitò di lasciare il sentiero risalire un pendio e raggiungere un crinale solo per la curiosità di scoprire che cosa c'era di là e di fermarmi senza averlo previsto in un villaggio che mi piaceva passando un pomeriggio intero tra le pozze di un torrente quello era il modo di andare in montagna mio e di Bruno pensai che sarebbe stato negli anni a venire il mio modo di conservare il nostro segreto mi veniva in mente invece che c'era una casa su alla barma con un buco nel tetto e questo non le dava molto da vivere ma sentivo anche che lei non serviva più a niente e ci pensavo come da lontano da mio padre avevo imparato molto tempo dopo avere smesso di seguirlo sui sentieri che in certe vite esistono montagne a cui non è possibile tornare che nelle vite come la mia e la sua non si può tornare alla montagna che sta al centro di tutte le altre e all'inizio della propria storia e che non resta che vagare per le otto montagne per chi come noi sulla prima e più alta ha perso un amico è stato un amico che è stato un amico